I ventitré giorni della città di Alba, di Beppe Fenoglio. Alba la presero in 2000, il 10 ottobre, e la persero in 200 il 2 novembre dell'anno 1944. Ai primi di ottobre, il presidio repubblicano, sentendosi mancare il fiato per la stritta che gli davano i partigiani delle colline, il presidio fece dire dai preti ai partigiani che sgomberava solo che i partigiani gli garantissero l'incolumità dell'esodo. I partigiani garantirono e la mattina del 10 ottobre il presidio sgomberò. I repubblicani passarono il fiume Tanaro con armi e bagaglie, guardando indietro se i partigiani subentranti non li seguivano un po' troppo d'appresso e qualcuno, senza parere, faceva corsettini avanti ai camerati, per modo che se da dietro si sparava un colpo a tradimento, non fosse subito la sua schiena ad incassarlo. Quando poi furono sull'altra sponda, e su questa di loro non rimase che polvere ricadente, allora si fermarono e voltarono tutti, e in direzione della libera città di Alba urlarono «Fenduti bastardi e traditori, ritorneremo e vi impiccheremo tutti!» Poi dalla città furono visti correre a cerchio verso un sol punto. Era la truppa che si accalcava a consolare i suoi ufficiali che piangevano e mucolavano, che si sentivano morire dalla vergogna. E quando gli parve che fossero consolati abbastanza, tornarono a rivolgersi alla città e a gridare «Venduti bastardi!» Eccetera. Ma stavolta un po' più sostanziosamente, perché non erano tutti improperi quelli che mandavano. C'erano anche mortagliate che riuscirono a dare in seguito un bel profitto ai conciattenti della città. I partigiani si cacciarono in porte e portoni. I burghesi ruzzolarono in cantina. Un paio di squadre corse agli argini da dove aprì un fuoco di mitraglia che ammazzò una vacca al pascolo sull'altra riva e fece aria ai repubblicani, che però marciarono via di miglior passo. Allora qualcuno si attaccò alla fune del campanone della cattedrale, altri alle corde delle campane delle altre otto chiese di alba, e sembrò che sulla città piovesse scheggioni di bronzo. La gente, ferma o che camminasse, teneva la testa rientrata nelle spalle, ne aveva la faccia degli ubriachi, o quella lì che si aspetta il solletico in qualche parte. Così la gente, pressata contro i muri di via maestra, vide passare i partigiani delle langhe. Non che non ne avesse visti mai, al tempo che in alba era di guarnigione, il secondo reggimento cacciatore degli appennini, e che questi tornavano dall'aver rastrellato una porzione di langa. Ce n'era sempre da vedere uno o due con le mani legate con il fil di ferro e il muso macellato, ma erano solo uno o due, mentre ora c'erano tutti, e nella loro miglior forma. Fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per cento carnevali. Fece un'impressione senza pari quel partigiano semplice che passò rivestito dell'uniforme di gala di colonnello d'artiglieria, con gli alamari neri e le bande gialle, e intorno alla vita il cinturone rosso-nero dei pompieri, col grosso gancio. Sfilarono i badogliani, con sulle spalle il fazzoletto azzurro, e i garibaldini col fazzoletto rosso, e tutti o quasi portavano ricamato sul fazzoletto il nome di battaglia. La gente li leggeva come si leggono i numeri sulla schiena dei corridori ciclisti, lesse nomi romantici e formidabili, che andavano da Rolando a Dinamite. Con gli uomini sfilarono le partigiane in abiti maschili, e qui qualcuno tra la gente cominciò a mormorare, «Ah, povera Italia!», perché queste ragazze avevano delle facce e un'andatura che i cittadini presero tutti a strizzare l'occhio. I comandanti, che su questo punto non si facevano illusioni, alla vigilia della calata avevano dato ordine che le partigiane restassero assolutamente sulle colline, ma quelle li avevano mandati a farsi fottere, se erano scaraventate in città. A proposito dei capi, i capi erano subito entrati in municipio per trattare con il commissario prefettizio, e poi, dietro invito dello stesso, si presentarono al balcone, lentamente, per dare tutto il tempo ad un uscere di stendere per loro un ricco drappo sulla ringiera. Ma videro a basso la piazza vuota, ed eserti i balconi di rimpetto, sicché la guardia del corpo corse in via maestra a spedire in piazza quanti incontrava. A spintoni ne arrivò un centinaio, e stettero con gli occhi in alto, ma con le braccia a ciondoloni. Allora le guardie del corpo serpeggiarono in quel gruppo, chiedendo tra i denti, oi, perché non battete le mani? Le batterono tutti, e interminalmente, nonché di cuore. Era stato un attimo di sbalordimento. Su quel balcone c'erano tanti capi che in proporzione la truppa doveva essere di 20.000 e non di 2.000 uomini, e poi, in prima fila, si vedeva un capo che, su dei calzoncini corti come quelli di una ballerina, portava un giumbone di pelliccia, che da lontano sembrava ermellino, e un altro capo che aveva una divisa completa di gomma nera, con delle cerniere lampeggianti. Intanto, in via maestra, non c'era più niente da vedere. Giunti in cima, i partigiani scantonarono. Una torma, che ad ogni incrocio si ingrossava, corse ai due postriboli della città, con dietro un codazzo di ragazzini che per fortuna si fermarono sulla porta ad attendere pazientemente che ne uscisse quel partigiano, la cui divisa o la cui arma li aveva maggiormente impressionati. In quelle due case, c'erano otto professioniste, che quel giorno e nei giorni successivi fecero cose da medaglie al valore. Anche le maestres furono bravissime, riuscirono a riscuotere la gran parte delle tariffe, il che è un miracolo con gente come i partigiani, abituata a farsi regalare tutto. Ma non erano tutti a puttane, naturalmente. Anzi, i più erano in giro a requisire macchine, gomme e benzina. Non senza litigare tra loro con l'armi Fordi sicura, scovarono e si presero una quantità di automobili con le quali iniziarono una emozionante scuola di guida nel viale di circonvallazione. Per le vie correvano partigiani arrotolando pneumatici come i bimbi di una volta, i cerchi nei giardini pubblici. A conseguenza di ciò, la benzina dava la febbre a tutti. In quel primo giorno e poi ancora scoperchiavano le vasche dei distributori e si coricavano con la pancia sull'asfalto e la testa dentro i tombini. Le vasche sono secche, secche da un anno, giuravano i padroni. Ma i partigiani li guardavano in cagnesco e dicevano di vedere i riflessi e che quindi la benzina c'era. I padroni cercavano di spiegare che i riflessi venivano da quelle due dita di benzina che restavano in ogni vasca vuota ma che la pompa non pescava più. Allora i partigiani riempivano di bestemmi le vasche e lasciavano i padroni a tapparle. Benzina le scovarono dai privati, pochissima però, la portavano via in fiaschi. Quel che trovarono in abbondanza fu etere, solvente ed acquaragia con i quali combinarono miscele che avvelenarono i motori. Altri giravano con in mano un elenco degli ufficiali effettivi e di completamento della città, bussavano alle loro porte vestiti da partigiani e ne uscivano poi bardati da tenenti, capitani e colonnelli. Invadevano subito gli studi dei fotografi e posavano in quelle divise con la faccia da combattimento che spaccava l'obiettivo. Intanto, nel civico collegio convitto che era stato adibito a comando piazza, i comandanti sedevano davanti a gravi problemi di difesa, di vettovagliamento e di amministrazione civile in genere. Avevano tutta l'area di non capircene niente. Qualche capo anzi lo confessò in apertura di consiglio. Segretamente si facevano l'un l'altro una certa pena perché non sapevano cosa e come deliberare. Comunque, deliberarono fino a notte. Quella prima notte di occupazione passò bianca per civili e partigiani. Non si può chiudere occhio in una città conquistata ad un nemico che non è stato battuto. E se il presidio Fuggiasco avesse cambiato idea o avesse incontrato sulla sua strada chi gliel'avesse fatta cambiare o cercasse di rientrare in alba quella notte stessa i borghesi nell'insonnia ricordavano che la sera nel primo buio quel pericolo era nell'aria e stranamente deformava le case e le vie appesantiva i rumori rendeva la città a momenti irriconoscibili a chi c'era nato e cresciuto e i partigiani che in collina riuscivano a dormire seduti al piede di castagno sulle brande della caserma non chiusero occhio pensavano e in quel pensare che a tratti dava nell'incubo alba gli pareva una grande trappola con le porte già abbassate era l'effetto del sentirsi chiusi per la prima volta le ronde che viaggiavano per la città nel fresco della notte erano molto più tranquille e spensierate non successe niente come niente successe negli otto giorni e nelle otto notti che seguirono accadde solo che i borghesi ebbero campo di accorgersi che i partigiani erano per lo più bravi ragazzi e che come tali avevano dei brutti difetti e che in materia di governo civile e i repubblicani erano più competenti di loro accadde ancora che uno di questi giorni all'ora di pranzo da radio Torino si sentirono i capi fascisti del Piemonte alternarsi a giurare che l'onta di alba sarebbe stata lavata rovesciata la barbara dominazione partigiana eccetera eccetera la mattina la mattina del 24 ottobre le scolte sul fiume che di buon'ora pescavano con le bombe a mano facendo una strage di pesci che ancora oggi i pescatori se ne lamentano videro sulla strada alba bra avanzarsi un nuvolone di polvere e da questo usciva un tuono di motori spiando negli intervalli tra un pioppetto e l'altro contarono una dozzina di grossi camion e un paio di piccoli carri armati su alba suonò la sirena municipale i civili si incantinarono e la guarnigione corse agli argini che già sul fiume si incrociavano i primi colpi la repubblica stabilì un fronte di non più di mezzo chilometro disteso tra un pescheto e un arenile e cercò di far forza nel punto migliore per il guado immediatamente a valle del ponte bovaradato dagli inglesi ma i partigiani concentrarono le litraglie e quando quelli si presentarono al pulito fecero una salva che li ricacciò tutti nei cespugli finché mandarono avanti uno di quei carri armati che si calò nel greto come un verme facendo fuoco da tutti i suoi buchi entrò nella prima acqua alta due palmi ma un mortaista partigiano azzecò un colpo da 81 che rovinò giusto sul carro che fece poi molte smorfie per tornarsene via e dopo un altro po' di bordello tanto per prorogare il pranzo ai partigiani la repubblica se ne andò ma non così in fretta che una squadra partigiana non guardasse il fiume e arrivasse al sedere della retroguardia e se non la catturarono tutta fu perché persero tempo a raccattare le armi che quelli gettavano la sirena suonò il finis e fu un bel pomeriggio con in piazza Umberto I il sole e la popolazione tutta ad aspettare i partigiani che tornavano dagli argini cantando la famosa canzone che dice o tu Germania che sei la più forte fatti avanti se c'è del coraggio se la repubblica ti lascia il passaggio noi partigiani fermarti sapremo si dichiarò il pomeriggio festivo la gente riempì i caffè e offriva le bibite ai partigiani fecero accenderle radio sulla stazione di Torino e siccome Radio Torino taceva gridavano parla adesso parla adesso e la presenza di tante signore e signorine patriote non era un motivo per cui non si dovesse dar forte dal fottuto a quelli di Radio Torino ma la sera e la notte molti pensarono che era forse meglio che i partigiani non l'avessero date tanto secche ai fascisti perché poteva darsi che si dovesse poi pagare il conto l'indomani da Radio Torino parlò al federale di tutto il Piemonte e sorvolando sul fatto d'armi del giorno precedente disse che Alba sarebbe stata riconquistata la vera Italia ad ogni costo e quanto prima tutti in Alba lo ascoltarono e partigiani per primi presero le sue parole interamente sul serio le pattuglie notturne sugli argini furono triplicate era un servizio che portava all'esaurimento nervoso col fiume che di notte fa migliaia di rumori tutti sospesti e sull'altra riva luci che si accendono e spengono una parte dei borghesi lasciò la città dicendo ai vicini che andavano a passare un po' di giorni in campagna e nessuno si ricordò di obiettare che non era più la stagione ma verso la fine di ottobre piove in montagna e piove in pianura il fiume Tanaro parve rizzarsi in piedi tanto crebbe la gente civile il dito di Dio veniva in massa sugli argini nelle tregue di quel diluvio e studiava il livello delle acque consentendo col capo pioveva notte e giorno le pattuglie notturne rientravano in caserma tossendo il fiume esagerò al punto che si smise di aver paura della repubblica per cominciare ad averne di lui poi spiove decisamente ma il fiume rimase di proporzioni più che incoraggianti sugli argini e tutte le ore conveniva parecchia gente quasi tutti ozziavano perché non c'era più la costanza di lavorare in quello stato di cose e tra quella gente c'erano vecchi soldati della guerra del 15 che esaminavano il Tanaro e facevano paragoni col piave lo stesso giorno che spiove il comando piazza per certe vie note a lui solo venne a sapere che i repubblicani avrebbero attaccato attaccato agli ordini dei generali e non più tardi del 3 novembre il comando provvide a far minare qualche tratto d'argine ad allargare dei prati tra il fiume e la città deviando un canale di irrigazione e a far preparare le liste dei civili da reclutare per la costruzione di barricate alle porte della città altro non gli riuscì di fare perché gli portò via un gran tempo il dare udienza ad un'infinità di gente che aveva cose importantissime da riferire erano per lo più commercianti ambulanti che battevano i mercati del loro trenaro presidiati dalla repubblica e sapevano adocchiare tutto guardando in terra così si seppe tra l'altro che sulla collina di Santa Vittoria avevano già postati i cannoni da 149 prolungati con i quali in caso di difesa ragionevolmente protratta avrebbero spianato la città di Alba e che a monte di Pollenzo c'era ormeggiata una flottiglia di barconi per il passaggio del fiume ma la notizia più interessante e sicura la portò al comando un prete della Curia si trattava che i capi fascisti chiedevano un colloquio in zona partigiana e si auguravano che per il bene della città di Alba i capi ribelli lo concedessero i capi partigiani non dissero di no e il giorno fissato si recarono con scorte al punto stabilito alquanto distante dalla città che era il nocciolo della questione i capi fascisti i più terribili nomi di quella repubblica arrivarono tagliando il fiume con un barcone e siccome quella traversata poteva rappresentare una prova generale i partigiani sull'altra sponda rimasero malissimo a vedere con che sicurezza quel barcone passò il fiume gonfio sbarcarono e mentre i più salirono a riva col fango alto agli stivali alcuni vecchi e grassi si impantanarono irrimediabilmente si videro allora i partigiani della scorta calarsi in quel fango caricarsi i gerarchi sulle spalle e riarrampecarsi poi a depositarli sul solido i gerarchi ringraziarono offrirono sigarette tedesche quindi si appartarono con i parigradi partigiano fu un lunghissimo parlamentare che fece crescere la barba alla scorta ma alla fine si restò come se niente fosse stato detto la mattina del primo novembre i comandanti di tutte le squadre della guarnigione furono convocati al comando piazza e poi congedati all'ora di mezzogiorno dopo aver sentito parlare di difesa a capisaldi di massa di manovre di collegamenti a vista e così via lungo la strada di ritorno ai singoli accantonamenti pagarono questa conservazione di prestigio con dei tremendi interrogativi di coscienza due sole cose erano ben chiare e cioè che la repubblica avrebbe attaccato all'alba dell'indomani e che avrebbe cercato di passare sul ponte sospeso di Pollenzo quel ponte che i partigiani non erano riusciti a rompere semplicemente perché era guardato dai tedeschi che alloggiavano fin dall'armistizio in quel castello reale il numero sufficiente per infischiarsi di tutti i partigiani delle langhe il dopo pranzo le squadre tempestando di domande i loro capi uscirono di città e infilarono la strada al bagallo tirando a mano dei carretti sui quali avevano caricato le mitragliatrici e le casse delle munizioni si fermarono dove i capi dissero di fermarsi presero visione del tratto di fronte loro assegnato e lasciateci le sentinelle andarono a trovarsi tutti insieme sull'aia della cascina di San Casciano che era in metà giusta delle posizioni su quell'aia grande come una piazza si trovarono insieme i duecento uomini sui quali pesò quasi interamente la battaglia di Alba fecero un coro di O tu Germania che sei la più forte ce li erano in tutti i modi e senza pietà sul fatto che l'indomani era il 2 di novembre giorno dei morti ed ebbero anche lo spettacolo due polacchi disertori della Wehrmacht e partigiani badogliani o beriachi marci fecero segno a tutti di stare a vedere andarono a collocare due bottiglie vuote sul moretto in fondo all'aia sbandando tornarono all'altro termine puntarono i loro fucili tedeschi e le due bottiglie laggiù volarono in polvere là cenarono a pane e salame e poi si riposarono per le finestre videro farsi notte di colpo e sentirono che faceva un freddo crudo fuori rumoreggiava il fiume dentro si udiva solo respirare il massimo rumore era quello dei zolfini sfregati per le sigarette il fatto è che tra loro non c'era un adulto quelli che avevano fatto il soldato nel regio esercito erano forse cinque ogni cento nel buio di quella vigilia di battaglia molti di quei minorenni che per non aver mai voluto tirare alle galline non avevano mai sparato il fucile si domandavano ora se sparare poteva essere complicato e se il colpo faceva male alle orecchie poi pensavano a quelli che aspettavano per l'indomani sul presto ammettevano che quelli di sparare sapevano e allora si testavano le palle o anche solo la camicia poco prima di mezzanotte arrivò un portaordini del comando piazza ad avvisare che il posto di medicazione era dietro il cimitero e che il servizio sanitario lo prestavano volontariamente gli studenti albesi in medicina e farmacia la mattina del 2 novembre ci fu per sveglia un boato verso le 4 e mezza i partigiani a dormire sui pienini trascurarono le scale a pioli e saltarono giù da 2 e più metri solo per una formalità i comandanti mandarono a vedere se c'era rimasto qualcuno addormentato partì una pattuglia dei più vecchi a vedere cos'era successo tornò che erano già tutti in trincea e riferì che un uomo un borghese era passato per il campo minato ed era subito saltato in aria ed era là morto tutti alla notizia sorrisero e qualcuno disse che era pronto a scommettere che la repubblica non veniva c'era chi gli avrebbe scommesso contro ma non ebbe il tempo perché mentre i campanili di Alba battevano le 5 sul fiume scoppiò un rumore da non sapere se erano gli uomini a farlo o la terra o il dio il rumore che comincia le battaglie e dalla collina dei Biancardi la mitragliera partigiana prese a far pom pom si vedevano le sue pallottole traccianti sprofondarsi nei pioppeti del fiume e niente più i repubblicani avevano passato il fiume sul ponte sospeso di Pollenzo con tutta fanteria e vicino al punto dove presero terra una pattuglia di 4 partigiani stanca di far la guardia su e giù si era ritirata in un casotto di pesca e stavano col lume acceso a far dei giri a poker arrivarono loro non corsero spiegazioni li ammazzarono con le carte in mano su alba suonò la sirena municipale e i partigiani in trincea si irritarono per quel fracasso superfluo e gridavano verso il comando piazza quasi dall'aggiù potessero sentirli state tranquilli che abbiamo sentito state tranquilli che siamo in allarme si sentivano assai meglio che la notte e tutti attenti e seri osservavano la traiettoria della loro mitraglieria le nuvolette delle mortagliate dei fascisti che mettevano un colpo sopra l'altro come tanti scalini per arrivare in cima alla collina dei Biancardi e facevano congetture molto sensate uno spettacolo che assorbiva tutta intera la loro attenzione e fu un peccato che una staffetta venisse a disturbarli con il trasferimento spiegando che non era più necessario vegliare sugli argini e che tutti dovevano adesso portarsi sulla linea di San Casciano perpendicolare alla strada Gallo-Alba che era evidentemente la direttrice di attacco del nemico nel momento che si mossero prese a piovere una pioggia pesante che marci la terra al punto che quando arrivarono dopo non più di dieci minuti di cammino e posarono le mitraglie la terra cadeva sotto i tre piedi quella era la linea principale e correva giusto a filo del muro di cinta della cascina di San Casciano dal finestrone dal finestrone della torretta della cascina si sporse un comandante con sul petto i binoccoli e gridò i nuovi arrivati ricordatevi che non si spara se non ve lo dico io e non fumate razza di incoscienti urlò a certuni che pur ascoltandolo attentamente si erano messi a fumare con le mani a cupola sulle sigarette perché la pioggia non le marcisse tutti tenevano d'occhio la traiettoria della mitragliera di Villa Biancardi convinti che stava facendo un bel lavoro e che a quest'ora i fascisti non erano già più vergini di morti di quando in quando studiavano il terreno davanti a loro e smuovevano di continuo i piedi per non trovarseli al momento buono imprigionati nel fango che cresceva come se avesse il lievito dentro di colpo la mitragliera obliquò paurosamente il tiro cercava di battere i piedi della sua collina e nella trincea di San Casciano un partigiano che sembrava competente disse significa che le sono spuntati sotto senza farsi notare la mitragliera lasciò partire un rafficone lunghissimo franetico poi tacque dopo due minuti erano tutti persuasi che a Villa Biancardi era veramente finita nemmeno le mortagliate scoppiavano più sul fianco della collina mancava poco alle sette e il partigiano competente disse ma adesso entra in batteria la mitragliera di Castelgerlone tutti guardarono a Castelgerlone una grande villa rustica sul versante a sinistra si vedeva la tozza canna della mitragliera sporgere di un palmo dall'ogiva della torre a San Casciano quel comandante con i binocoli si affacciò al finestrone e disse tocca a noi e nient'altro ma aspettarono un pezzo i repubblicani nemmeno si sentivano e i partigiani siccome non li sentivano speravano di vederli ma per quanto sforzassero gli occhi tra quella pioggia e il verde non li vedevano tanto che dopo un po' qualcuno a forza di non vederseli davanti pensò di voltarsi a guardare se per caso non li erano già dietro ma che pareva che avessero abbandonato la campagna per mettersi al riparo da quella grande acqua perché pioveva come in principio e le armi si arruginivano a vista d'occhio per i partigiani che cominciavano a guardarsi in faccia fu un sollievo sentire a un certo punto la mitragliera di Castelgerlone aprire il fuoco rafficava piuttosto spesso e i suoi traccianti cadevano piuttosto obliqui nella pianura dall'angolo di caduta calcarono che la Repubblica non era più distante di 300 metri allora si misero bene a posto loro e le armi obbligando le palpebre a non battere guardavano fissi avanti a sé e con le orecchie tese fino al dolore aspettavano che dal finestrone quello dei binoccoli dicesse qualcosa seguitò a non dire niente finché un minorenne perse la testa e sparò a 5 o 6 altri limitarlo mirando nel verde all'altezza dei ginocchi di nessuno la risposta ci fu repentina e diretta come il rivoltarsi di un cane che pare che dorma e gli si pesta la coda una gran salva complessa e ordinata che passò alta un metro sulla trincea di San Casciano e si schiacciò contro il muro del cimitero stavolta c'erano proprio di fronte e si tirarono su dalla molle terra e spararono con tutte le armi avendo i mirini accecati dal fango ora finalmente si vedevano verdi e lustri come era Marley ognuno con il suo bravo il metto e il primo doveva essere un ufficiale stava tutto dritto e si passava una mano sul viso per toglierne la pioggia un attimo dopo era ancora dritto ma le sue due mani non gli bastavano più per tamponarsi il sangue che gli usciva da parecchi punti della divisa c'erano di qua mitragliatrici americane e di là tedesche e insieme fecero il più grande e lungo rumore che la città di Alba avesse sino allora sentito per circa quattro ore per il tempo cioè che i partigiani tennero San Casciano fischiò nei due sensi un vento di pallottole che scarnificò tutti gli alberi stracciò tutte le siepi spianò ogni canneto e fece naturalmente dei morti ma non tanti una cifra che non rende neanche lontanamente l'idea della battaglia così dalle sette fino alle undici passate quei dilettanti della trincea inchiodarono i primi fucilieri della Repubblica uomini che sbalzavano avanti e poi si accucciavano e viceversa a trilli di fischietto assaltatori ammaestrati un po' dopo le undici in un riposo che sembrava se fossero presi i fascisti quelli giù a San Casciano videro affacciarsi tra gli alberi di Castelcherlone un partigiano e verso di loro faceva con le braccia segnali disperati come vide che da basso non lo capivano si scaraventò giù per il pendio mentre forse per fermare proprio lui i fascisti riprendevano a sparare quel partigiano arrivò scivolone nel fango e disse che la Repubblica visto che al piano non passava si era trasportata in collina in faccia a Castelcherlone preso il quale avrebbe aggirato dall'alto San Casciano portarsi tutti in collina e spicciarsi ad un'ata a Cascina Miroglio perché Castelcherlone l'abbandonavano a momenti lui tornò su i partigiani saltarono fuori dalla trincea sgambavano già nel fango verso la collina senza aspettarsi l'un l'altro a certuni scivolavano dalle spalle le cassette delle munizioni e non si fermavano a raccoglierle quelli che seguivano facevano finta di non vederle il pendio di Cascina Miroglio ebbe nerto i piedi sulla terra scivolavano come sulla cera unico appiglio l'erba fradicia qualcuno dei primi scivolò perse in un attimo dieci metri che gli erano costati dieci minuti finiva contro le gambe dei seguenti oppure questi per scansarlo si squilibravano così ricadevano a grappoli improperandosi qualcuno provatosi tre o quattro volte a salire sempre riscivolato scappò per il piano verso la città e fu perso per la difesa arrivarono sull'aia della Cascina vestiti e calzati di fango a Cascina Miroglio c'era il comandante la piazza un telefono da campo che funzionava e i mezzadri ne debititi dalla paura che porgevano macchinalmente secchi d'acqua da bere marciando piegati in due arrivarono per la vigna gli uomini della mitragliera di Castelgerlone ma la grande arma non veniva con loro l'avevano lasciata perché le si era rotto un pezzo essenziale gli altri a quella vista si sentirono stringere il cuore come se girando gli occhi attorno si fossero visti in cento in meno era mezzogiorno chi si affacciò con le armi e le finestre chi si postò dietro gli alberi altri tra i filari spogli della vigna e sperarono alla repubblica quando sbucò dal verde di Castelgerlone piombò una mortaiata giusto sul tetto e il comignolo si polverizzò sull'aia un partigiano venne via dalla finestra per andare a raccogliere sul pavimento la mezzadra che c'era cascata svenuta difesero cascina miroglio e dietro di essa la città di alba per altre due ore sotto quel fuoco e quella pioggia ogni quarto d'ora l'aiutante si staccava dal telefono e si sporgeva a gridare tenete duro che vi arrivano i rinforzi ma fino alla fine arrivarono solo per telefono in quel medesimo giorno ad Ogliani che è un grasso paese a venti chilometri da alba c'era la fiera autunnale e in piazza ci sarà stato un migliaio di partigiani che sparavano nei tirassegni taroccavano le ragazze bevevano le bibite riuscivano con molta facilità a non sentire il fragore della battaglia di alba che così fu perduta alle ore due pomeridiane del giorno 2 novembre 1944 fu il comandante la piazza a dare il segno della ritirata sparò un razzo rosso che descrisse un'allegra curva in quel cielo di ghisa parve che anche i fascisti fossero al corrente di quel segnale perché smisero di colpo il fuoco concentrato e lasciavano partire solo più schioppettate sperse tutti avevano già spallato armi e cassette ma non si decidevano vagabondavano per l'aia al bello scoperto pensavano che alba era perduta ma che faceva una gran differenza perderla alle tre o alle quattro o anche più tardi invece che alle due sicché il comandante fu costretto a urlare ritirarsi ritirarsi o ci circondano tutti e arrivava di corsa alle spalle dei più lenti come fanno le maestre con i bambini dell'elementari scesero la collina molti piangendo e molti bestemmiando scuotendo la testa guardavano la città che laggiù tremava come una creatura qualcuno senza fermarsi raccattò una manata di pango e se la spalmò furtivamente sulla faccia come se non fossero già abbastanza i segni che era stata dura è che la via della ritirata passava per dove la città dà nella campagna lì c'erano ancora a molte case e si sperava che ci fosse gente donne e ragazze a vederli a vederli così ma quando vi sbucarono nel viale del santuario quant'era lungo non c'era anima viva e questo fu uno dei colpi più duri di quella terribile giornata soltanto da una portina uscì una signora di più di 50 anni al vederli scoppiò a piangere e diceva bravo a tutti man mano che la sorpassavano finché da dietro un'imposta il marito lo richiamò con una voce furiosa tagliarono il viale del santuario e andando contro l'acqua che ruscellava giù per la stradina attaccarono a salire la collina di Belmondo che è il primo gradino alle langhe a mezza costa si fermarono e voltarono a guardar giù la città di Alba il campanile della cattedrale segnava le 2 e 10 gli arrivò fin lassù un rumore arrogante guardando a un tratto scoperto di via piave videro passarci due carri armati e poi altri due ciascuno con fuori dell'orlo una testa con casco oh guarda così avevano i carli e non li hanno nemmeno adoperati i partigiani ripresero a salire era spiovuto i fascisti entrarono e andarono personalmente a suonarsi le campane quando il meccanismo del campanile di mango cominciò a diruginirsi per battere le 5 di mattina bimbo dal bricco dove era stato un paio d'ore a far la guardia corse giù alla cascina dove gli altri dormivano il cielo principiava a smacchiarsi dal nero ma laggiù la cascina appariva ancora come un fantasma rettangolare entrò nella stalla facendo piano lasciò la porta semi aperta perché ne entrasse un po' di chiaro ad aiutarlo a cercare e arrivò da negus negus aveva il posto migliore per dormire dormiva nel cassone del foraggio e disponeva perfino di una coperta anche se era una vecchia gualdrappa da cavallo e puzzava d'orina e di grasso per ruote bimbo stese una mano per scuoterlo ma negus non dormiva già più e lo prevenne dicendogli stai fermo sono già sveglio sveglia gli altri tre bimbo andò scavalcando corpi a cercare colonnello treno e biagino e li svegliò uno dopo l'altro poi stette a guardarli mentre si mettevano faticosamente in piedi si aggiustavano la camicia dentro i calzoni e guardavano dispiego gli altri che restavano a dormire mentre poi si armavano bimbo tornò da negus e come un domestico si mise a togliergli i fili di paglia di dosso saltarono dalla lettiera sull'ammattonato uscirono sull'aia e infilarono un sentiero col passo di chi comincia ad andare lontano colonnello sbirciò il cielo e disse sembra che farà una bella giornata e questo è già qualcosa dal sentiero sboccarono nello stradone di neve a largo bimbo si affiancò a negus e dopo un po' gli disse voglio vedere la faccia che farà morgan quando torniamo se tutto ci va bene mi piacerebbe vederlo una volta tanto che non sa più cosa dire questa è la volta buona che gli tappiamo la bocca negus senza guardarlo gli disse pianta la bimbo di avercela con morgan se gli sto sotto io puoi starli sotto anche tu farai bene a non far più lo spiritoso con morgan lui ha 22 anni ed è un uomo e tu sei un marmocchio di 15 anche se come partigiano sei abbastanza anziano bimbo scrollò le spalle e disse io ci patisco a vedere uno come morgan comandare a dei tipi come noi non è che morgan sia fesso siamo noi che siamo troppo in gamba per lui io gli sto sotto perché vedo te che gli stai sotto ma non so se ci resisto ancora ma una maniera c'è per sopportare morgan ed è che tu negus ti prenda ogni tanto noi quattro e ci porti in giro a fare delle azioni per il nostro conto negus non rispose si voltò a vedere a che punto erano treno colonnello e biagino venivano staccati tenendo tutta la strada come la gioventù di campagna quando gira nei giorni di festa scesero un altro po verso neive bimbo soguardava negus e gli vedeva una faccia scura e come nauseata penso a che discorso farli per interessarlo gli sembrò di aver trovato e così gli disse lo sai negus che ieri ho visto carmencita negus calciò forte un ciottolo sulla strada e disse bella roba mi conti e chi non l'ha vista ma io l'ho vista alla finestra che si pettinava addosso aveva solo una camiciola rosa e teneva le braccia alte ma come fa ad avere i peli neri sotto le ascelle se lei è bionda tu hai avuto del gusto a posare gli occhi su carmencita ma lei è venuta per trovare morgan negus lo fissò per un attimo come se non sapesse che fare o che dire poi gli tirò uno schiaffo sul collo e gli gridò crepa a farmi dei discorsi così da dietro colonnello aveva visto e urlò avanti a negus dagli negus a quel mardino che si crede chissà cosa dagli giù ma bimbo era già scattato in avanti e continuava a correre e a prendere viaggio negus invece rallentò e si lasciò raggiungere da quegli altri tre a metà tra mango e neve la strada fa una serie di tornanti molto lunghi e noiosi a percorrersi ma l'un tornante e l'altro sono congiunti da scorciatoie dritte e rapide come scale bimbo le sfruttava tutte al fondo si fermava a guardare su gli altri i quattro le sfruttavano anche loro invece tenevano la strada e lui batteva i piedi per l'impazienza si sedette su un paracarro al principio dell'ultima scorciatoia e aspettò che arrivassero fin lì quando finalmente arrivarono si alzò e fece percalarsi nella scorciatoia ma colonnello lo prese per un braccio e riportandolo sulla strada larga gli disse senti tu zanzarino noi andiamo forse a lasciarci la pelle ed è da stupidi prendere delle scorciatoie per questo cammina con noi di che tipo è tua sorella bimbo si scrollò di dosso la mano di colonnello e rispose per lei garantisco io state sicuri che farà la sua parte mia sorella è partigiana tanto quanto noi ce l'avrà poi il coraggio di farci il segnale è lei che ci ha dato l'idea no e se ce l'ha data e si è presa una parte da fare vuol dire che il coraggio ce l'ha e poi ci ho pensato non è mica difficile per lei e neanche tanto pericoloso mettiamo che dopo il fatto la repubblica annusi qualcosa e vada a interrogare mia sorella lei risponde cosa ne posso io e sono da serva in una villa che è vicina a quell'osteria e se la repubblica dice che l'hanno vista alla finestra fare dei movimenti lei risponde che era alla finestra a battere i materassi o a stendere della biancheria cosa credete che possano dirle il paese di Neive dormiva ancora quando vi entrarono però l'albergo in faccia alla stazione aveva una luce accesa a pian terreno entrarono lì si fecero dare pane e lardo e tornarono fuori a mangiare sotto il portico masticavano l'aria del mattino con il cibo e guardavano un po' il cielo e un po' le finestre chiuse dalle case mangiando bimbo disse mia sorella ha anche notato che c'è un maresciallo della repubblica che è sempre in giro sulle prime colline di alba questo maresciallo è il palino della caccia e gira sempre con un mitra e una doppietta non è più tanto giovane ma mia sorella dice che ha la faccia decisa non fa niente noi gli facciamo un tramello gli pigliamo il mitra e ce lo teniamo e il fucile da caccia lo vendiamo a qualcuno e ci spartiamo i soldi treno ingollò un boccone e disse si può fare ma tua sorella ci deve tenere bene informati su questo maresciallo negus capiva che adesso quei quattro cominciavano a far progetti sul maresciallo e finivano con il perdere la nozione di quello che dovevano fare in quel mattino così disse il maresciallo sarà per un'altra volta salvo che non ci venga tra i piedi proprio stamattina adesso si riparte colonnello gli mostrò quel che gli rettava di pane e lardo ma negus gli disse mangi per strada poi no volevo prendermi ancora due dita di grappa ma negus non permise e si incamminò all'uscita del paese si imbatterono nella sentinella del presidio di Neive era della loro stessa divisione badogliana e domandò dove andate voi cinque di mango rispose colonnello andiamo a farci fottere dalla repubblica di Alba dov'è che bisogna cominciare ad aprir bene gli occhi da Treiso in avanti fino a Treiso e ancora a casa nostra quando si furono allontanati di un venti passi bimbo si voltò e rinculando gridò alla sentinella ehi partigiano delle balle guarda noi e impara come si fa il vero partigiano a far la guardia a Neive ti credi di essere un partigiano fai un po' come noi brutto vigliacco che la repubblica andiamo a trovarla a casa sua da questa parte da questa parte si va a casa della repubblica e indicava con gesti pazzi la strada verso Treiso ed Alba colonnello aspettò che la sentinella rispondesse ma quello taceva pur avendo la bocca aperta come se non si capacitasse di tutti gli improperi che gli aveva mandato il più piccolo di quei cinque allora colonnello sorrise e disse agli altri aditando bimbo questo qui è davvero un merdoncino intorno a Treiso e dentro non trovarono nemmeno un borghese partigiani non se ne aspettavano perché dalla caduta di Alba il paese mancava di guarnigione si fermarono nel mezzo della piazzetta della chiesa e stettero a gambe piantate larghe a guardare ciascuno il suo punto cardinale colonnello che man mano che si avvicinava ad Alba si sentiva crescere dentro un certo mal di pancia corrugò la fronte e lentamente si mandò giù dalla spalla il moschetto da quella piazzetta si domina un po' di langa a sinistra e a destra le colline dell'ultratamaro dopo le quali c'è la pianura in fondo a cui sta la grande città di Torino i vapori del mattino si alzavano ad agio e le colline apparivano come se si togliesse loro un vestito da sotto in su disse Negus come tra sé questo mondo è fatto per viverci in pace colonnello fece in fretta senti Negus se c'è qualcosa in mezzo non è detto che questa azione sia obbligatorio farla proprio stamattina Negus si riscosse io non ho detto questo ci siamo fermati solo per prendere un po' di fiato e adesso che l'abbiamo preso tiriamo avanti il resto del paese e la campagna appena fuori erano deserti e muti come il loro camposanto non c'erano neanche bestie neanche galline in giro finalmente videro un vecchio sull'aia di una cascina che sovrastava la strada anche il vecchio li vide e parlò per primo andate verso Alba o Patrioti e quando Negus gli ebbe fatto segno di sì aggiunse allora quando siete al piano lasciate la strada e mettetevi per la campagna si cammina meno comodi ma siete anche meno al pericolo che pericolo volete dire gli domandò Negus da giù il pericolo della cavalleria a quest'ora la repubblica di Alba manda sempre fuori la sua cavalleria un giorno da una parte e un giorno dall'altra stamattina potrebbe mandarla nei nostri posti mentre si rincamminavano erano tutti e cinque concentrati Bimbo disse ma come fa la repubblica ad avere la cavalleria e Treno la cavalleria non si costuma più Negus disse niente ma allungò il passo ed entrati nella valletta di San Rocco lasciarono la strada e si misero per le vigne a salire la collina che è la penultima per arrivare ad Alba tenevano gli occhi bassi sul sentiero ma le loro orecchie fremevano dopo un po' che ascoltavano e a nessun patto sentivano rumore di cavalli Treno rialzò la testa e disse quel vecchio ci ha contato una balla se al ritorno lo ritroviamo gli dico che non è salute con tarballe ai partigiani Alba è una città molto antica ma a chi la guarda dalla collina i suoi tetti sono rossi come nuovi erano finalmente arrivati a vederla ed ora la contemplavano stando per ordine di Negus al riparo dei tronchi degli alberi tutti e cinque erano stati con Morgan alla occupazione e alla difesa della città e ora si ricordavano di quel tempo ognuno per proprio conto poi Biagino disse pensare che solo due settimane fa c'eravamo noi dentro e loro erano di là e mostrava la stretta pianura a sinistra del fiume ed io avrei giurato che non passavano disse colonnello a me non mi importa proprio niente che abbiamo perso Alba io ci stavo male in Alba avevo sempre paura di far la fine del topo ma bimbo era un altro vivere non fosse altro che camminare sui marciapiedi era tutt'altra comodità colonnello rispose a bimbo per me l'unica comodità che valeva era quella del casino tolta quella comodità lì io mi sento meglio sulla punta di un bricco che dentro qualunque cittadella scesero metà collina a sbalzi e facendosi segni invece che parlare di novembre la campagna nasconde poco o niente e quella collina sta di rimpetto alla città ripararono in un canneto la schiena curva e le mani posate sui ginocchi Negus disse a bimbo su bimbo guarda un po' se sei buono ad orientarti dov'è la villa che c'è tua sorella da serva la vedete quella villa con i muri color celeste e il tetto puntuto è quella villa lì e l'osteria è subito sotto lasciarono il canneto e mentre si muovevano colonnello diceva va bene va bene non facciamo solo confusione studiamo bene il terreno aveva voglia di andare di corpo ma non pensava a fermarsi per paura di rimanere indietro tutto solo fecero a sbalzi un tratto allo scoperto poi trovarono una stradina sepolta tra due siepi di gaggia l'infilarono e la seguirono finché si videro dinanzi un gran canneto bimbo disse senza esitare è proprio in quelle canne che dobbiamo andarci a mettere di là dentro si vede sia la villa che l'osteria prima lui e poi gli altri andarono al canneto correndo piegati in due e l'arma in posizione su un poggio sopra la stradina c'era una casa e sul ballatoio una donna che rovesciava nell'aia l'acqua di un catino li vide per caso ma subito li riconobbe per quelli che erano e fece una faccia di disgrazia Biagino si fermò a scrutarla poi si portò un dito sulla bocca e così stette finché lei non fece segno con la testa che aveva capito e che avrebbe ubbidito poi Biagino entrò anche lui nel canneto in tempo per sentire le spiegazioni di bibbo a trenta passi di fronte c'era un cortile con in fondo l'uscio che dava nel retro dell'osteria e subito a destra la facciata della villa con una finestra stavano quanto mai scomodi inginocchiati sulla terra umida le canne erano fitte e dure ad ogni loro mossa davano un suono come il gracchiare dei corvi in volo colonnello disse stiamo bene attenti a quello che succede perché in mezzo a queste canne siamo come pesci in un tramaglio quel bisogno gli premeva dentro lui muoveva di continuo il sedere in tondo e ogni tanto faceva languide smorfie Negus disse tu bimbo tieni d'occhio alla finestra tu Biagino guarda sempre dalla parte di alba e noi altri guardiamo l'osteria così facevano e dopo un po' Biagino disse piano che guardassero tutti dalla sua parte puntò un dito verso tre uomini in armi che incedevano giù nel viale di circonvallazione il viale era lontano e basso e c'era in aria quel brusio che di giorno sale dalle città ma loro cinque sentivano distintamente la cadenza di quei tre sull'asfalto Biagino inghiottì saliva e disse è una ronda io che ho il moschetto di qua potrei spararli spianava il moschetto tra le canne non sparo mica disse guardo solo se si mirano bene spostava impercettibilmente il moschetto per accompagnare con la mira quei tre che procedevano laggiù e da così distante sembravano marionette gli altri quattro sapevano bene che era soltanto una prova e che alla fine Biagino non sparava eppure col fiato sospeso guardavano come affascinati un po' l'occhio di Biagino sgranato dietro la tacca di mira un po' la punta vibrante del suo moschetto e un po' quella ronda laggiù poi Negus calò una mano sul moschetto di Biagino e disse basta tanto non gli coglieresti non hai mai avuto il polso fermo al campanile del duomo batterono le nove e mezza a quell'ora un sergente della repubblica uscì dal seminario minore che era stato trasformato in caserma e in cinque minuti arrivò al posto di blocco di porta cerasca c'era una garitta appoggiata al tronco del primo platano del viale una mitragliatrice posata sull'asfalto e puntata alla prima curva dello stradone della collina e di servizio quattro o cinque soldati poco più che ragazzi che quando arrivò il sergente si diedero un contegno tal quale fosse arrivato il capitano il sergente accese una sigaretta e dirigendo il fumo della prima boccata verso la collina di Rimpetto domandò che movimento c'è sulle colline rispose un soldato non c'è nessun movimento sergente ma noi stiamo sempre allerta lo stesso un altro cominciò state tranquillo sergente ma il sergente si tolse la sigaretta di bocca e lo fissò a lungo finché poté credere che quella recluta avesse capito che se c'era uno che stava sempre tranquillo quello era proprio lui poi andò lentamente alla mitragliatrice ci si curvò sopra ed esaminò lungamente dove e come era puntata si rialzò fumava e soffiava il fumo verso le colline tutta un tratto buttò la sigaretta e disse ragazzi vado a far quattro passi in collina con la coda dell'occhio vide che i soldati lo ammiravano se ogni tanto mi date un'occhiata e per un po' non mi vedete più non pensate male sarò solo entrato a bere un bicchiere di moscato in quell'osteria alla terza curva il soldato che poco prima si era preso della guardata disse con premura volete il mio moschetto sergente ma il sergente tirò a metà fuori dalla tasca una sua grossa pistola e partì per lo stradone alla prima svolta guardò rapido indietro al posto di blocco e notò che i soldati lo seguivano fedelmente con gli occhi soddisfatto sciolse il passo e si disse che per fare un'impressione ancora più profonda doveva smetterla di scattare ad ogni momento la testa a destra e a sinistra fermò la testa ma roteava gli occhi come certi bamboloni incontrava la raggente donne per lo più e un uomo che se lo vide spuntare davanti all'uscita della seconda curva scartò come un cavallo ma poi si dominò e camminava con punto come un chierico intanto nel canneto dietro l'osteria alla terza curva i cinque partigiani avevano le ginocchia rigide per l'umidità della terra e non si aspettavano più di sentir passi di militare sull'asfalto vicino colonnello si era finalmente sgravato ma non si era azzardato ad andare troppo lontano a fare quel deposito ed era mezz'ora che gli altri quattro lo maledivano la sorella di bimbo si era fatta alla finestra già un paio di volte ma senza mai sciorinare niente di bianco li aveva semplicemente guardati stando con mezza faccia nascosta da uno spigolo da giù non le vedevano che una pupilla straordinariamente nera e sgranata colonnello disse mi rincresce bimbo ma tua sorella si deve essere sbagliata questa osteria vederla da qui dietro ha tutta l'area di una vera bettola e i repubblicani non sono mica pitocchi come noi se vogliono possono pagarsi le bibite nei più bei caffè di Alba bimbo disse forse ci vengono perché qui hanno il vino buono o forse perché c'è una bella ragazza da cameriera Biagino schiaffeggiò la canna del suo moschetto e disse io spero solo che quelli che vengano abbiano addosso almeno un'arma automatica io sono stufo di questo moschetto ne sono vergognoso voglio un'arma che faccia le raffiche il sergente arrivò alla terza svolta e traversò per andare all'osteria traversando alzò gli occhi alla villa accanto c'era alla finestra una ragazzina che lo fissava con un paio di occhi da serpente lui si incuriosì guardò meglio e poi si disse che la ragazza per quel che se ne vedeva non era ancora matura perché lui le ricambiasse un'occhiata di quella forza entrò la porta dell'osteria aveva un campanello come le botteghe di paese mentre lo squillo durava il padrone sporse la testa da dietro una tenda e poi si fece tutto avanti non era la prima volta che quel sergente gli veniva nel locale non aveva quindi da temere che fosse lì per perquisizione interrogatori o altro di peggio infatti il sergente salutò comandò un bicchiere di moscato e si sedette accavallando le gambe posò la pistola sul tavolo accanto e sulla pistola posò la gamba destra la figlia dell'oste fece capolino dalla tenda il sergente scavallò le gambe e le disse ciao Paola non vieni fin qui e mentre lei veniva lui pensava che a soli 16 anni e con le fattezze campagnole la ragazza come carne prometteva le disse ancora come va l'amore Paola non va perché non è ancora arrivato signor sergente ma arriverà no e sorridendo levò la mano da sopra la pistola la ragazza disse speriamo e si voltò a ricevere da suo padre il bicchiere di moscato non era il cameriera glielo portò ad agio ad agio e senza mai staccar gli occhi dall'orlo e dalla sua sedia il sergente si protendeva per accorciarle la strada l'oste tornò perso la tenda ma non usciva cercava nella mente cos'era che doveva fingere di fare per rimanere voleva sentire che discorso veniva fatto a sua figlia e soprattutto vedere se il sergente teneva le mani a posto il sergente comprese la diffidenza e se ne risentì tolse il bicchiere dalla bocca e domandò allora padrone cosa dice la radio inglese voi che la sentite sempre l'oste si irrigirò per fare dei giuramenti ma uno spintone alle spalle lo rovesciò su un tavolo e ci fu una voce che riempì la stanza mani in alto diceva e l'oste alzò le mani prima di lui le aveva alzate il sergente ora fissava all'orifizio nero dell'arma di Negus a un palmo dal suo petto bimbo tirò da una parte la ragazza dicendole via di mezzo bacascetta e andò a ritirare la pistola sul tavolo l'oste si era trascinato vicino alla tenda quando ci passarono disse con un filo di voce sia al sergente che ai partigiani noi non c'entriamo niente e poi corse da sua figlia che era rimasta come se avesse un ciottolo in gola nel retro la moglie dell'oste scappò a treno che le faceva la guardia e arrivò ad aggrapparsi al braccio di Negus gridando e adesso cosa ci fa la repubblica cosa le diciamo alla repubblica Negus se la scrollò ma la donna si attaccò a Colonnello cosa le diciamo alla repubblica si metteranno in testa che vi abbiamo aiutati noi ammazzano il mio uomo e ci bruciano il tetto Colonnello le disse aggiustatevi contatele delle balle alla repubblica e in quel momento giunse treno che abbrancò la donna per la vita e la tenne fino a che non furono usciti Biagino fece segno di via libera e subito dopo chiese che arma aveva questo bastardo e come bimbo gli mostrò la pistola corse alle spalle del sergente e gli tirò un calcio in culo lo pigliò nell'osso sacro e il prigioniero si afflosciò rantolando ma Biagino lo rimise dritto e gli disse non far finta carognato ho preso nel molle dal caneto saltarono sulla stradina tra le gagge fecero senza tregua due colline marciando tutti curvi come se alle spalle avessero un gran vento poi arrivarono nella valletta di San Rocco e si ritrovarono a limitare di casa loro e allentarono il passo e la guardia al sergente Colonnello chiese a Negus di passare per il villaggio di San Rocco è un'ora buona e ci saranno donne in giro che tornano dal forno disse e noi facciamo bella figura a farci vedere con quello là prigioniero ma Negus disse di no guardava la schiena del sergente tra l'ira e la pietà voleva ammazzarlo per toglierlo via dal fargli la pena che gli faceva provava una gran stanchezza una nausea ad un bivio il sergente si fermò si voltò e con degli occhi da pecora morta chiedeva per dove prendere Negus si riscosse eh? a sinistra sempre a sinistra e gli segnò la strada con la canna della sua arma al loro passaggio i cani alla catena la travano e la gente delle cascine si faceva cauta sull'aie a spiare in istrada i più vecchi vedendo il repubblicano e riconoscendolo cercavano di ritirarsi e non facendo in tempo si irrigidivano a guardare impassibili ma poi passato il sergente si voltavano ai cinque e battevano le mani ma solo la mossa facevano e non il rumore i ragazzi invece si mettevano bene in vista e avevano gli occhi illustri uno si calò per una ripa incontro a treno che faceva la retroguardia e tenendosi a una radice si sporse a domandarli di partigiano lo ammazzate? sicuro che lo ammazziamo l'altro guardò la schiena del sergente poi disse mi piacerebbe andare a sputarli in un occhio treno gli disse che loro glielo lasciavano fare ma il ragazzo ci pensò su e poi risalì la strada ora montava colonnello guardò il ciglio di una collina e disse oh guarda il campo santo di Treiso c'è il sole che ci batte in pieno là c'è Tom che tipo era Tom quando avevano ancora da ammazzarlo però bisogna dire che si è fatto ammazzare da fesso Cristo non dire che è morto da fesso gridò Negus è morto e ha pagato la fesseria e quindi più nessuno ha il diritto di dire che è morto da fesso Dio buono Negus devi avere il nervoso per venirmi fuori con dei ragionamenti così cominciò colonnello ma non finì afferrò con una mano il braccio di Negus e l'altra mano se la portò all'orecchio dove gli era entrato rumor di zoccoli di cavalli tutti lo sentivano e si serrarono intorno a Negus Biagino disse è la cavalleria la cavalleria che ci ha detto quel vecchio in un soffio Negus ruppe il cerchio che i suoi gli facevano intorno alzò l'arma e gridò al sergente torna subito indietro il sergente rinculava ad agio del prato verso il torrente e teneva le braccia larghe come chi fa dell'equilibrismo ma non staccava gli occhi dall'arma di Negus e gli gridò non sparare è la nostra cavalleria non sparare possiamo intenderci e rinculava Negus lo puntò e gli gridò con voce raddoppiata vieni qui perché il rumore dei cavalli cresceva il sergente fece un grande scarto e voltandosi partì verso il torrente Negus fece la raffica il sergente cadde rigido in avanti come se una trappola nascosta nell'erba gli avesse abbrancato i piedi colonnello scoppiò a piangere diceva Negus perché gli hai sparato ci poteva venire buono facevano dei patti là dove la strada culmina sulla collina arrivavano bassi soffi di polvere bianca e il rumore del galoppo era ormai come il tam tam vicino nella foresta allora Negus urlò lasciate la strada portatevi in alto e dalla strada saltò sulla ripa e dalla ripa sul pendio ma appena ci posò i piedi capì che quello era il più traditore dei pendii l'erba nascondeva il fango i cavallergeri apparvero sul ciglio della collina e subito galopparono giù in aria tra i nitriti c'erano già raffiche e moschettate Negus scivolava ficcava nel fango le punte delle scarpe ma ci faceva una tale disperata fatica che voleva scampare non fosse altro che per rimprovarare il piacere d'applicare sulla terra tutt'intera la pianta del piede si buttò piancia a terra e saliva coi gomiti voltò mezza testa e vide giù nella strada bimbo lungo e disteso sulla faccia doveva essere caduto un attimo prima perché sopra il suo corpo era ancora sospesa una nuvoletta di polvere dieci passi più avanti un cavalleggero spronava contro Colonnello che cadeva in ginocchio alzando le lunghe braccia la gran parte dei cavalleggeri era già smontata e i cavalli liberi correvano pazzamente all'intorno Negus si rimise a strisciar su ma con gli occhi chiusi non voleva vedere quanto restava lontana la cima della collina e poi le gobbe del pendio gli parevano enormi ondate di mare che si rovesciavano tutte su di lui ci fu un silenzio e Negus per lo stupore si voltò vide che quattro o cinque cavalleggeri smontati pendevano posizione sulla strada rivolte a lui guardò oltre e vide treno e biaggino addossati al tronco di un albero nel prato dove era caduto il sergente una fila di cavalleggeri gli stava puntando da pochi passi urlò si mise seduto e scaricò l'arma contro quell'albero poi si rivoltò e che già erano colpi ma non vennero dalla sua parte e Negus pensò che erano stati per treno e per biaggino subito dopo lo rasentò una moschettata e lui si disse che era tempo aveva l'arma vuota ma non pensava a ricaricarla la voglia di sparare era la prima voglia che lo abbandonava strisciava su dalla strada sparavano fitto ma non lo coglievano e si che lui era un lucertolone impaniato nel fango di un pendio a tramontana si girò a vedere se qualcuno li inseguiva su per il pendio e se a salire faceva la sua stessa pena ma erano rimasti tutti sulla strada e stavano allineati a sparare come al banco di un tirassegno e il primo a sinistra era distintamente un ufficiale sulla punta dell'arma dell'ufficiale infallibilmente spianata su di lui vide scoppiare dei colori così ripugnanti che di colpo il vomito gli invase la bocca scivolava giù per i piedi e le sue mani aperte trascorrevano sull'erba come in una lunghissima carezza a una gobba del terreno non si fermò ma si girò di traverso prese l'avvio e rotolò al fondo e l'ufficiale dovette correre da un lato per trovarsi a riceverlo sulla punta degli stivali gli irrequieti uomini di René presero un soldato in aperta campagna e lo rinchiusero nella stalla di una cascina a perafuoni neviglie e René spedì subito una staffetta a perdere la sentenza per quel prigioniero del capitano che per quel giorno era fermo nell'osteria di T.I. ed era il più grande capo della basse langhe e aveva diritto di vita e di morte ma a T.I. la staffetta non vite la faccia del capitano né sentì la sua voce dopo una lunga attesa venne fatto montare su una macchina con i partigiani Moro Giulio e Napoleone sulla macchina che correva al piano verso neviglie Giulio sedeva davanti a fianco di Moro che guidava Napoleone dietro con la staffetta di René a metà strada Giulio si voltò indietro appoggiò il mento sullo schienale guardò Napoleone in modo molto amichevole e infine gli disse allora Napo come la giustiamo Napoleone per non fissare Giulio si voltò a guardare il torrente al lato della strada e disse io dico solo che stavolta tocca a me e non c'è niente da giustare questo lo dici tu rispose Giulio io non ne posso niente sull'ultima volta tu eri malato con la febbre causa tua o no hai perso il turno e stavolta tocca di nuovo a me ma stai tranquillo che la volta che viene non ti taglio la strada a Napoleone tremava la bocca per la rabbia parlò solo quando fu sicuro di non balbettare e disse la volta che viene non mi interessa è oggi che mi interessa e staremo a vedere Giulio sbuffò e si voltò e Napoleone si mise a fissargli intensamente la nuca la staffetta capiva che i due discutevano su chi doveva fucilare il prigioniero Napoleone gli premeva la coscia contro la coscia ne sentiva il forte calore attraverso la stoffa scostò con disgusto ma con riguardo la gamba e guardò avanti vide nello specchietto del parabrezza la faccia di Moro sorrideva labbra strette arrivarono presso Neviglie che la guarnigione era già tutta allerta per quel rumore di automobile che avviluppava la collina la macchina di Moro scendeva in folle verso l'aia della cascina gli uomini di René allungarono il collo videro chi portava li riconobbero e la sentenza per loro non era più un mistero René mosse incontro alla macchina svoltava in quel momento nell'aia e prima che si fermasse cinque o sei partigiani di Neviglie saltarono sulle pradelle per godersi quell'ultima moto Moro li ricacciò giù tutti come bambini si tolse un biglietto di tasca senza dire una parola lo diede a René e con uno sguardo all'intorno chiese dov'è nessuno gli rispose fissavano tutti René che leggeva il biglietto del capitano dovevano essere appena due righe perché René alzò presto gli occhi e disse è chiuso nella stalla aprite pure a Moro spalancarono la porta della stalla due buoi si voltarono a vedere chi entrava non si voltò un uomo in divisa che stava lungo tirato sulla paglia Moro gli comandò di voltarsi e l'uomo si voltò non per guardare ma solo per mostrare la faccia ce l'aveva rovinata dai pugni e strezzava gli occhi come se avesse contro un fortissimo sole quando Moro si volse per uscire urtò nel petto di Giulio e Napoleone che si erano piantati alle sue spalle per il sentiero che dall'aia saliva alla cima della collina già si incamminava in processione il grosso del presidio di Neviglie il primo portava una zappa sulle spalle Moro cercò René e lo vide sul margine dell'aia apportato con due che parevano i più importanti dopo di lui si avvicinò i tre dovevano aver discusso fino a quel momento sul posto della fucilazione uno finiva di dire ma io avrei preferito a Sant'Adriano René rispondeva ce n'è già quattro e questo farebbe cinque invece è meglio che siamo sparpagliati va bene il ritano sotto il caffa cerchiamo lì un pezzo di terra selvaggino che sia senza padrone Moro entrò nel gruppo e disse c'è bisogno di far degli studi così per un posto tant'è tutta terra e buttarci un morto è come buttare una pietra nell'acqua René disse non parli bene Moro tu sei col capitano e si può dire che non sei mai fermo in nessun posto e così non hai obblighi con la gente ma noi qui ci abbiamo le radici e dobbiamo tener conto della gente credi che faccia piacere a uno sapere che c'è un repubblicano sotterrato nella sua campagna e che questo scherzo gliel'hanno fatto i partigiani del suo paese adesso però avete trovato René alzò gli occhi alla collina di Rimpetto e disse gravemente in fondo a un rittano dietro quella collina lì Moro cercò con gli occhi i partigiani sulla cima della collina fece appena in tempo a vederli sparire in una curva a sinistra poi guardò verso la stalla e vide Giulio e Napoleone appoggiati agli stipiti della porta gridò verso di loro Giulio Nap cosa state lì a fare i due partirono insieme e insieme arrivarono davanti a lui Moro disse perché non vi siete incamminati con gli altri partite subito e quando arriva René col prigioniero siate già pronti Giulio disse dov'è con precisione questo posto è a Sant'Adriano e siccome Giulio guardava vagamente le colline aggiunse avete notato il punto dove sono spariti i partigiani di Neviglie Giulio e Napoleone accennarono di no con la testa no? beh sono spariti in quella curva a destra voi arrivate fin lassù e poi scendete dall'altra parte fino a che vi trovate al piano Sant'Adriano è là Napoleone fece un passo avanti e disse adesso Moro stabilisci una cosa chi è che spara? l'ultima volta ha sparato lui Moro gridò avete ancora sempre quella questione lì sparate tutte e due insieme questo no disse Napoleone e anche Giulio scrolla la testa allora spari chi vuole giocatevela pari e dispari non sparatevi solo tra voi due per un momento Giulio fisso Moro negli occhi e poi gli disse tu non vieni a Sant'Adriano perché? Moro sostenne lo sguardo di Giulio e rispose io resto qui vicino alla macchina perché quelli di René non ci rubino la benzina dal serbatoio Giulio e Napoleone partirono di conserva Giulio teneva un gran passo Napoleone sentì presto male alla milsa e camminava con una mano premuta sul ventre ma in cima alla collina arrivarono perfettamente insieme si calarono giù per il pendio e dopo un po' Napoleone disse a me non pare che sono passati da questa parte come fai a dirlo? io lo sento io annuso quando passa un gruppo come quello non si lascia dietro una morte come questa non c'era un eco non c'era un movimento d'aria continuarono a scendere ma Napoleone scosse sovente la testa quando posarono i piedi sul piano Giulio si fermò e fermò Napoleone stentendogli un braccio davanti al petto un rumore di zappa ben distinto arrivava dietro un noccioleto a fianco della cappella di Sant'Adriano senti Nap questa è una zappa sono loro che fanno la fossa Napoleone li tenne dietro verso quei noccioli e diceva ma com'è che non si sente parlare? possibile che quelli che non zappano stanno zitti? ma certe volte a vedere far la fossa ti va via la voglia di parlare stai a vedere e basta mentre giravano attorno al noccioleto quel rumore cessò e passate quelle piante scorsero un contadino tutto solo con la zappa al piede e l'aria di aspettare proprio che spuntassero loro li guardò sottomesso e disse buondì patrioti una lunga raffica crepitò dietro la collina Giulio si orientò subito e si voltò a guardare dalla parte giusta Napoleone invece guardava vagamente in cielo dove galopava l'eco della raffica partirono in vano quel contadino tese verso di loro un braccio e disse per piacere cosa è stato? c'è la repubblica qui vicino? se lo sapete ditemelo io vado a nascondermi non gli risposero risalirono la collina Giulio velocemente e Napoleone ad agio perché non aveva più nessun motivo di farsi crepare la milza ma quando arrivò su Giulio era lì ad aspettarlo guardarono giù videro i partigiani di Neviglie salire dal rittano sotto il caffa ma come se battessero in ritirata salivano anche dei borghesi che si erano mischiati a vedere e adesso ritornavano con le spalle raggrinciate come se rincasassero in una sera già d'inverno passarono vicino a loro ed uno diceva però l'hanno fucilato un po' troppo vicino al paese Giulio e Napoleone scesero per il pendio ormai deserto fino al ciglio del rittano videro giù due partigiani che stavano rifinendo la fossa uno calava la zappa di piatto e l'altro schiacciava le zolle sotto le scarpe quello della zappa diceva quell'altro vedrai questa primavera che l'erba che cresce qui sopra è più alta di una spanna di tutta l'altra l'ombra dei due sopraggiunti cadde su di loro ed essi alzarono gli occhi al ciglio del rittano chi è stato domandò subito Giulio rispose quello della zappa chi vuoi che sia stato è stato il vostro Moro Napoleone lo sapeva già da un pezzo ma gridò ugualmente Cristo quel bastardo di Moro ci toglie sempre il pane di bocca dopo un momento Giulio indicò la fossa col piede e domandò di come è morto questo qui prima si è pisciato addosso ho visto proprio io farsi una macchia scura sulla brachetta e allargarsi Giulio si aggiustò l'arma sulla spalla e si ritirò di un passo dal ciglio del rittano beh se si è pisciato addosso sono contento disse Moro non deve aver goduto granché a fucilare uno che prima si pisce addosso ti ricordi invece Napo quel tedesco che abbiamo preso a scaletta e che poi hai fucilato tu dio che roba vieni Napo che Moro è anche capace di lasciarci a piedi Sergio P partì una mattina da Castignola delle Lanze per andare a Castino ad arruolarsi in quell'importante presidio badogliano aveva 18 anni scarsi un impermeabile chiaro un cinturone da ufficiale scarpe da montagna nuove con bei legacci colorati ma rimaneva quello che era sempre stato sino a un minuto dalla partenza un ragazzo di paese che i suoi sono possidenti e l'hanno mandato in città a studiare e lo stesso rimase anche quando perso di vista Castagnole da una tasca sotto l'impermeabile tirò fuori una pistola nuovissima e ne riempì la fondina dando così un significato al cinturone da ufficiale aveva in mente di mettersi nome di battaglia Raul per una strada tutta deserta camminava a cuor leggero a dispetto del fatto che al paese aveva lasciata sola sua madre vedova si sentiva figlio di nessuno e questa è la condizione ideale per fare le due cose veramente gravi e dure per un individuo andare in guerra ed emigrare verso le dieci arrivò alla porta di Castino e precisamente davanti al casotto del peso pubblico c'era un partigiano in servizio di posto di blocco Sergio si fermò a trenta passi da lui e se lo studiò bene per farsi un'idea dell'aspetto che avrebbe avuto pure lui tra poco era un tipo basso ma lo prolungava il moschetto a bracciarma e una volta che si presentò di profilo Sergio gli vide l'enorme bubone che sulla chiappa gli formava la bomba a mano nella tasca posteriore dei calzoni e poi aveva i capelli fin sulle spalle come uno del 600 nella valle scoppiò una salva di fucilate un'altra erano pochi fucili insieme ma l'eco ne traeva un gran rumore lui era rimasto inchiodato in mezzo alla strada convulse ma deboli le sue mani cinceschiavano il bottone della fondina ma poi notò che il partigiano non si era minimamente allarmato e dall'uscio della prima casa una vecchia chiamava dolcemente una coppia di galline dalla strada staccò la mano dalla fondina e si affrettò verso il partigiano che si era aggirato dalla sua parte e lo stava ad aspettare vista la faccia nuova fece per scendersi il moschetto dalla spalla allora Sergio tese una mano avanti e domandò forte c'è il comandante Marco l'altro aveva il moschetto a mezzo braccio non lo rimise su né lo sfilò del tutto e quando Sergio gli fu davanti fece per cosa vorrei parlargli per arruolarmi se non è troppo tardi tu come fai a conoscere Marco per fama io vengo appena da Castagnole e di Marco se ne parla fin sull'altra riva di Tanaro il partigiano si rimandò il moschetto sulla spalla hai tabacco si aspettava del trinciato e non le nazionali che Sergio tirò fuori per lui disse questo è un altro fumare prese due sigarette e ne accese subito una adesso fumava guardava avanti e pareva essersi dimenticato di lui Sergio dopo un momento si voltò a vedere cosa poteva guardare quell'altro per la strada veniva una ragazza camminava sul bordo e con occhi desiderosi guardava giù per il pendio per scoprire quelli che sparavano Sergio si rigirò e gli disse allora mi dici dov'è che posso trovare Marco in comune a quest'ora da udienza alla popolazione scansò Sergio e andò a incontrare quella ragazza Sergio si inoltrò in paese e trovò facilmente il comune che era una casa qualunque con scritto sulla facciata municipio entrò salì e si trovò davanti a tre porte bussò alla prima e poi l'aprì educatamente era una stanza vuota e polverosa con un certo odore di granaglie lo stesso gli capitò alla seconda porta e così aperse la terza senza cerimonie c'era un tavolo e sopra una ragazza che fece appena in tempo a serrare le gambe e mandar giù le sottane c'era pure un uomo ma voltava la schiena dai suoi movimenti Sergio capì che si stava abbottonando la braghetta poi si voltò e aveva la più bella faccia d'uomo che Sergio avesse mai vista portava una divisa complicata e impressionante fatta mista di panno inglese di maglia e di cuoio Sergio si schiarì la gola e l'uomo increspò la fronte la ragazza esaminava Sergio e nel mentre si passava una mano sui capelli che erano biondi secchi e fruscianti come saggina Sergio disse mi hanno mandato qui per trovare Marco Marco sono io Sergio istintivamente uni i tacchi ma con un minimo di rumore eppure un sorriso si disegnò piccolissimo all'angolo della bocca della ragazza sono venuto per ruolarmi se non è troppo tardi sei pelle e ruolato disse Marco in quanto esser tardi non è mai troppo tardi perché anche se finisse domani sei ancora in tempo per restarci ammazzato se ci si pensa il discorso dell'anzianità è il discorso più scemo che si possa sentire da un partigiano eppure da una parola in su tutti i partigiani ti sbattono in faccia la loro anzianità questo sembrò Sergio fosse rivolto più particolarmente alla ragazza che a lui infatti la ragazza sbattì le palpebre come per dargli ragione e cominciò a dondolare una gamba tu mi sembri studente disse Marco sì di che magistrale seconda superiore ne terrò conto non c'è granché di studenti tra i partigiani poi Marco gli venne vicino gli sbottonò la fondina e uscì la pistola a metà fece con le labbra un segno di apprezzamento poi rimandò giù l'arma lasciando a Sergio di riabbattonare la fondina disse hai fatto bene a venire già armato perché io non potevo darti nemmeno una scacciacani d'alba siamo tornati con meno armi di quante ne avevamo quando ci siamo entrati questo è il fatto anche questo doveva averlo detto per la ragazza a proposito come ti dobbiamo chiamare lui si era scelto il nome di Raul fin dalla notte che aveva deciso di andare con i partigiani sapeva perciò come rispondere ma sentiva che niente gli poteva costare più vergogna che pronunciare quel nome Raul così esitava e Marco dovette ripetere la domanda si fece forza e disse avevo pensato di farmi chiamare Raul ma con un tono come se non ne fosse ben sicuro poi aspettò che Marco e la ragazza scoppiassero a ridere niente gli pareva più giusto che scoppiassero a ridere invece Marco disse Raul è un gran bel nome di battaglia credo che sia l'unico Raul in giro per le langhe la ragazza aveva fermato la gamba destra e messa in movimento la sinistra sospirò anche con una certa intensità allora Marco disse va bene sei dei nostri seconda divisione langhe brigata belbo gli altri sono giù in un prato a fare i tiri vacci anche tu e fai conoscenza e mescolati dai retta a me mescolati subito agli altri quando Raul uscì fuori sparavano sempre si orientò e giunse sul ciglio della collina si sporse a guardar giù cautissimo come se si piegasse su uno strapiombo ma tutto era perché voleva vedere non essere visto ma di lassù non vedeva niente per via di una gobba del pendio allora infilò un sentiero e lo scese fino a che pote scorgere i partigiani erano una trentina traiati su un sentiero trasversale a quello di Raul e sparavano giù nella valle a quei cosi di cemento dove i contadini tengono a suo tempo il verde rame Raul scese ancora e passò sul sentiero dei partigiani si avvicinava ad Agio che più ad Agio non poteva si sentiva molto peggio di quando era entrato per la prima volta in collegio adesso quelli si accorgevano di lui si drizzavano sui gomiti e gli gridavano tutti insieme sei un nuovo eh e adesso che arrivi hai fatto con comodo sei in ritardo di dieci mesi in confronto a noi dove sei stato fino ad oggi nascosto in un seminario invece nessuno disse niente qualcuno lo guardò subito altri lo guardarono poi e quando l'ebbero guardato tornarono a mirare quei cosi bianchi in fondo alla valle Raul si sedette sull'urlo del sentiero e stette per un po' a fissare l'una o l'altra bocca di fucile per cogliere il momento che ne usciva la fiammata più tardi si azzardò a guardare le facce dei tiratori per trovarne una un po' umana non la trovò ma pensò che forse era perché nessuna faccia e umana quando appare concentrata dietro il congegno di mira di una qualsiasi arma si rialzò e con passo indifferente andò da una parte verso un albero ci si piantò di fronte estrasse la pistola l'armò e mirò lungamente il tronco il colpo partì ma Raul non avrebbe saputo dire se aveva o no premuto il grilletto e tanto meno dove era potuto finire il colpo non ce n'era traccia sulla corteccia scura profondamente preoccupato rinfoderò in fretta la pistola uno di quei partigiani veniva dalla sua parte questo aveva una faccia umana ma quando incominciò a sorridere il suo sorriso era così pieno che appariva persino feroce fu il primo che gli parlò si faceva chiamare Sgancia era con Marco da quattro mesi ma altrettanti ne aveva fatte prima in Val de Lanzo con tutto ciò era appena della leva di Raul si sedettero insieme sul bordo del sentiero ma Sgancia scelse un posto non troppo vicino alla compagnia e dopo un accenno all'insensatezza di quella sparatoria che non serviva ad altro che a richiamare Repubblica se ce n'era in giro dopo disse a Raul fammi un po' vedere la tua pistola Raul gliela passò col presentimento che cominciava una faccenda che per lui finiva in perdita Sgancia esaminò la pistola da ogni parte la fece ballare sul palmo della mano e poi disse è una buona pistola ma è soltanto italiana se la posò sui ginocchi dicendo la mia invece è tedesca tirò fuori la sua e la mise in mano a Raul era di forma poco moderna e presentava parecchie macchie di rugine perciò Sgancia si affrettò a dire ho tre caricatori di riserva tu quanti ne hai ho solo più cinque colpi perché uno l'ho sparato in quella pianta sono pochi cinque però se vuoi ti faccio il cambio ugualmente solo perché la tua è più pesante io me la sento meglio nel pugno altrimenti non la batterei a nessun patto nemmeno con la pistola cromata di Marco Raul fece il cambio la faccia tirata per lo sforzo di dissimulare la rabbia e l'amarezza per un attimo cercò gli occhi di Sgancia ma poi gli sembrò che con quel cambio pagava qualcosa di cui era in debito dopo nemmeno Sgancia sapeva più che discorso fare finalmente disse sai che io sono un buon tiratore e Raul si aspettava una storia di SS fascisti ammazzati da Sgancia invece Sgancia tirò fuori il portafoglio ed acquisto una serie di foto fatte da borghese ai tirassegni fotolampo Raul mostrò di interessarsi a quella foto e fece a Sgancia qualche domanda sulla ragazza che gli compariva sempre accanto questa è roba che abbiamo lasciato in pianura disse Sgancia ti Sgancia che tipo è questo Marco che ci comanda tutti è uno con dei coglioni così e Sgancia fece con le dita alla misura di due bocce poi disse hanno un bel dire che per fare l'ufficiale dei partigiani l'istruzione non vale io per me sto sotto volentieri a uno che ha l'istruzione come Marco Marco era già ufficiale nel regio e da borghese studiava all'università di Torino per diventare professore di qualcosa invece in Val di Lanzo avevo per capo un meccanico della Fiat aveva fegato ma non aveva l'istruzione ci faceva ammazzare per sport quando mi sono presentato disse Raul c'era una ragazza con Marco parli di Joel abbastanza un bel gnocco non è una cattiva ragazza e chi ci fa qui con noi dovrebbe fare la staffetta e non dico mica che al bisogno non la faccia ha del coraggio a stare con i partigiani chissà come si è decisa a venirci io una volta gliel'ho chiesto e sai come che mi ha risposto che essere una ragazza è la cosa più cretina di questo mondo si voltarono perché qualcosa succedeva tra gli altri partigiani guardavano su alla cresta della collina dove si era affacciato un borghese aveva tutto l'aspetto di un proprietario e domandava forte perché sparate a quei cosi bianchi laggiù lo sapete che noi là dentro ci mettiamo il verde rame me li bucate quando ci verserò il verde rame si perderà tutto smettetela subito vado a dirlo a Marco un partigiano salì due passi verso il borghese gli rispose sì ma quei cosi bianchi sono l'unico bersaglio che c'è nella valle noi dobbiamo allenarci a sparare dall'alto in basso perché di solito noi stiamo in alto e la repubblica in basso ben detto Kin ridò un altro partigiano ma il borghese disse allenatevi finché volete ma da una parte dove non facciate danno o vado a dirlo a Marco non aggiunse altro ma restò a guardare se sgomberavano sgomberarono e Sgancia e Raul con loro andarono alla cappella di San Bovo si misero a tirare alla campanella ad ogni schioppettata giusta la campanella faceva ten e loro ridevano come bambini a mezzogiorno risolirono la collina e andarono a una grossa cascina dove era la mensa entrarono cozzandosi in uno stanzone c'erano quattro lunghe tavole con intorno tante panche una damigiana di vino in un cantone e in aria l'odore di carne arrostita nell'olio di nocciole c'erano già molti altri partigiani che Raul non sapeva dove potevano essere stati tutta la mattina dovevano aver fatto strada perché erano più impolverati del resto ce n'era uno giovanissimo che fissò Raul tra l'arrogante e il perplesso e poi domandò forte in giro e questo chi è? seduti c'erano già Marco e Joel Joel adesso portava calzoni da uomo e tamburellava con due dita una coscia di Marco vedendosi addosso gli occhi di Marco Raul di nuovo batteste intimamente i tacchi e dietro di lui quel partigiano giovanissimo chiese a scancia ma chi è questo leccaculo mai visto che saluta come nell'esercito? Raul sedette in punta ad una panca accanto a sgancia non c'era ancora niente di pronto e così i partigiani cominciarono a rubarsi l'uno all'altro il pane fresco poi arrivò il cuciniere con un piatto di bistecche e per primi servì Marco e Joel e fin lì nessuno disse niente ma quando distribuì i rimanenti ad altri che loro gridarono al cuciniere Ferdinando venduto chi ti ha detto di farlo di lì il giro noi siamo i figli della serva? Raul fissò Marco tagliava la carne con una specie di pugnale e pareva sordo a tutto allora dovette guardare altrove e per non guardare le facce dei suoi nuovi compagni finì con il guardarsi le unghie rialzando gli occhi vide che Marco lo fissava come a studiarlo finalmente ebbero tutti la carne ma Raul per quanto la masticasse non andava giù rientrò Ferdinando e posò sulla tavola un cestone di pere ma erano acerbe dure come pietre le morsicarono appena poi protestando le fecero volare nell'aria per la porta e la finestra Joel si alzò e uscì dicendo che andava a pisciare il partigiano che Raul aveva inteso chiamare Miguel si alzò pure lui e muovendo verso la porta in punta di piedi e con la testa incassata nelle spalle disse piano le vado dietro e mi nascondo a vederglielo fare Raul soguardò Marco rideva come tutti gli altri 4 o 5 si addormentarono sulla tavola col naso tra le briciole del pane e il grasso della carne gli altri torchiavano sigarette con cartine e un tabacco così scuro che a Raul solo a vederlo metteva voglia di tossire quando Raul cominciò a stare attento ai discorsi che si facevano intorno alla tavola dopo accese le sigarette Kin diceva però in politica io sono rosso e a cose finite è facile che mi iscrivo al partito comunista lo diceva a Delio quello molto giovane ma fu sgancio che raccolse le sue parole e gli domandò un po' secco e allora perché stai nei badogliani cosa vuol dire io sono nei badogliani perché quando sono venuto in collina sono cascato in mezzo a dei badogliani se cascavo in mezzo agli anarchici o ai partigiani del Cristo che so io facevo il partigiano con loro cosa vuol dire ma bravo sei proprio un uomo con un'idea Kin si scaldava sicuro che ho un'idea tu piuttosto ho paura che non ce l'hai perché se uno viene a dirmi che lui è comunista io presto a poco capisco che hai idea ma se uno mi dice che lui è badogliano io cosa devo capire dai sgancia rispondi lì cosa significa essere badogliano io te lo spiego subito disse sgancia spegnendo la sigaretta significa essere d'accordo con badoglio approvare quel che badoglio ha fatto il 25 luglio e dopo significa accettare il suo programma che se non lo sai è questo far la guerra ai tedeschi e ai fascisti salvare l'onore del nostro esercito che l'8 settembre è sprofondato molto giù mantenere il giuramento al cosa il re Kin si era inarcato sulla panca come per prendere lo slancio di fatti quando sgancia affermò che i partigiani badogliani erano monarchici Kin scattò in piedi monarchici le balle urlò i 4 o 5 addormentati alzarono la testa e guardarono in giro con occhi torbidi monarchici le balle ripete Kin il tuo re è uno schifoso vigliacco è il primo traditore sgancia si alzò e pallido come un morto disse non parlare così del re Cristo Kin non parlare così del re davanti a me non parlare così del re Cristo ci ha messo tutti su una strada era già un mezzo uomo che a vederlo faceva ridere tutti gli stranieri va ancora a farci fare la guerra ci ha rovinati e poi ci ha lasciato a sbrogliarcela da soli ma guarda che strage per sbrogliarcela da soli se aveva un po' di onta veniva a fare il partigiano con noi o almeno ci mandava quel puttaniere di suo figlio che è ancora giovane ma finito questo li fuciliamo tutti e due come vero Dio li fuciliamo e se riescono a scappare visto che a scappare sono in gamba ci sarà sempre un italiano che li andrà a cercare li troverà e li ammazzerà come due cani uno che si chiamava Gilera alzò una mano e disse basta sgancia basta Kin non abbiamo mai fatto della politica e ci mettiamo a farla adesso se volete saperlo io ero nella Garibaldi e sono passato nei badogliani perché nella Garibaldi avevamo i commissari di guerra che ci imbalordivano con la politica Raul era monarchico ma a modo suo amava la monarchia come si ama una donna ora odiava Kin ma non si accostava sgancia per gelosia e stava zitto perché aveva paura tutta la gente nello stanzone gli faceva una grande precisa paura guardò a Marco fumava e soffiava il fumo dentro un raggio di sole che entrava dalla finestra pareva concentrato a studiare come il fumo evoluiva e si assestava in quella guida di luce ma di colpo fece un gesto come ad accusar mal di testa gettò la sigaretta ed uscì Raul salzò dalla panca per seguirlo non voleva restare senza Marco nello stanzone si preparò ad uscire alla meno peggio mentre così esitava rientrò Joel e Raul ricade sulla panca incapace di fare un movimento qualunque sotto gli occhi della ragazza Gilera disse a Joel ce n'hai messo del tempo dunque non hai pisciato soltanto fatelo dire da Miguel cosa ho fatto dietro di lei era tornato Miguel e faceva apposta la faccia di chi ha visto cose grandi e rare disse lo fa così bene che non ti fa perdere la poesia se avevo la macchina le prendevo la foto risero tutti anche Sgancia e Kin che erano ancora sfisionomati risi anche Joel ridendo salto a sedere sulla tavola e di là disse su ragazzi parliamo sporco Raul si portò una mano alla bocca si alzò e ortando un paio di panche uscì a testa bassa traversò l'aia e senza stare a cercar sentieri arrivò sulla strada della collina tagliando per un prato in salita appena sulla strada si voltò di scatto perché gli era abbalenato il pensiero che i partigiani nello stanzone credessero che lui disertasse e lo inseguissero con le armi puntate ma nessuno li inseguiva allora attraversò la strada camminando a passi storti e masticando continuamente a vuoto per tenere giù qualcosa che voleva venirli su dallo stomaco sul bordo della strada disse oh mamma mamma e poi si slanciò giù per il pendio era tanto ripido che in breve la sua corsa divenne una irresistibile volata gli alberi piantati ai piedi della collina sembravano salirgli incontro aveva una paura matta di stramazzare con le caviglie rotte vide da una parte una depressione del terreno deviò con un gran salto e vi cade dentro era un buco abbastanza profondo nessuno ve lo poteva scorgere dentro che non fosse sospeso per aria si allungò tutto sulla terra umida e gridò a cosa mi serve aver studiato qui per resistere bisogna diventare una bestia io non me la sento io sono buono ripensò all'alba di quello stesso giorno possibile che si trattasse di sole otto ore fa otto ore fa sua madre girava per la cucina in sottoveste aveva la voce rauca come se fosse stata svegliata da una disgrazia nella notte lui non pote finire il latte con l'uovo sbattuto dentro e pieno di rimorso allontano la tazza disse è una cosa giusta mamma la parte buona è quella dove vado io anzi io ci vado un po' tardi ci sono già andati tanti come me e meglio di me lo so che vai dalla parte buona che ce ne sono già tanti ma insomma si capiva che per sua madre lui era d'altra carne di altre ossa lei disse ancora io dico solo che ci potresti andare al momento buono ma è sempre il momento buono lo è stato fin dal principio e poi capisci che se per andare tutti aspettano il momento buono il momento buono non verrà mai sua madre scosse la testa non è ancora il momento buono guarda che Batosta e partigiani si sono ancora presi dalla Repubblica ad Alba no non è ancora il momento buono lo dice anche Radio Londra Sergio si era alzato da tavola ed era andato alla porta a passi indiretti di là guardò sua madre mai l'aveva vista tanto svestita e spettinata mai le aveva sentita quella voce dura da uomo disse ti piacerebbe che poi mi dessero del vigliacco lei gli rispose forte nessuno può darti del vigliacco se tu dici che non hai voluto dare il crepacuore a tua madre e poi c'è la legge che parla per te nemmeno l'esercito del re prendeva i figli unici alle madri vedove uscì sull'aia e sua madre dietro si voltò a dirle che rientrasse che non era abbastanza vestita per stare all'aria alle 5 di mattina lei non gli badò gli disse tu non sei buono a fare quel mestiere non ne sai niente non hai mai fatto il soldato sono buono stai tranquilla mi difenderò lei si mise a guardare in alto c'è un brutto cielo mi mette dei presentimenti se devi partire parti una mattina che il cielo si presenti un po' più bello può già essere domani mattina poi come lo vide incamminarsi al cancello gli domandò con un grido da che parte vai vado a castino voglio arruolarmi sotto il famoso marco vedi sarò appena a 15 chilometri da casa fa conto che sia in vacanza dalla nonna quando passò il cancello lei gli gridò Sergio Sergio per carità non voler sempre fare il primo non fare il valoroso lui si voltò e le disse ciao mamma ho un debito di 60 lire al caffè della stazione fa il piacere pagamelo se quegli altri sapesse essere duro quasi crudele come lo era con quelli che gli volevano bene non si sentirebbe tanto indifeso agli sguardi e alle parole dei partigiani se fosse stato inflessibile con sgancia come con sua madre a sgancia non riusciva sicuramente la porcheria del cambio della pistola quando si levò da quel buco pote leggere l'ora nel calore dell'aria dovevano essere le sei il tempo gli era passato come a uno che dorme ma lui non aveva dormito aveva fatto centinaia di pensieri tutti disperati nei quali dava la colpa ai partigiani che non erano come lui li aveva immaginati e poi siccome quei partigiani non poteva sfogarsi con se stesso invece si dava la colpa a sé che aveva sbagliato a immaginarli gritto sul pendio aveva dinanzi ondate di colline che già si fondevano nella precoce sera di novembre guardava verso Castagnole e mentalmente calcolava che per tornarci c'erano quattro colline da valicare e un tratto di piana un lume il primo che si accese sulla collina di Rimpetto lo fece decidere se partiva subito si ritrovava a casa prima di mezzanotte era ancora fermo sul bricco di Castino e già si vedeva spingere la porta di casa sua entrare e sedersi stanchissimo sulla prima seggiola della cucina avrebbe smesso il vestito che aveva indossato la mattina per andare in guerra avrebbe smesso anche tante idee ma gli sarebbe rimasto il rispetto di sé perché da solo si era tirato fuori dall'orribile avventura nella quale si era cacciato da solo se risaliva il pendio e pigliava la strada di Castino poteva incocciare qualche uomo di Marco pensò di calare al piano e di laggiù attaccare a salire la prima delle quattro colline ma guardando in basso vide la valle cieca e profonda come un lago d'inchiostro e poi tutto di un tratto dal versante di Rimpetto venne il rumore di una motocicletta Raúl non scorgeva il fanale della macchina non la strada sulla quale essa correva il rumore era intermittente come se si liberasse solo in certi punti e non aveva più niente di meccanico era selvaggio lamentoso e spaventevole come il verso del lupo errante sulle colline Raúl raprividì i partigiani erano in giro non partigiani di Marco ma partigiani con la faccia e il cuore di Chine di Sgancio di Miguel di Delio ancor più terribili perché sconosciuti che lui aveva il terrore di incontrare di notte sulla cresta delle colline nel fondo delle valli alle svolte delle strade al campanile di Castino batterono le ore e quei sei tocchi pur tristi lo confortarono gli suonarono come un saggio amichevole consiglio di togliersi da quella solitudine risalì rapidamente il pendio e una volta sulla collina fu lieto di vedere illuminata la finestra a pian terreno della casa dove era la mensa così a Raul rimase con i partigiani e a cena nessuno nemmeno Marco gli domandò dove era stato l'intero pomeriggio dopo cena Chine venne a dirgli che gli toccava fare due ore di guardia e gli prestò il suo moschetto per fare il servizio salì al bricco che Chine gli aveva mostrato da sulla porta e cominciò a vigilare l'essere solo e armato nella notte fu la prima grande sensazione che provò l'unica delle tante belle che aveva immaginato doversi provare da partigiano stava allerta ma senza timori non c'erano insidie nella notte anche se ai suoi occhi troppo fissi il buio pareva brulicare e in fondo alla valle gli alberi crociavano con un rumore di grandi cascate d'acqua non una luce nel seno nero delle colline luci c'erano laggiù in fondo a tutto là dove si poteva credere ci fosse la pianura si voltò a guardare giù alla cascina e la vide tutta spenta Chine sgancia Michele Delio e tutti quegli altri dormivano già prima di addormentarsi dovevano essersi detto che potevano fidarsi di lui essendo stato attento anche ai tocchi delle ore al campanile sapeva che il suo turno era già passato ma non gli rincresceva fare quel soprappiù di guardia perché sentiva che quando fosse rientrato per mettersi a dormire dove come ancora non sapeva sarebbero ricominciate le sue miserie le brutte sensazioni quando un altro toccò battè al campanile venne su Delio si fece passare il moschetto e gli disse di scendere a dormire dove si dorme nella stalla e dove è la stalla prima del portico o non coricarti nella greppia perché quello è il mio posto se ti corichi quando poi torno io devi sgomberare Raul scendendo smarrì il sentiero e senza più cercarlo finì di calarsi per un parato marcio di guazza aveva aperto cautamente la porta della stalla e si era fermato un istante sulla soglia la stalla era un blocco di tenebra e ne veniva un puzzo tale quale due grosse macchie biancastre oscillarono in quel buio e Raul capì che erano due buoi che si voltavano a vederlo entrare ma gli uomini coricati non erano assolutamente visibili i respiri e il russare sembravano venire da sottoterra entrò deviò a destra miserabilmente incerto su ciò che avrebbe fatto urtò col piede un corpo ma da questo non venne nessuna reazione come morto Raul era rimasto col fiato ed il piede sospesi dopo non aveva cercato oltre si era chinato e con i piedi e con le mani aveva attastato se c'era spazio per il suo corpo e si era allungato lì ora giaceva sull'ammattonato come se ci stesse per tortura tra le sconnessure dell'uscio filtravano mute correnti d'aria che infallibilmente lo ferivano nelle parti più sensibili il collo degli scarponi gli pesava ferocemente sulle caviglie parevagli le stesse lentamente incidendo e che tra poco gli scarponi dovessero cadere con dentro i suoi piedi soffriva un gran male ma pensava che non doveva toglierseli non trovava la posizione buona soprattutto non sapeva dove sistemare la testa di quando in quando i buoi puntavano gli zoccoli e la paglia gemeva sotto i corpi che si rivoltavano poi il freddo crebbe si erano interrotti quei fiati di caldo che venivano dalle due bestie si trascinò sulle ginocchia fino alla lettiera e prese due manate di paglia in quel momento uno di quei due bestioni fece il suo bisogno si sentì forte un pluff Raul si parò la faccia con la paglia perché aveva sentito gli schizzi prendere il volo si ritirò sedette si fece piovere un po' di paglia sui piedi si rivistese e si aggiustò il resto della paglia sulla pancia e sul petto ma stava male lo stesso insopportabilmente male e se la sentinella fosse stato un altro che Delio sarebbe stato un sollievo tornarsene fuori e aiutarlo a far la guardia e poi aiutare quello che avrebbe rilevato Delio e così avanti fino a chiaro eppure era stanco quella era stata la più lunga giornata della sua vita si disse come mi sento male e non ci farò mai il callo mai cominciò ad avvertire in tutto il corpo quella pesantezza che a casa nel suo letto lo faceva languidamente sorridere perché era il segnale che il sonno arrivava a quattroquattro un sonno pulito regolare sicuro ma qui c'era miseria e pericolo infatti se pensava alla notte fuori di quella lurida stalla non riusciva più ad immaginarla tranquilla e innocente come l'aveva vista e sentita in quelle ore che era stato di sentinella le cose dovevano essere cambiate da quando non più lui ma Delio faceva la guardia per tutti sentiva che un pericolo veniva velocemente alla loro volta dritto su quella stalla e doveva essere partito proprio da quelle luci laggiù in pianura come facevano gli altri a dormire con quell'abbandono erano sicuri di arrivare a vedere il mattino sentì l'ammattonato sciogliersi sotto la schiena e divaricando le gambe si addormentò profondamente la porta della stalla si spalavancava con un corpo rimbombante e il vano si riempiva di uomini tutti neri come mascherati dalla testa ai piedi mossero un passo avanti e puntarono potenti lampade elettriche per tutta la stalla a Raul quella luce passava un palmo sopra la testa e si poteva credere che non l'avessero ancora visto i fasci di luce finivano in circoletti bianchi simili a tante piccolissime lune e centravano una per una le facce di tutti i partigiani fosse quella luce artificiale o altro erano già tutte facce di cadaveri con le palpebre in mote e gli occhi sbarrati poi uno di quegli uomini neri urlò un comando e tutti i partigiani si alzarono dalla paglia aiutandosi con le mani o strusciando la schiena contro la parete adesso li facevano uscire come vitelli dalla stalla senza che nessuno gli dicesse niente o gli posasse una mano sulla spalla Raul si drizzò e passò ultimo tra due file di uomini neri schierati contro i battenti della porta passando vide luccicare sugli elmi e sui baveri gli emblemi della repubblica sull'alia c'era già Delio ma tutto rattrappito per terra li lasciarono fermarsi a guardarlo poi cinque o sei di quegli uomini presero la rincorsa scavalcarono il cadavere di Delio si buttarono in mezzo a loro maneggiando i fucili per la canna e li mandavano in mucchio contro il muro dell'alia ma non ce ne sarebbe stato bisogno ci andavano da soli anche se un po' ad agio ma era perché non dovevano essere perfettamente svegli erano tanti tutta la guarnigione di Castino mancava mancava solamente Marco e Joel e quel lungo muro non aveva un posto per ognuno e così in certi punti la fila era doppia e tripla Raul venne a trovarsi con la schiena al muro e sul petto che lo soffocava l'ampio dorso di Miguel sentì Kin dir piano a Miguel Marco è a dormire con Joel in un altro posto ma spero che poi trovino anche lui se no non è giusto una parte dei soldati venne marciando a schierarci davanti a loro Raul volle urlare ma non gli uscì che un fischio tra i denti poi trovò la voce e cacciò un urlo no e nel medesimo tempo scostava il corpaccio di Miguel come fosse una piuma e correva in mezzo all'aia gridando non voglio non voglio lottò con un soldato che gli aveva subito sbarrato la strada e gli premeva la punta del fucile nella bocca dello stomaco ma lui urlava lo stesso no non è che non voglio morire ma voglio morire a parte morire da solo mi fa schifo dividere il muro con quelli là io non li conosco era già chiaro i due buoi erano ben svegli e freschi come se avessero già fatto la loro ginnastica mattutina Raul sollevò la testa ad agio e faticosamente come se si sentisse appena una palla di piombo girando gli occhi vide per primo Delio stava seduto a cavalcioni della greppia si grattava la nuca e la sua fronte era piena di rughe Delio gli domandò dormito bene per la prima volta? c'era un po' di malignità nella sua voce ma forse Delio non aveva un'altra voce Raul gli disse ho sognato che t'hanno ammazzato la repubblica lì fuori sull'aia parola dolore che l'ho sognato Delio disse stessi secco a sognare delle cose così ma rideva rise anche Raul e svegliarono tutta la stallata quando Blister accennò a parlare i partigiani di Cossano gridarono stai zitto tu che ci hai smerdati tutti fai star zitto questo ladro Morris Blister il ladro stava seduto su uno sgabbello a ridosso della parete e aveva di contro la fila dei partigiani innocenti ed offesi ma tra lui e loro correva a vuoto lo spazio di quasi tutto lo stanzione il capo Morris disse parli se vuol parlare a lui non servirà niente noi invece ci passiamo il tempo mentre aspettiamo che torni Riccio con la sentenza Seth scosse la testa si farà solo mangiare dell'altra rabbia disse ma tutti si erano già voltati a sentir Blister Blister ruotò ad agio la testa per mostrare come gliel'avevano conciata poi disse accuratamente guardate come avete conciato il vostro vecchio Blister uno gridò cosa ti aspettavi che ti facessimo le carezze sei un delinquente Blister di meno la testa e disse col medesimo tono avete fatto molto male dovevate ricordarvi che io sono di almeno quindici anni più vecchio del più vecchio fra voi ho i capelli grigi e ho dovuto sentire uno come Riccio che assiennò sedici anni che bestemmiava perché non arrivava a darmi un pugno sul naso disse Morris qui l'età non c'entra qui c'entra solo essere partigiani onesti o ladri noi siamo onesti e tu sei un ladro e così noi ti abbiamo picchiato e ringrazio a Blister che abbiamo fatto le cose tra di noi la prima idea era di legarti alla pompa del paese e tutti i partigiani di passaggio avevano il diritto di darti un pugno per uno e sarebbe stata una cosa giusta perché tu hai sporcato la bandiera di tutti blister blister non posso farvi schifo cosa è capitato fino all'altro giorno io ero il vostro vecchio blister e senza offendere Morris ero il numero uno dei partigiani di Cossano ognuno di voi stava più volentieri con me che con chiunque altro potete forse negarlo quando ci incontravamo con le altre squadre voi mi mostravate a tutti perché non c'era nessuna squadra un uomo vecchio come me allora mi presentavate come il vostro vecchio blister e vi facevate vedere a tenermi una mano sulla spalla io sono quello che vi ha tenuti sempre tutti di buon umore da chi andavano quelli di voi che avevano il morale basso venivano da blister come se blister fosse un settimino e che io sapevo il segreto perché voi siete ancora tutti ragazzi mentre io ho 40 anni e ho imparato che la vita è una cosa talmente seria che va presa qualche volta sotto gamma altrimenti l'attenzione ci fa crepare tutti vi ricordate quel giorno che arrivò Morris e ci disse che l'indomani ci sarebbe stato un rastrellamento mai visto poi non ci fu ma Morris non ci aveva nessuna colpa perché ci aveva solo detto quello che il capitano aveva detto a lui ma nella notte avevate tutti il morale basso eravati pieni di presentimenti vi ricordate che cosa ho fatto io? verso mezzanotte ho cominciato a tirar fuori una barzelletta e poi un'altra ed un'altra voi non finivate più di ridere arrivò la mattina e si poteva vedere che il rastrellamento non c'era adesso mi sanguina il cuore a pensare a quella notte e darei non so cosa perché niente fosse cambiato dall'ora giunse di nuovo le domani e domandò ma perché siete cambiati con me? per la balla che ho fatto chiamo la balla disse Morris sai come si chiama nella legge la tua balla? rapina a mano armata e per di più fatta in divisa da partigiano sarà come dici tu Morris sarà che ho rubato ma io non ne sono persuaso per me io mi sono solo sbagliato perché ero briaco disse Svet questa non è mica una scusa questo significa che sei un porco ancora di più lascia perdere Svet disse Blister fatto sta che ero ubriaco e mi ero ubriacato in questo modo andavo a spasso per la collina ma avevo il mio moschetto a tracolla perché nessuno può dire che Blister non faceva il partigiano sul serio a un certo punto mi sento sete e vado alla prima cascina e dico al padrone di darmi un bicchiere di vino vedete come vanno le cose alzi una mano che non è mai andato a una cascina per farsi dare un bicchiere di vino ah nessuno può alzarla il padrone per prendere un bicchiere apre la credenza e io vedo che nella credenza c'era una mezza bottiglia di marsala allora gli ho detto di darmi un bicchiere di marsala invece che di vino lui me l'ha dato e ho finito per bergli tutta quella mezza bottiglia il padrone non protestava io ho un'età che la roba un po' forte è una necessità del corpo e l'ho bevuta tutta però in quella cascina non ho fatto niente di male perché la marsala ha cominciato a farmi effetto quando ero già lontano un chilometro ma guardate le cose mi è tornata la sete e così sono entrato in un'altra cascina dove c'era un padrone ed una padrona giuro che non ho visto che la padrona aveva la pancia rotonda ho chiesto un bicchiere di grappa e l'ho chiesto un po' da prepotente questo è vero ho finito per berne tre allora dentro di me c'è stata la rivoluzione mi son trovato in mano il moschetto che avevo a tracolla e ho sparato a lume sopra la tavola e un altro colpo nel vetro della credenza la padrona aveva alzato le mani e strideva come un'aquila e il padrone mi grida la mia donna è incinta per amor di dio non spaventarla o le succede qualche pasticcio dentro io non sentivo più nessuna ragione cercavo solo qualche altra cosa di vetro da spararci dentro allora il padrone mi ha girato dietro e con uno spintone a tradimento mi ha buttato fuori e ha subito sprangato la porta fuori c'era legato il cane e voleva saltarmi addosso io gli ho fatto un colpo dentro e quel cane è stato secco ero ubriaco marcio ero matto e capisco che sono stato un gran migliacco specialmente con quella donna incinta e anche con quel povero cagnetto ma se mi fermavo lì voi non mi facevate la parte che mi avete fatto per il resto nessuno gli rispose blister si portò le due mani alla testa ma per sfiorarla appena e si lamentò così che male mi fa la testa sento bisogno di toccarmela ma se me la tocco mi brucia come il ferro rosso e non posso neanche più parlare guardò i partigiani uno ad uno e poi disse Jim tu che mi sembra mi hai sempre voluto bene vami a prendere un mestolo d'acqua non posso quasi più muovere la lingua dentro la bocca vai pure a prendergli l'acqua disse Morris a Jim e a blister puoi anche smettere di parlare tanto è come se parlassi ai muri e poi non dipende più da noi ho mandato Riccio dal capitano a prendere la tua sentenza e il capitano è uno che ci tiene la bagniera pulita ed è più facile faccia la grazia ad uno della repubblica che uno dei suoi occhi ha rubato blister aveva trasalito hai mandato Riccio dal capitano ah Morris non mi hai mica trattato bene dovevi dirmelo che mandavi Riccio dal capitano così io prima parlavo a Riccio non gli dicevo mica niente di segreto gli dicevo solo di spiegare bene al capitano chi sono io il capitano ne comanda tanti che non può ricordarsi di tutti al capitano io ho parlato una volta sola ma quella volta il capitano mi ha detto bravo blister questa è una cosa di cui vorrei che il capitano si ricordasse io l'avrei detto a Riccio Morris scosse la testa stai sicuro che anche stavolta il capitano ti dice bravo blister ma in una maniera che te ne accorgerai rientrò Jim col mestolo d'acqua blister lo prese con due mani e beve ma si sprodolava tutto Seth stette a guardarlo per un po' e poi feci puah non fare il teatro blister blister alzò gli occhi a Seth e abbassò il mestolo disse non faccio il teatro Seth lo vedi anche tu che ho un labbro spaccato e adesso che ci penso devi avermelo fatto proprio tu perché ci sei solo tu qua dentro ad avere un pugno di quella forza tu non sei mai stato mio amico puoi dirlo e adesso sono il solo che può dire di non essersi sbagliato sul tuo conto io ho sempre diffidato di te non capivo cosa veniva a fare uno della tua età in mezzo a te giovani come noi io avevo il sospetto e blister tu hai il sospetto come tutti quelli che non capiscono o capiscono troppo tardi qui dentro sono tutti buoni in fondo meno te tu Seth incomincia a farmi paura Seth allargò la bocca come per ridere e disse io me ne vanto di far paura ai delinquenti blister disse galmo ma io non sono persuaso di essere un delinquente e se me lo dici tu ne sono ancora meno persuaso scrollò le spalle si voltò agli altri e disse adesso che ho bevuto voglio dirvi la fine solo per farvi vedere come vanno le cose io ero ubriaco ed alla cascina della grappa sono andato a un'altra cascina mi pare che volevo dormire e dormire in un letto forse era l'effetto del bere ma per me quella cascina aveva un'aria misteriosa c'era un silenzio tutte le imposte chiuse in pieno pomeriggio non c'era nemmeno il cane da guardia viene ad aprire un vecchio dopo che io avevo bussato tre o quattro volte ma non mi ha mica aperto ha slargato appena la fessura della porta e mi ha guardato in faccia si capisce che io avevo una faccia un po' sfisionomata ma non credo che fosse una faccia cattiva invece quel vecchio deve aver preso paura della mia faccia e pian piano cercava di richiudere l'uscio e nel mentre mi diceva tutto di seguito io ai partigiani ho già dato un vitello i salami di mezzo maiale ho dato un quintale di nocciole per fare l'olio e due damigiane di vino io non ho mai chiuso la porta in faccia ai partigiani e non gliela chiuderò mai ma non mi piacciono i partigiani che girano da soli credeva di avermi ragionato e teneva la porta ancora socchiusa forse per vedermi andar via io invece mi sono incarugnito ero ubriaco ho fatto forza con le spalle e sono entrato una stanza scura e c'era una donna giovane che mi sembrava saltata fuori per magia il vecchio aveva paura e mi dice questa è la sposa di mio figlio prigioniero in Russia la donna invece non aveva paura e ha incominciato a farmi un mucchio di domande chi ero chi era il mio comandante cosa cercavo troppe domande per il carattere di uno nello stato in cui ero io a tutte quelle domande io mi metto a pensare costoro hanno il sospetto e chi è il sospetto ha il difetto mi guardo intorno e la prima cosa che vedo è un gagliardetto del fascio un gagliardetto nell'angolo più scuro della stanza Morris disse non era un gagliardetto era una bandiera che aveva guadagnato suo marito a ballare tant'è vero che c'era sopra ricamato gara danzante primo premio disse Blister lo so che lo sai Morris l'ha detto la donna al processo che mi avete fatto ieri ma io l'ho preso per un gagliardetto e lo prendeva per un gagliardetto chiunque fosse stato partigiano ed ubriaco allora gli ho dato dei fascisti e degli spioni li ho puntati col moschetto e li ho messi tutti e due al muro il vecchio si è messo a piangere ma la donna strideva come un'aquila non voleva stare al muro e ho dovuto rimettercela tre volte poi gli ho detto il gagliardetto ce l'avete adesso guardo se avete anche il ritratto di Mussolini e invece hai trovato l'oro e te lo sei preso tutto io ero convinto che erano fascisti e chi è che lascia la roba ai fascisti Morris continuò e poi si è andato a venderlo a quell'uomo di Castiglione cosa ne facevo dell'oro parlò Seth già non ne facevi niente la rabbia gli scuoteva tutto il corpo un momento prima si era allentata la cinghia per aggiustarsi i calzoni alla vita ed ora non riusciva più a ristringerla per via della fibbia che gli ballava tra le dita tremanti disse ma non farai mai più niente di niente se il capitano è d'accordo Blister drizzò la testa e chiese ma per quello che c'è stato e che vi ho raccontato volete proprio prendermi la pelle ma allora non è meglio che me la facciate prendere dalla Repubblica non è una condanna più da partigiani se proprio volete che io ci lasci la pelle stanotte mandatemi ad Alba a disarmare da me solo un posto di blocco io ci vado naturalmente da me solo non ci riesco la Repubblica mi fa la pelle e voi siete soddisfatti tutti scoppiarono a ridere di scherno e Morris disse stai fresco che ti mandiamo ad Alba tu ci vai fino ad Alba e nessuno ne dubita ma poi a 50 metri dal posto di blocco lasci cascare il fucile alzi le mani e gridi che sei scappato dai partigiani che vuoi arruolarti nella Repubblica e che se loro ti danno fiducia tu gli fai prendere in un colpo solo tutti i partigiani di Cossano stai fresco blister che ti mandiamo ad Alba prima ancora che Morris finisse blister aveva steso avanti le mani le agitava in aria come se volesse cancellare le parole di Morris disse ah Morris non sei giusto non parli bene sopporto che mi date del ladro ma non del traditore non c'è nessuno che può trovare da dire a blister come partigiano io ho sempre fatto il mio dovere di partigiano non ho mai fatto niente di speciale ma chi è che ha fatto qualcosa di speciale però io l'ho fatto qualcosa di speciale adesso che ci penso ed è stato quando è finita la battaglia di Alba e il vescovo di Alba ci ha fatto sapere che la Repubblica era disposta a darci indietro i nostri morti c'era o non c'era blister in cui i sei che sono entrati in Alba nel bel mezzo della Repubblica a prendere i morti partigiani i morti erano sul selciato già nelle loro casse e intorno c'erano degli ufficiali della Repubblica con l'elmetto in testa i guanti nelle mani aspettavano che arrivassimo noi e noi siamo arrivati su un camion tedesco di quelli gialli pare da bellica lampante abbiamo preso quel camion là per non fare la figura di essere completamente al passivo gli ufficiali della Repubblica hanno arricciato il naso a vedere quel camion tedesco ma poi non hanno detto niente e quando abbiamo finito di caricare le casse sul camion uno di quegli ufficiali viene da me forse perché ero il più vecchio e mi dà la mano da stringere ma a vigliacco se io gli ero stretta è stata una scena chiedete alla gente di Alba che stava a vedere dalle finestre e non respirava nemmeno più per la paura che succedesse qualcosa da un momento all'altro e questo è capitato il 3 di novembre ed è stata una cosa speciale perché se non è speciale che un vivo giochi la sua pelle per portare a casa dei morti allora di speciale non c'è più niente quindi come partigiano Blister lasciatelo stare e fate l'esame di coscienza prima di fargli la pelle adesso lo lasciavano uscivano tutti in fila doveva esserci stato un gesto di Morliss che Blister non aveva notato vanno a mangiare deve essere mezzogiorno pensò lui da ieri ho perso il concetto del tempo si sentì come se il cuore gli precipitasse in un burrone aperto nello suo stesso corpo finché parlava ed era ascoltato si sentiva difeso nel silenzio e nella solitudine si perdeva guardò in faccia quelli che uscivano per ultimi per cercare di leggervi l'effetto del suo discorso vide che Seth aveva un'ombra su tutta la faccia e pareva avercela con Morris Morris uscì l'ultimo e dal fondo dello stanzone Blister lo richiamò Morris lo so che non posso venire a mangiare con voi però fammi dire l'ora di tanto in tanto Morris Morris annui e uscito lui la chiave girò due volte nella toppa mangiavano nell'altro stanzone e ne veniva rumore di piatti di vetri e di posate ma non di voci a tavola parlano sempre alle volte gridano oggi no oggi mangiano e pensano è l'effetto del mio discorso si ricordano di nuovo bene del vecchio Blister si lasciò andare a sorridere poi la sentinella aveva aperto ed era entrato il cuciniere con un piatto con dentro carne e pane aveva fatto appena un passo dentro e posato il piatto per terra vicino all'uscio come ai cani Blister l'aveva ringraziato lo stesso ma il cuciniere gli disse ringrazia il cuore debole di Morris io questa carne me la mettevo sotto i piedi piuttosto che portarla a te e poi è roba sbregata non ha più tempo di farti pro il cuciniere uscì ma subito rientrò con due cose che doveva aver lasciato dietro l'uscio un secchio d'acqua e uno straccio da sciogamani che posò dicendo per lavarti la faccia devi averla pulita quando ti portiamo fuori e uscì definitivamente Blister non toccò il mangiare prese il secchio e se lo portò fino allo sgabello ci si sedette col secchio tra le gambe cominciò a lavarsi ma a passarsi le mani sulla faccia gli bruciava allora intingeva le dita nell'acqua e poi se la spruzzava in faccia e aveva l'aria di godere come uno che si spruzza un profumo parlavano dietro la porta scostò il secchio in punta di piedi e con la faccia gocciolante andò all'uscio e ci stette ad origliare riconobbe le voci di Morris e di Seth parlavano con molte pause come chi sta fumando ma senza riservatezza e sembrava Blister che dovessero farlo apposta a parlare tanto chiaro diceva Morris cosa fa Riccio che non torna Riccio è di quelli che l'hanno di più con Blister per quello che ha fatto Seth diceva fammelo fucilare da me che io gli sparerò come se fosse un repubblicano e Morris bisogna stare a vedere se Riccio torna con le guardie del corpo sei tu che vai a toglierlo di mano alle guardie del corpo ma se deve essere uno di noi quello voglio essere io e dov'è che lo facciamo ho pensato a Madonna del Rovere è un po' lontano come posto ma è sicuro Seth non pareva interessato al posto e disse solamente davvero Morris io mi sento di spararli senza nessuno scrupolo con la sigaretta in bocca Blister non aveva perso una parola e alla fine pensò l'hanno fatto apposta a farsi sentire da me è tutto teatro vogliono solo farmi prendere uno spavento e poi lasciano correre vogliono farmi provare l'agonia ma adesso io so come regolarmi cominciò a sorridere e sorrideva ancora quando nel cortile si alzò un vocio e da questo apprese che era tornato Riccio si portò di fronte alla porta e aspettò i due giri di chiave adesso tutto dipendeva da che Riccio fosse tornato solo e non con le guardie del corpo il presidio di Costano faceva tutto teatro ma le guardie del corpo difficilmente si adattavano a fare solo teatro non si scomodavano per così poco sotto questo aspetto era gente tremendamente seria ma quando la porta si aprì erano tutti i suoi compagni quelli che si accalcarono dietro Morris e Riccio e stavano a fissarlo come affascinati Morris spiegò un foglietto da tacquino e nel silenzio fece lettura di una condanna a morte mediante fucilazione e aggiunse te lo dicevamo che il capitano non perdona queste cose ha detto che si vergogna lui per te Blister allargò le braccia e poi le lasciò ricadere sui fianchi Morris si sporse a scrutarlo fosse che i pugni gli avessero fatto una maschera o fosse altro Blister sorrideva un sorriso da furbo uscirono di paese e andavano col passo legato di chi segue un funerale a un ballatoio si affacciò una ragazza era in confidenza con i partigiani e doveva saper tutto su Blister perché dal ballatoio lo guardò precisamente come l'avevano guardato i partigiani da sulla porta Blister guardò su le strizzò l'occhio e passò via camminava in testa tra Morris e Seth ogni tanto si voltava per un'occhiata a quella processione e quando si rigirava rifaceva il sorriso da furbo passarono il ponte sul belbo e cominciarono la piana che cessa all'imbocco della valle della Madonna del Rovere Morris guardando indietro vide che una mezza dozzina di suoi uomini si erano staccati dalla fila e indugiavano sul ponte con le mani in tasca e la testa sul petto disse a Seth di proseguire e lui tornò al ponte quando vide che Morris tornava Jim si chinò e si diete da fare con legaccio di una scarpa Morris gli arrivò davanti e disse è inutile che fai finta di legarti una scarpa tirati su che ho capito benissimo le guardò in faccia uno ad uno e disse parole chiare cosa vi prende non siete ancora convinti che Blister è un delinquente e non volete immischiarvene Jim disse per essere convinti siamo convinti ma non ce la sentiamo lo stesso e che noi eravamo abituati a Blister non t'arrabbiare Morris ma noi torniamo indietro Morris invece si arrabbiò e disse duramente avete la coscienza molle però fate come vi pare ma è chiaro che quelli che vanno fino a Madonna del Rover e ci vanno per fare giustizia questo sia chiaro Jim disse questo è chiaro Morris e nessuno dirà mai il contrario e Morris tornò su Blister stava dicendo a quello che gli veniva dietro non pizzicarmi i talloni Pietro Pietro rispose e tu cammina e Blister io cammino ma devi capire che non posso avere il tuo passo perché io ho un'altra età che la tua poi si rivide Morris accanto e gli domandò dove era stato e Morris gli disse che si era dovuto firmare per legarsi una scarpa Blister gli sorrideva un sorriso proprio naturale e finì con lo strizzarli l'occhio e poi gli disse non farmi quella faccia da mortorio Morris va là che sei un bel burlone bei burloni che siete tutti Seth poi è il campione dei burloni è quello che fa meglio la sua parte ma è la faccia che lo aiuta di più che è tetra per natura voi non vi sognate nemmeno di fucilarmi mi avete già quasi perdonato e se non fosse per la figura mi tratterreste già di nuovo come prima quando il presidio di Cossano non si poteva nemmeno concepire senza il vecchio Blister però pensate che a non farmi niente io la passo troppo liscia e cercate di farmela pagare un pochino ma io ho già fiutato che farete tutto in regola meno la raffica e meno la fossa volete solo farmi venire un accidente farmi prendere uno spavento che mi serva di lezione e poi per voi io sono già bello e castigato volete che io mi metta in ginocchio che preghi a mani giunte che mi pisci nei calzoni e nient'altro ma se solo per questo perché far sgamberare me e voi fino al ruvere potevate ben farmelo nel cortile giù a Cossano invece no tutto per il teatro fino al ruvere è lontano Cristo Blister si era fermato per fare questo discorso e con lui si erano dovuti fermare Morris e Seth e i primi della fila Seth con uno scossone ripartì e spingendo avanti Blister disse Rauco io se fossi in te non lo direi più Cristo a questa mira Blister stiro la faccia come se avesse un sospetto ma poi ripigliò a sorridere e guardando Seth con la coda dell'occhio è tutto teatro quello che fate disse e fin qui l'avete fatto bene ma dovreste esserne già un po' stufi come entrarono nella valle da tutti i pagliai i cani di guardia cominciarono a latrare e a sbattacchiare le catene Morris sopportò un poco quel chiasso e poi gridò possibile che non si strozzino a questi cani bastardi Blister disse calmo sono i nostri peggiori nemici vengono subito dopo la repubblica Pietro passò avanti e fece con la testa un segno a Morris scese a una cascina e gli ultimi della fila si fermarono ad aspettarlo sul bordo della strada Blister Morris e Seth e gli altri erano andati avanti ed entrati in un castagneto da valle venne qualche grido incomprensibile e poi una voce che chiamava chiaramente Morris quando fu tornato sulla strada Morris vide giù nell'aia della cascina Pietro che alzava le mani vuote e additava un vecchio contadino che gli stava accanto Pietro mise le mani a tromba intorno alla bocca e gridò oh Morris non me la vuol dare Morris gridò perché non te la vuol dare laggiù il vecchio contadino stava come una statua Pietro gridò dice che ce ne ha già imprestata una e non gliel'abbiamo riportata Morris gridò al contadino dategliela io sono Morris garantisco io che vi torni a casa Pietro e il contadino sparirono sotto un portico e poi si vide Pietro risalire il pendio con una zappa sulle spalle tutti fissavano l'arnese mentre Pietro risaliva e poi ancora quando si ritrovò sulla strada Morris disse a Pietro adesso noi portiamo blister in un posto pulito ma tu la fossa vai a farla nel selvaggio dove non passa gente e falla profonda come si deve che poi non spunti fuori niente disse Pietro va bene ma poi stasera a cena non voglio vedere nessuno che non mi vuol mangiare vicino e nessuno che mi dica di andarmi a lavare le mani due volte siamo intesi? ciò detto se ne andò con la zappa per un sentiero trasverso era un posto pulito una radura dove i partigiani di Cossano si fermarono si misero su due file lasciando in mezzo un largo corridoio come la gente che aspetta di vedere una partita a bocce e quando Blister venne a mettersi in cima a quel corridoio si tolsero le mani di tasca e si tirarono un poco indietro Blister appariva fortemente arrabbiato e disse voi fate come volete però la regola è che un bel gioco dura poco e guardò Morris perché stava in Morris di finirla con quel teatro Morris tendeva l'orecchio al castagneto sentiva venirne il picchio della zappa di Pietro faceva un rumore dolce guardò Blister per capire se anche lui sentiva quel rumore ma dalla faccia sembrava di no e allora Morris si disse che Blister era veramente vecchio invece Blister afferrò quel rumore e capì ed emise un mucolio di quelli che fanno gli idioti che hanno sempre la bocca spalancata poi urlò Raul con una voce che fece drizzare le orecchie a tutti i cani nella lunga valle e corse incontro a Seth che era apparso in fondo al corridoio corse avanti con le mani protese come a tappare la bocca dell'arma di Seth e così i primi colpi gli bucarono le mani le due guardie marciavano come se ogni volta calassero i tacchi su capsule di potassa Max camminava avanti testandosi il petto lo sterno risaltava subito sotto le dita era diventato magro da far senso a se stesso per la fame partita in quei due mesi di neve sulle colline non c'era più polpa tra la pelle e lo sterno le pallottole gliel'avrebbero schiantato immediatamente si strizzò la pelle e si arrestò netto uno dei soldati lo gomitò nella schiena e lui si rincamminò ecco com'è finita gridava dentro di sé mi fucilano maledetti i miei amici è per loro che io sono entrato nei partigiani perché già c'erano loro e maledetti tutti quelli che parlano della libertà mia madre farà bene ad andarli davanti e gritarli in faccia che sono degli assassini da qualcuna delle tante porte di quel lunghissimo androne uscivano voci come tocca a caprara uscire di ronda e chi ha visto il terreno dei guerrini frasi qualunque di caserma e dette nella sua lingua ma all'orecchio di max suonavano misteriose e terribili come voci di una moltitudine di selvaggi africani che hanno catturato uno sperduto uomo bianco e si apprestano a sacrificarlo lui era l'uomo bianco devierono verso una porta sfumata nell'oscurità e scesero un paio di scale da sotterraneo a metà delle scale gli occhi già gli lacrimavano per il freddo poi intravide un barlume di luce e si asciugò gli occhi con l'orso della mano si trovavano al piano in un corridoio lungo basso e stretto con in fondo una lampada insufficiente nel cerchio di luce stava una sentinella che come li vide comparire si staccò dal muro e gli mosse incontro con una mano tesa e dicendo forte un momento fatemelo vedere nel muso questo traditore ma le due guardie non l'aspettarono e quando l'altro arrivò Max già stava dietro un sciolo con spioncino quando la chiave fu levata dalla toppa allora si voltò a guardare il posto era buio come un pozzo salvo che per una ragnatela di luce grigiastra che pendeva da una botola in un angolo del soffitto ed era una ghiacciaia il freddo l'attanagliò tutto e prontamente come se adesso fosse affidata alla prima tortura sentì un respiro cricchiare della paglia e vide alzarsi una forma umana sei partigiano anche tu? ti è andata male come a me? una voce giovane ma rauga lui non rispose senza togliergli gli occhi di dosso si portò sotto la botola al chiaro l'altro l'aveva seguito fin là e Max si sentì male quando vide una faccia pesta e due occhi famericamente curiosi ancorché somi sommersi del ridondare della carne tumefatta l'altro disse adesso mi va già meglio dovevi vedermi subito dopo il trattamento si sporse a guardarlo bene in faccia la nebbietta del suo fiato investiva la bocca di Max te però non t'hanno picchiato vallo a domandare a loro perché non me l'hanno fatto forse all'interrogatorio gli hai risposto come volevano loro non è vero mi sono tenuto su nelle risposte capito? e va bene me invece mi hanno picchiato perché non dicevo quello che volevano loro c'è un partigiano dei nostri che ha preso uno dei loro e prima di finirlo gli ha cavato gli occhi io so che il fatto è capitato ma hanno un centro loro volevano che confessassi che ero stato io a cavargli gli occhi tu non sei mica Garibaldino io ero badogliano l'altro gli andò via davanti allora puoi ancora sperare disse cominciando a fare il giro della cella i preti si fanno in quattro per salvarvi la vita voi badogliani ma per noi rossi non alzano un dito max si offese della stoltezza di questo Garibaldino che trovava che lui poteva sperare per il solo fatto che era badogliano tu non sai quel che ti dici per la repubblica siamo tutti nemici uguali l'altro sorrise io so bene quel che mi dico da quando sono qua sotto ho già visto un Garibaldino andare al muro e due badogliani uscire grazie a un cambio che gli hanno combinato i preti della curia di quel che ti pare ma se ci troveremo tutti e due al muro allora ti dirò io due parole era molto irritato ma poi tremò ripensando al modo naturale con cui aveva potuto parlare del muro l'altro taceva guardava in terra ma non pareva proprio mortificato max guardò la botola e chiese dove dava da nel cortile dove ci troviamo nelle cantine del seminario minore ma adesso non farmi più domande e andò in un angolo dove si accucciò sulla paglia perché disse max facendo un passo verso di lui hai paura che io sia una spia che mi abbiano chiuso qui dentro per farti cantare scosse la testa lo vedo bene che sei un disgraziato come me ma non ho più voglia di parlare prima speravo che mi dessero una compagnia in questa cella e adesso che me l'è andata per me è un male che ti abbiano messo con me mi accorgo adesso che mi toccherà cambiare quasi tutte le abitudini che mi son fatte max andò a sedersi sulla paglia nell'angolo opposto e tra loro due passò un lungo silenzio per via del buio non era sicuro che l'altro lo guardasse ma lui fissava l'altro e questo gli impediva di pensare soltanto a se stesso lo fissava e si diceva sento che ci fucilleranno insieme lo sento chissà se sente anche lui la stessa cosa ma gli mancò il coraggio di domandarglielo fu l'altro a riattaccar discorso prima si dimenò un poco come a vincere una resistenza e poi disse è il maggiore che ti ha interrogato e te l'ha poi detto per quando non me l'ha detto di preciso ascolta che discorso mi ha fatto mi ha detto che stasera lui gioca a poker con i suoi ufficiali e si perde se perde non mi lascia vivere fino a domani a metogiorno quel discorso lì l'ha fatto anche a me sembra che lo faccia a tutti ma allora lo dice per scherzo no non lo dice per scherzo è una specie di libidine che ha il maggiore ma non lo dice lo disse anche a fulmine quel garibaldino che te ne ho parlato prima venne giù personalmente una sera a dirglielo in cella e l'indomani i fulmine lo portarono fuori al cimitero a max cadde la testa sul petto poi pensò che l'altro lo osservava rialzò la testa e domandò ne danno da mangiare come mangiano loro e uscire niente uscire nemmeno un minuto al giorno così è dura mica vero a me non uscire non mi fa già più nessun effetto pensaci un po' cosa vuoi che me ne faccia di vedere un pezzo di mondo se tanto non posso vederlo come vorrei io si drizzò e andò in un angolo dopo un momento max sentì un rumore d'acqua che cade dall'alto in una letta il getto gli parve estremamente fragoroso poi l'altro si scrollò tornò al suo posto senza nemmeno riabbottonarsi la braghetta si rimise giù sulla paglia e disse eh in questo stato la vita dovrebbe scaderti dal cuore dovrebbe farti venire voglia di darle un calcio in culo e ma la voglia di vivere invece non ti va mica via a max si misero a tremare i ginocchi presto sbatterono l'uno contro l'altro con un suono secco legnoso da prima ficcò le mani tra i ginocchi per tenerli discosti poi salto via dalla paglia camminava su e giù dal suo angolo l'altro lo studiava cos'hai? freddo? paura? freddo? tutte e due? ma per adesso più freddo che paura mentì perché gli sembrava che l'altro non ne avesse di paura se comincia ad avere freddo adesso chissà stanotte voglio sperare che stanotte mi lasci dormire max fece dietro fronte tu la notte dormi qui dentro? sicuro che dormo capirai che se anche devo essere fucilato ma la fucilazione si fa aspettare otto giorni capirai che non posso sempre star sveglio sono otto giorni che sono qua dentro soltanto la prima notte sono stato sveglio un bel po' ma adesso mi addormento facilmente torna a sederti va max tornò a sedersi e dopo un po' gli domandò come si chiamava mi chiamo lancia nome di battaglia si capisce io max e quanti anni hai? lancia gli rispose che andava per i venti e max non se ne capacitava perché la faccia che lancia gli aveva presentata sotto la botola era quella di un uomo di almeno trent'anni ma poi pensò che lancia era stato picchiato che era da otto giorni in quel sotterraneo senza lavarsi nel radersi e che soprattutto era uno che nel migliore dei casi gli restava qualche decina di ore da vivere e credette ai vent'anni di lancia sentì lontana la voce di lancia gli domandava ai suoi anni tanti come te lancia disse solamente facciamo una bella coppia e sembrò a max che la voce gli avesse fatto di lecca per la prima volta per il corridoio venivano uomini max puntò le mani sulla paglia ma lancia gli disse non ti impressionare sono solo quelli che portano la sbobba andarono insieme alla porta da fuori aprirono ed un uomo accompagnato da una guardia sporse dentro due gavette e due pagnotte a lancia diedero subito la sua parte ma max lo fecero aspettare tenendo indietro la sua roba per aver modo di guardarlo bene in faccia perché max era una novità lancia l'aveva aspettato e tornarono insieme ai loro angoli con le gavette calde strette e forte tra le mani lancia sorrise ti rincresce persino vuotare la gavetta perché finché c'è la roba dentro ti scalda le mani intanto bene ma il calore è meglio averlo nello stomaco il guaio è che dura poco fin dai primi bocconi max si sentì fortificato ma il cibo gli si incagliò in gola quando alzando a caso gli occhi vide l'ultimo chiarore ritirarsi su per la botola come se una qualche forza l'aspirasse da sopra era naturale che a quell'ora la luce venisse meno stava cadendo la sera d'inverno non è naturale gridò max dentro di sé non è naturale stentò a finire la buona minestra della repubblica posò la gavetta a terra tra i piedi e stette a fissarla con la testa fra le mani pensava che aveva finito di mangiare finito di fare una cosa che forse non avrebbe più potuto rifare rialzò furiosamente la testa e guardò lancia aveva finito anche lui di mangiare e stava posando la gavetta con un gesto lentissimo senti lancia senti io ho tanti buoni amici e compagni su in collina mi fido soprattutto di uno che si chiama luis a quest'ora sanno di sicuro che sono stato preso e portato prigioniero ad alba e si saranno mossi per fare qualcosa per me è impossibile che non facciano niente lancia tardava a risponderli e max non discerneva più la sua faccia poi lancia disse pensala come ti pare max annaspò per lo stupore e poi disse violento ma in che maniera mi rispondi se io dico come la penso io tu mi salteresti addosso lo stesso beh te lo dico non aspettarti niente da fuori non farti nessuna illusione su fuori anch'io avevo su in collina degli amici e dei compagni ma in otto giorni non hanno fatto niente può darsi che pensino a noi ma sai come la gente sana pensa ai tisici d'altronde io mi ricordo che ero anch'io così quando ero libero e sentivo che la repubblica aveva preso il tale partigiano ci pensavo su un momento e poi tiravo avanti e non ne facevo niente e così va bene finché capita agli altri ma stavolta è capitato a noi sai cosa vogliono ancora dirti ti gioco che i nostri parlando di noi dicono che siamo stati dei fessi a farci prendere sono tanti vigliacchi io sono stato preso a tradimento non mi sono fatto prendere come un fesso la nebbia come ha tradito me poteva tradire chiunque odiava i suoi amici e compagni li vedeva in quella notte girare per le alte colline liberi e padroni della loro vita armati tranquilli e superbi vedeva le colline illuminate come è un giorno per via del lume della luna sulla neve gelata sentiva il vento arrivare dal mare passando per il grande barco tra gli appennini e le alpi si percosse la fronte coi pugni e gridava la libertà la libertà la libertà lancia si era rizzato sui ginocchi e trascinato fin da lui le aveva attanagliato un braccio ed ora lo scrollava non fare il matto non alzare la voce il suo tono era bassissimo e spaventato l'orecchio teso alla porta ti fai sentire dalla guardia viene alla porta e si mette a prenderci in giro con la tua libertà sono tremendi per prendere in giro poi tornò ginocchioni alla sua paglia stai calmo e fai come faccio io adesso allungati e dormi tu sei pazzo sei tu pazzo io voglio restare sveglio dovessi tenermi gli occhi aperti con le dita senti la paglia gemere sotto il corpo di lancia aspetta un momento lancia dimmi una cosa non c'è pericolo che entrino qua dentro al buio e che ci facciano fuori con la pistola qui no se è per quello qui fanno le cose in regola ti portano fuori col plotone lancia doveva avere proprio sonno già la sua voce si era espessita te l'ho chiesto perché a un mio amico in prigione hanno fatto fare quella fine lì qui no e lancia calò la testa col braccio lui si rannicchiò nel suo angolo ora che lancia dormiva lui rimaneva solo con se stesso avrebbe pensato soltanto a se stesso era necessario forse era già persino un po' tardi ma pensare a se stesso l'atterriva non raccoglieva la forza di cominciare così stette attento al respiro di lancia e ai moti del suo corpo il buio non aveva ancora scancellato quella forma rattrappita lancia per terra l'affascinava immaginò di avvicinarli si giaceva sulla faccia lui l'aveva preso per le spalle adesso lo rivoltava lancia si lasciava fare con la greve e docilità dei cadaveri ma rigirato che l'ebbe vide innestata sul corpo di lancia la sua testa la sua faccia in tutto e per tutto la sua era la faccia del suo cadavere con gli occhi sicillati la bocca schiuse e la gola firma questa è soltanto la fine non è ad essa che devo pensare il difficile è arrivare alla fine è su questo punto che mi devo preparare venivano gli comandavano ad alzarsi e camminare sulla porta lui si voltava a vedere se lancia lo seguiva si veniva anche lancia ci porteranno un muro qualunque e a un certo punto toccheremo questo muro con la schiena no ci faranno mettere con la faccia il muro vorranno fucilarci nella schiena noi per loro siamo traditori non deve fare nessuna differenza tanto anche se ci mettessero di fronte non ce la faremo a tenere gli occhi aperti fino alla fine in quel momento pensò la scarica e atrocemente indurì il petto per non lasciarle il passo dentro il suo corpo ma si sentì come gli prendessero il cuore i polmoni asforbiciate saltò via dalla paglia d'impeto arrivò da lancia frenò la gamba in tempo per non dargli un calcio in un fianco ne colse il respiro corto e frequente lo guardò così in basso come se già posasse in fondo a una fossa come lui ora guardava lancia i suoi esecutori avrebbero guardato lui dopo pensò di svegliarlo premendogli una mano sulla spalla e con pronte in bocca le parole per assicurarlo non appena aprirsi gli occhi ma lancia si sarebbe spaventato e poi si sarebbe infuriato il pensiero della collera di lancia lo fermò aggirando il corpo di lancia andò nell'angolo della latta ci orinò dentro con violenza cercando di fare più rumore possibile così forse lancia si sarebbe svegliato e non avrebbe potuto dirgli tanto ma quello respirò un po' più forte e si girò semplicemente sull'altro fianco non si riabbottonò la braghetta e scavalco l'ancia tornando affondò le mani nelle tasche dei calzoni e si sentì sotto i porpastrelli tra il pelo della stoffa grani di pane e fili di tabacco il pane che aveva mangiato il tabacco fumato in un tempo imprecisato qualunque del quale poteva soltanto dire che allora era libero gli partì un singhiozzo tale che poteva aver barcato la porta ed essere giunto all'orecchio della guardia di fatti sentì muovere nel corridoio passi di chi viene a sorprendere in flagrante fatti accuratamente sulla punta del piede ma poi la guardia dovette cambiare idea si riallontanava con passi non più segreti fatti su tutto il piede tornato al suo angolo guardò su alla botola è buio ma non deve essere molto tardi saranno le otto a quest'ora già abbiamo mangiato già dovrei dormire come fa l'ancia più niente dipende da noi per noi il giorno e la notte ce li fa il maggiore ci fa lui la vita e la morte è spaventoso che degli uomini abbiano una simile potenza una simile potenza dovrebbe essere soltanto di Dio ma Dio non c'è bisogna proprio dire che non c'è chissà se il maggiore si è già messo a giocare fece con gli occhi il giro dei quattro muri non riesco a spiegarmi come sono finito qua dentro so perfettamente come mi è andata dal principio alla fine ma non riesco a spiegarmelo mi sembra tutto un vigliacco gioco di prestigio il terribile è che non ci sarà nessun gioco di prestigio per tirarmi fuori rivite sua madre ferma nel mezzo della cucina in una pregua del suo lavoro come negli occhi uno sguardo lontano che lui non le conosceva e cantava come gemendo la sua solita unica canzone la vita è breve la morte viene beati quelli che si fan del bene sua madre ne avrebbe sofferto tanto e nel suo dolore ci sarebbe stata sempre una vena d'orrore per la fine che gli avevano fatto fare lui lo capiva ma non poteva sentir pietà di lei aveva bisogno di tutta la sua pietà per se stesso rivite il fidanzato di Mabì che era stata anche la sua fidanzata al tempo in cui lei non prendeva niente sul serio lui Mabì ce l'aveva sempre avuta nel sangue aveva sempre creduto con vera fede che il corpo di Mabì era il suo tra i milioni di corpi di ragazze che ballano sulla faccia della terra ora rivedeva il fidanzato di Mabì e provava per lui un'invidia travolcente ma solo perché lui non doveva essere fucilato lui sarebbe vissuto e per l'enorme numero di anni che compongono la vita normale di un uomo avrebbe potuto fare un'infinità di cose delle quali il possedere Mabì era assolutamente la più trascurabile Luis lui è libero deve ricordarsi di me deve far qualcosa per me sono stato io che l'ho tirato via dalla strada di Valdivilla dove era caduto per quella palla del ginocchio se non era per me lui non si sarebbe più mosso e la Repubblica gli arrivava sopra e lo finiva a buon rendere ricordatene Luis per carità senza sapere come e in quanto tempo gli fosse venuto fatto si trovò a lungo disteso sulla paglia e il suo corpo premeva sul pavimento tanto pesante che questo gli sembrava cedesse e si avballasse ci stava abbastanza comodo almeno per quei primi momenti ma stentava sempre più a risollevare le palpebre ti ricordi tuo cugino come piangeva quella sera per la paura di addormentarsi dopo che gli avevano dato l'olio santo tu adesso sei come lui e non sei tisico come era lui ma ti sei fatto prendere dalla Repubblica e la Repubblica ti ha condannato a morte ti fucileranno domani sei nato vent'anni fa apposta per questo fuori nel corridoio c'erano passi e con fabulare cambiavano la guardia lui avvertiva i rumori ma talmente lontani che non bastavano più a scuoterlo la nuova guardia si affacciò allo spioncino e si disse che quei due se non fingevano dormivano la mattina Max fu svegliato di strappo da un pesante passo di truppa tutto gli fu subito presente come se tra la sera avanti e stamane non fosse passato che un battito di palpebre come aprì gli occhi saltò in piedi e corse sotto la botola da dove scendeva il track track dei soldati insieme con la luce acquosa del primo mattino guardò lancia aveva anche lui gli occhi aperti e fissi alla botola lancia gli disse non ti impressionare escono a rastrellare la campagna era infatti la cadenza legata e pestante della colonna che si era appena mossa e non si era ancora intervallata a dovere lancia gli era venuto accanto speriamo che i nostri non gli facciano un'imboscata o li impegnino in combattimento perché se gli fanno dei morti quelli che tornano si vendicano su di noi quando il rumore della marcia passò via lancia si spostò in metà della cella e fece là un po' di ginnastica alzava nella luce del giorno la sua faccia pesta gialla dove non era violacea particolarmente sformata attorno agli occhi ma ora la faccia di lancia non faceva a max più nessun effetto poi lancia prese ad andare su e giù e finì col metterci sia anche max ma lancia si fermò presto per soffiarsi il naso siccome non aveva a fazzoletto si estrense il naso tra pollice e indice e soffiò forte torcendosi da una parte poi era tornato a rincantunciarsi al suo solito posto come se quel poco moto fosse stato abbastanza per il suo corpo max seguitò su e giù un altro po' finché si fermò per domandare che si fa la mattina qua dentro si sentì la voce grossa catarrosa e tutta la pelle come a contatto di un vestito fradicio niente rispose lancia lo stesso che di notte dopo un lungo silenzio max andò da lancia e si chinò sui ginocchi davanti a lui si schierì la gola e gli disse senti lancia se ci mettono al muro insieme facciamoci forza tra di noi facciamo un piano fin da adesso ma lancia scuoteva già la testa quando max doveva ancora finire di parlare sempre scuotendo la testa disse non prendo nessun impegno perché non posso prenderne neanche tu puoi prenderne con me se ci pensi se mi mettono al muro per me non ha nessuna importanza che ci mettiamo solo con te e poi non ho nessuna idea di come mi comporterò avrò una paura nera questo è certo ma non so proprio che razza di cose mi farà fare questa paura max non disse più niente si rialzò e andò alla porta la serrò le dita attorno a una sbarra dello spioncino e così stette finché si sentì le dita bruciacchiate dalla ruggine tornò e si sedette nel suo angolo in faccia a lancia parlò se me la cavo se il maggiore ritira l'ordine della mia fucilazione e mi libera lancia fece con le labbra un verso di irrigione ma questo non lo fermò esco e non mi intrigherò mai più di niente di niente nei partigiani non ci torno dirò una croce sulla guerra e sulla politica e se qualcuno verrà a dirmi che sono un vigliacco io non gli risponderò a parole ma gli ridierò soltanto sul muso nei partigiani non ci torno tanto non avrò più ragione di fare il partigiano perché se mi lascia andare io la repubblica non la odierò più me ne dimenticherò penserò soltanto che a un certo punto della guerra mi è capitata una cosa tanto tremenda che non è possibile che siano stati gli uomini a farmela mi ricorderò finché campo della cosa ma mi dimenticherò subito degli uomini purché me la cavi faccio vuto di solo guardare e non toccare nella vita sono pronto a fare il pitocco tutta la vita lavorerò a raccogliere lo sterco delle bestie nelle strade e se così la vita mi sembrerà dura farò presto a rinfrescarmi la memoria e dopo mi metterò a sorridere guardava in terra ma si sentiva puntati addosso gli occhi di Lancia non contiamoci balle Lancia che è peccato mortale contarcene al punto che siamo sei convinto che noi siamo stati fatti fessi e che non possiamo più farci furbi perché ci pigliano la pelle tu te la senti di morire per l'idea io no e poi che idea se ti cerchi dentro tu te la trovi d'idea io no e nemmeno tu Lancia lo fissava ma i suoi occhi semi affogati non gli lanciavano capire niente Max si sentì una vampa sulla faccia e un furore dentro era tutto teso se Lancia faceva tanto di accennare e annegare lui gli si sarebbe buttato addosso e l'avrebbe preso per la gola urlando porco bugiardo e vigliacco che non vuoi dire che io dico la verità ma Lancia disse con voce controllata sfogati finché vuoi ma parla piano che la guardia non ti senta non mi piace che si affaccino allo spioncino Max sconfiò il petto e poi riprese a parlare calmo io non ho mai ucciso ho visto uccidere questo sì la prima volta che ho visto i miei compagni fucilare un fascista quando è accaduto io mi sono messo le mani nella testa perché mi sembrava che il cielo dovesse crollarci addosso soltanto la prima volta mi ha fatto quell'effetto ma anche in seguito veder fucilare una cosa che mi ha sempre indisposto che mi ha sempre fatto venire delle crisi una volta ho preso un repubblicano io da solo gli sono arrivato dietro e gli ho puntato la pistola nella schiena a momenti sveniva per lo spavento ho dovuto prenderlo per la callottola per tenerlo dritto ti giuro che ho sentito pietà e sono stato a un pelo dal buttare via la pistola e mettermi a confortarlo lui piangeva e aveva voglia di piangere anch'io poi l'ho portato su al comando l'ho consegnato e mi son fatto promettere che quello non lo uccidevano mi hanno promesso tutto quello che volevo mi hanno lasciato voltare le spalle e l'hanno fucilato ti dico queste cose perché voglio farti capire come mi sento io quando ho vinto non ho intascato la posta e adesso che ho perduto devo pagarla per intero ma mi sembra di pagare per dargli altri e le hai dette queste cose al maggiore quando ti ha interrogato no tanto non ti avrebbe creduto sentirono su in cortile un vociare e correre due uomini e lancia disse subito sono quelli a riposo che giocano al football per scaldarsi Max si alzò e andò come incantato sotto la botola sentiva gridare passa tira dai una volta anche a me da voci calda e liete di ragazzi le fughe e gli arresti sul terreno invetriato schioccar di dita i botti del pallone e il suo corto fruscio per l'aria di quando in quando il pallone veniva a stamparsi sul muro sopra la cantina ed ogni volta Max torceva istintivamente la testa come ad evitare uno schiaffo per tutto il tempo che in cortile giocarono i due nella cella non fecero parola smisero dopo un'ora buona il mattino era alto ma la luce rimaneva acerba la porta si aprì e comparve un sergente fece due passi dentro mentre dietro di lui una guardia riempiva al vano della porta il sergente nascondeva una mano dietro la schiena e fissava Lancia lo stesso la guardia e Max pensò che era strano che Lancia già dovevano conoscerlo bene che era più logico prendessero interesse a lui che era nuovo il sergente portò avanti quella mano stringeva un paio di pantofole le buttò sulla paglia accanto a Lancia dicendogli cambiati le scarpe Lancia guardò il sergente da sotto in su senza toccare le pantofole cambiatele ho detto Lancia abbassò gli occhi e le mani sulle scarpe e incominciò a sdacciarsele Max gli vedeva le dita tremare attorno ai legacci mentre ciocche di capelli gli si rovesciavano sulla fronte Lancia sospendeva ad allentare le stringhe e con tutte e due le mani si rammendava in pietro i capelli più presto diceva il sergente Max tremava e pensava che non capiva che le sue scarpe erano molto più buone di quelle di Lancia finalmente il sergente ricevette le scarpe da Lancia e sci con esse nel vano della porta rimase la sentinella Max guardò la sentinella stava rivolto a un'estremità del corridoio poi da laggiù dovette arrivargli un segnale perché lui rispose con un gesto di intesa guardò dentro e fece segno di uscire a tutti e due percorso il corridoio tra due nuove guardie risalirono le scale che Max aveva discese la sera avanti pensò che non si poteva non si doveva salire più oltre in quel silenzio con quella rassegnazione che bisognava fare o dire qualcosa per rompere a metà dell'ultima scala si voltò alla sua guardia e disse Rauco si può avere un po' d'acqua là sotto mi sono raffreddato e ho la gola che chiama acqua ma la guardia inarcò le sopracciglia come per furore e gli gridò sulla bocca non comunicare riuscirono nell'androne e vi allungarono lo sguardo davanti alla porta del maggiore con l'elmo in testa e il fucile a bracciarme stavano otto soldati su una fila le due guardie li fecero marciare e arrivarono davanti a quegli otto soldati il primo di questi li prese in consegna e le due guardie ripartirono Max e Lancia fissavano i soldati e Max si diceva scommetto che sono di quelli che un'ora fa giocavano a football i soldati fissavano i due prigionieri le facce impenetrabili solo sbattevano troppo sovente le palpebre forse per il fastidio dell'elmetto calcato sulla fronte Lancia prese a pestare i piedi la suola di quelle pantofole era troppo sottile e il pavimento gelato e Max si sentiva crescere dentro una specie di disturbo intestinale si sarebbe premuto le due mani sul ventre ma non sapeva farlo sotto quei sedici occhi puntati la porta del comando era semiaperta Max guardando di sbieco vide uno spiccolo della scrivania del maggiore ciò che poteva vedere interamente era un uomo inclinato verso quella scrivania un uomo alto e ossuto vestito in borghese con un impermeabile chiaro e un cappello verde ma era lampante che quello non era il suo vestire solito Max si spaventò e si indignò come davanti a una sporca frode vittoriosa poi l'uomo si drizzò unì i tacchi senza batterli e si dispose ad uscire mentre si chiudeva l'impermeabile Max vide pendergli da una spalla sopra la giacca un mitra col calcio mozzato ce lo farà lui con quello l'uomo uscì sorpassando i due li guardò con occhi grigi e andò a fermarsi nel mezzo dell'androne con le spalle rivolte a loro il busto eretto e i tacchi accostati la sua figura era inequivocabilmente militare guardò indietro se il trappello si era formato e partì avanti non ripercorsero tutto l'androne tagliarono verso la porta da un'arcata vetrata che dava nel cortile la porta era bloccata dal gelo ci vollero due soldati e tirare forte per disincastrarla scesero nel cortile bianco e deserto il terreno cricchiava acutamente sotto i loro piedi non facciamo molta strada disse Max e subito dopo trasalì perché credeva di averlo solo pensato ma i soldati non gli dissero né fecero niente quel borghese nemmeno si voltò Lancia ciondolava la testa pareva ad essere ragione alle parole di Max ma forse quel movimento della testa era semplicemente effetto della cadenza erano nel bel mezzo del cortile Lancia da una parte e Max dall'altra guardavano trascorrere i muri e spesso i loro sguardi si incrociavano ma non li fecero deviare verso nessun muro si lasciarono dietro tutti i muri e arrivarono alla porta carraia un soldato corse avanti ad aprirla ci portarono fuori sono furbi deve essere mezzogiorno e la gente è ritirata a mangiare così non può essere testimone dei loro assassinamenti ci portarono al cimitero so dov'è è abbastanza lontano ma ci arriveremo vorrei poter camminare per tutta l'eternità usciti dalla porta carraia raddoppiarono il passo erano entrati in una strada secondaria dritta e deserta in tutta la sua larghezza e così fanno le cose di nascosto dalla gente ma adesso io mi metto a urlare mi faccio sentire tanto sono morto alle loro spalle i soldati scoppiarono a cantare San Marco San Marco cosa importa se si muore per lo stupore Max si fermò girò la testa e vide serragliarsi addosso i soldati con gli occhi arrovesciati le facce congestionate dallo sforzo di cantare e marciare insieme con quella intensità sentì dalle loro bocche spalancate le note e arrivargli nelle orecchie come pietre da una fionda San Marco San Marco si rigirò ma non fece in tempo a distanziarsi i soldati della prima fila lo presero a ginocchiata e lo cacciarono avanti così dovette correre per appareiarsi a lancia che correva anche lui con le pantofole che gli scappavano dai piedi le braccia tese come se volesse acchiappare i talloni del borghese che tirava via sempre più rapido Max alzò gli occhi alle rade finestre di quella via non una che si aprisse nessuna tendina che si scostasse nemmeno un'ombra guizzava dietro i vetri passarono in un'altra strada e i soldati cantavano sempre i loro fiati violenti sollevavano Max e a lancia i cappelli sulla nuca lancia scivolò sbandò e cascò i soldati a calci lo rimisero in piedi e in carreggiata cantavano ancora ma non riuscivano più ad articolare le parole della loro canzone stridevano solo più come uccellacci ma anche questa strada rimaneva deserta e le sue molte finestre sembravano sigillate gente di alba gente di alba non puoi non sentire affacciati a vedere non ti chiediamo di salvarci vieni soltanto a vederci Max urlava ma la sua voce annegava nel canto dei soldati guardò l'ancia si trascinava con una mano premuta sulla milza e la sua bocca era spalancata come a lasciare uscire grida che Max non intendeva presso una piazza il borghese levò in alto una mano e i soldati cessarono di cantare e moderarono il passo in quella piazza c'era un gruppo di spalatori che avevano fatto mezzogiorno e stavano allontanandosi dalle loro pale piantate nei mucchi di neve li videro venire riandarono ai mucchi sconficcarono le pale e si rimisero a lavorare il drappello passò in rivista una fila di schiene curve finita la piazza e attraversato un passaggio a livello entrarono nella strada del cimitero io parto mi butto verso il fiume sarò nella neve come una mosca nel miele mi ammazzano infallantemente ma io parto lo stesso così è più facile non c'è preparazione così pensò Max ma non poteva non poteva fare un passo fuori dalla cadenza del drappello una svolta e si profilò il cimitero Max guardò il bianco quadrato poi frugò con gli occhi la nuda campagna e gridò dentro di sé dove siete o partigiani cosa fate partigiani saltate fuori dal vostro nascondiglio saltate fuori e sparate fateci tutti a pezzi nessuno venne in vista solo una vecchia lontano oltre il cimitero saliva un sentiero sul fianco dell'acquedotto si fermarono al primo angolo del cimitero Max alzò una mano e disse prima lasciatemi urinare Max allargò un gomito a toccar lancia ma non ci arrivava vide soltanto con la coda dell'occhio la nebbietta che faceva nell'aria l'ultimo fiato di lancia si concentrò a fissare un segno rosso nel muro una scrostatura che denudava il mattone rosso vivo tra il grigio vecchio e sporco dell'intonaco decise di fissare quel segno rosso fino alla fine dietro c'era assoluto silenzio le ginocchia gli si sciolzero ma il segno rosso rimaneva all'altezza dei suoi occhi sentì il rumore della fine del mondo e tutti i capelli gli si rizzarono in testa qualcosa al suo fianco si torse e andò giù morbidamente lui era in piedi e la sua schiena era certamente intatta l'orina gli errorava le cosce calda tanto da farlo quasi uscire di sentimento ma non svenne e sospirò avanti non seppe quanto aspettò poi riaprì gli occhi e guardò basso da una parte rivoletti di sangue correvano diramandosi verso le sue scarpe ma prima di arrivarci si rapprendevano sul terreno gelato risalì ad agio il corso di quel sangue e alla fine vide lancia a terra preciso come l'aveva visto dormire la notte in cella vide la mascella di lancia muoversi in un'ultima volta come la mascella di chi mastica nel sonno ma doveva essere un abbaglio della sua vista folle si voltò i soldati alzarono gli occhi da lancia per posarli su di lui lo stesso fece il borghese che stava tutto solo da una parte finiva di riabbottonarsi in impermeabile e l'arma non era più visibile tra le sue mani ad una voce del borghese i soldati si riscossero vennero a prenderlo per le braccia e se lo misero in mezzo ripartivano si lanciarono alle spalle quel muro si indirizzavano alla città i soldati avevano preso un tranquillo passo di strada e giravano spesso gli occhi verso la faccia di Max lui cercò con lo sguardo il borghese tra il fumo lo fissò con gli occhi grigi e gli disse questo ti serve di lezione per quando sarai di nuovo ti hanno fatto il cambio fin da ieri sera è arrivato un prete dalle colline a proporcelo il cambio ci farà nel pomeriggio a Madonna degli Angeli ma questo ti serve di lezione era troppo comodo per te farti prendere e tornare libero in 24 ore senza passare niente Max non rispose andando guardava l'erba spuntare gialla tra la neve sul fianco dell'acquedotto sulla tavola della cucina c'era una bottiglietta di linimento che suo padre si dava ogni sera tornando su dalla bottega un piatto sporco d'olio la scodella del sale Ettore passò a guardare sua madre stava a cucinare al gas lui le guardò per un po' i fianchi sformati in piedi piatti Ettore la mamma Ettore finì di fumare e gettò il mozzicone mirando il mucchietto di segatura in terra vicino alla stufa ma cadde prima accanto a un piede della madre lei si inclinò a guardarlo e poi si raddrizzò davanti al gas cosa hai guardato? non sapevo che cosa mi era caduto vicino lei aveva parlato da indifferente io la conosco bene quella tua maniera di guardare spegnilo urlò la donna fissò il figlio tendendo la pelle della fronte poi abbassò gli occhi e calcò il piede sul mozzicone spento disse e poi ti fa male fumare tanto Ettore urlò sei una giudea non è alla mia salute che pensi ai tuoi soldi io posso diventare tisico per il fumare a te non te ne fa niente ma sono i soldi che costano le sigarette sei una giudea lei chino la testa e non disse più niente solo sospirò in un modo che le portò avanti tutto il petto adesso lui aspettava che lei parlasse ma lei stava zitta lui con labbro inferiore tutto sporto stava a guardarla pelare una patata con un'attenzione innaturale si infuriò dentro gli pareva che vincesse lei stando zitta si alzò da seduto e si mise ad andare su e giù per la cucina tutte le volte che le arrivava alle spalle si fermava con una fortissima voglia di provocarla di urtarla nella schiena non lo fece ma l'ultima volta che le si fermò dietro le stese contro un braccio e le disse lasciami vivere sai io non ti ho detto niente che cosa ti ho detto Ettore tornò è quello che hai nella testa cosa ti viene nella testa tutte le volte che mi vedi accendere una sigaretta ti viene voglia di battermi con un martello io lo so per te può fumare solo chi il tabacco se lo guadagna ma hai detto questo ma lo pensi di che lo pensi le andò addosso con le mani alte confessa che lo pensi gridò sua madre lasciò cadere la patata e gli si rivolse col coltello in mano sta indietro lui si fermò e lei disse stai dove sei tanto non mi spaventi più è passato il tempo che mi spaventavi Ettore rise basta che io ti alzi un dito sotto il mento per spaventarti attenta che lo alzo lei lo scartò con uno scatto giovanile gli sfuggì passando tra di lui e la stufa e corse alla porta gridando Carlo Carlo ma lui la raggiunse le passò davanti le sbarrò col corpo la porta poi col petto gonfio il movimento delle spalle la respinse verso il gas è inutile stavolta non ci arrivi a farti sentire a contare le tue storie a mio padre e a mettergli voglia di picchiarmi e di maledirmi ripetè la voce stridula con cui lei aveva chiamato il marito è inutile adesso prima ci spieghiamo io e te ce la vediamo tra di noi due soli da madre a figlio e rise la madre aveva ripreso in mano la patata da fier di pelare allora che cosa hai contro di me non ho niente Pucciarda che cosa hai contro di me io sono tua madre non posso avere niente contro di te Ettore scrollò furiosamente la testa e ad occhi chiusi urlò cosa hai contro di me oh che non lavori gridò lei e si rannicchiò nell'angolo del gas ma lui stette fermo nel mezzo della cucina su lo accennò con la testa e fece un lungo oh che hai 22 anni e non lavori disse lei così ce l'hai con me perché non lavoro e non ti porto a casa un po' di sporchi soldi non guadagno ma mangio bevo fumo e la domenica sera vado a ballare e lunedì mattina mi compro il giornale dello sport per questo ce l'hai con me perché io senza guadagnarmi le voglio tutte le cose che hanno quelli che se le guadagnano tu capisci solo questo il resto no il resto non lo capisci non vuoi capirlo io non mi trovo in questa vita e tu lo capisci ma non ci stai io non mi trovo in questa vita perché ho fatto la guerra ricordatene sempre che io ho fatto la guerra e la guerra mi ha cambiato mi ha rotto l'abitudine a questa vita qui e adesso sto tutto il giorno a far niente perché cerco di rifarci l'abitudine sono tutto concentrato lì questo è quello che devi capire che invece tu non vuoi capire ma te lo farò capire io e tesi di nuovo il braccio contro di lei lei disse io capisco che tu non hai voglia di lavorare lo vedo con i miei occhi perché hai lasciato il lavoro all'impresa il bel lavoro che mi è andato all'impresa tu lo sai perché l'ho lasciato te l'ho detto te l'ho gridato in faccia una volta come questa perché non era un lavoro da me tu hai visto che lavoro mi facevano fare lei negò sporgendo le labbra lo sai che lavoro mi facevano fare gritò lui perché un giorno sei venuta fin là a spiare se io ero andato a lavorare o se ero andato al fiume a fare il bagno questo te lo sei sognato tu bugiarda sei una porca bugiarda grido lui e la madre chinò la testa mi facevano portare il calcestruzzo della betoniera dove faceva il bisogno così tutto il giorno tutto il giorno avanti e indietro col carrello io da partigiano comandavo venti uomini e quello non era un lavoro da me il padre l'ha capito quando glielo ho spiegato e non mi ha detto niente perché lui è un uomo e tuo padre è un povero stupido Cristo non dire che è stupido mio padre io posso dire di tuo padre cosa voglio tutto quello che mi sento sono l'unica che può tuo padre è uno stupido è cieco e tu lo incanti come vuoi e per questo non ce l'ha mai con lui ma ce l'hai sempre con me perché io non sono stupida io tu non mi incanti perché io so quel che vuoi dire prima che tu parli perché a me non la fai e per questo ce l'hai sempre con me sembrava ubriaca d'orgoglio quasi ballava con le mani sui fianchi Ettore le disse tu sei furba sì sei più intelligente di lui te lo divori come intelligenza ma io preferisco lui che tu dici che è stupido lo preferisco gli voglio più bene che a te e se mi mettessero il problema di chi lasciar morire di voi due lascerei andare te senza pensarci un minuto Ettore e sua madre diventarono bianchi in viso e a tutte e due cascarono le braccia poi Ettore corse addosso a sua madre la prese per le spalle nascose la faccia nei suoi capelli vecchi lei lottava e puntava le ginocchia gridava lasciami andare non toccarmi va via che non ti veda mai più e poi si mise a piangere gli piangeva sul nudo del collo ma lottava ancora lui la strense più forte fu non lì lì per perdere l'equilibrio Ettore raddrizzò tutte e due con uno scossone gridava lasciate abbracciare non farti far male stai buona che tanto non ti lascio andare voglio tenerti abbracciata adesso non ti muovere più stette finalmente ferma piangeva sempre i suoi capelli sapevano di petrolio il suo vestito di lavandino lui le disse perché non mi hanno ammazzato tant'è che mi hanno sparato davanti e di dietro e non mi hanno ammazzato lei scosse la testa dandogli un forte colpo sulla guancia ah Ettore non parlare così ma mettiti a lavorare fai un lavoro qualunque non essere cieco credimi e non sgridarmi quando ti dico che siamo quasi sulla strada tuo padre non ce la fa più nel suo mestiere io non ho altro lavoro che quello della casa e ho la malattia di fegato se non ti metti a lavorare tu ci verrà a mancare il mangiare l'alloggio il vestire non solo ma perderemo anche le nostre anime perché diventeremo tutti pieni di veleno lascia fare a me madre la studio io la maniera ti porterò dei soldi a casa te lo giuro ma non tardare Ettore comincia ad aiutarci un po' dacci subito un po' di respiro vendi le armi che hai portato a casa dalla guerra lui scosse la testa contro la testa di lei ho già provato con l'armaiolo di via maestra ma non me le compro sono troppo grosse dice che non sono commerciabili come faremo Ettore faremo mamma perdoni quando scese passò davanti alla bottega di suo padre suo padre stava girato verso il fondo gli si vedevano solo le spalle piene che Ettore aveva ereditate da lui vuoi una mano? suo padre si girò appena scrollò la testa e disse mentre lui già si muoveva torna solo presto per cena stasera voglio mangiare presto e andare subito a dormire lui si misi ad andare per la strada andava a veder giocare alla pelota nel grande cortile dietro l'albergo nazionale gli piaceva sia per la bellezza del gioco sia perché a vedere le partite e scommettere c'era sempre tanta gente tutti oziosi vecchi e giovani e a vederne tanti e a trovarsi in mezzo a loro a Ettore sembrava di non essere della parte del torto ma oggi come si avvicinava non sentiva il suono della palla battuta e ribattuta contro la muraglia né le voci e lo scalpiccio degli spettatori eccitati da suo portone vide la lizza deserta in metà c'era una donna che faceva il bucato e con vicino un bambino seduto su un mastello rovesciato entrò nella lizza come se non ci credesse ancora quel bambino mangiava una caramella con una pagnotta di pane oggi non giocano gli disse il bambino lo vedo rispose lui con una faccia scura è già su il padre che la bottega è chiusa? domandò Ettore un'altra sera è uscito per un affare gli disse sua madre lei sapeva già tutto a quell'ora si disse poi Ettore che cosa hai fatto? zuppa di latte brava disse Ettore a sua madre sua madre si era già voltata verso di lui e gli disse guarda dietro che prezzo hanno eppure vuoi che non ci faccia niente vuoi che mi lasci marcire il fegato per non spendere lui si irritò ma sicuro che devi farci qualcosa chi fa questione di soldi in quelle cose lì capisci quello che stanca di te che fa perdere la pazienza è il tuo vizio di voler dire anche le cose che invece è meglio lasciar da dire io odio quel vizio lì mi fa montare la rabbia lei si rigirò verso l'angolo del gas lui passò la mano sull'orlo della tavola vuoi che prepari tavola? lo faccio io Ettore si mise le mani in tasca e poi si schivò per lasciar passare sua madre verso la tavola dove te le fanno queste punture? me le fanno nel braccio Ettore stette per chiederle se le facevano male ma poi non glielo chiese suo padre tornò dieci minuti dopo che la tavola era preparata Ettore l'aveva sentito fin dal primo scalino e sentì che il suo passo era meglio che le altre sere forse faceva un po' degli scalini a due a due e quando entrò aveva un sorriso in bocca Ettore si levò le mani in tasca e stette a guardargli quella faccia nuova gli sembrò che con la sua testa accennasse di sì alla donna nell'angolo del gas cosa c'è? hai avuto un'ordinazione grossa? disse Ettore riguarda te rispose suo padre ed è meglio che un'ordinazione grossa per me mettiamoci a tavola parliamo da seduti a tavola Ettore seppe che gli era stato trovato un lavoro nella fabbrica della cioccolata e che per questo doveva essere riconoscente al cavaliere Ansaldi sua madre gli disse subito allora attento a salutar sempre il cavaliere Ansaldi quando lo vedi per strada Ettore fu per voltarsi di scatto verso di lei e gridarle tu lo sapevi e perché non me l'hai detto? volevi fiarmi la bella sorpresa? ma pensò che lei poteva rispondergli che non c'era niente di sicuro e solo per questo non aveva parlato e così cavarsela e far restare lui peggio nell'anima e poi suo padre parlava parlava e nota che non ti fanno fare l'operaio diceva suo padre ma farai l'impiegato io glielo ho detto al cavaliere che tu hai poche scuole ma che sei intelligente e lui mi ha detto che lo sapeva già ti metteranno a fare le lettere di vettura sono i documenti delle spedizioni per ferrovia quello sarà il tuo lavoro e di nessun altro e non è un lavoro da fermo perché dovrai andare sovente alla stazione e alla gestione merci Ettore non aveva ancora parlato sentiva che da dietro sua madre lo fissava da cinque minuti vedeva bene nel vuoto come in uno specchio la sua bocca ansiosa e dura ti va? gli domandò suo padre deve andarli disse sua madre Ettore si infuriò in ogni muscolo facciale ma stette zitto suo padre vide e disse a lei non parlare con quella voce anzi non parlare niente lascia dire a noi uomini voi uomini suo padre gridò cos'hai contro di noi? ficca il naso nella tua pentola e non tirarlo mai fuori ti ho sposato per questo se vuoi saperlo lei venne verso la tavola con gli occhi bassi ma la bocca indovita mangia Carlo disse calma al suo uomo mettendogli davanti la scodella del latte suo padre cominciò a spezzare il pane e disse ti metti il vestito meglio che hai non vai a fare l'operaio che il vestito più è straccio e meglio va e fatti la barba fin da stasera non ho tempo a farmela domattina fatela quando vuoi io ti ho detto stasera perché credevo che tu domani nottina volessi avere tempo di prepararti bene per che cosa prepararmi? disse Ettore senza alzare gli occhi dalla scodella per andare a lavorare sua madre disse Ettore non ha ancora detto niente se va o non va a lavorare suo padre tirò indietro la testa portò gli occhi da sua moglie e a suo figlio Ettore disse naturale che ci vado in fretta cosa ti viene in mente di dire? domandò forte suo padre a sua madre Ettore decise di non mettere più pane nel latte ma di berlo così avrebbe alzato la scodella fino a coprirsi gli occhi e dietro quel riparo pensare non trovava niente dentro di sé che potesse fermare quella macchina di fatti e parole che lo trascinava a lavorare l'indomani non gli veniva un'idea mai era stato preso così alla sprovvista nemmeno in guerra finito il latte Ettore disse io cosa ne so delle lettere di vettura ti insegnano loro dicono che imparerai nella prima mattina ti metteranno vicino un impiegato per insegnarti un bravo ragazzo chi è? io non lo so masticando Ettore disse di colpo a sua madre perché cosa mi guardi? non posso più guardare? disse lei non guardare me io non guardavo te guardavo il piatto in mezzo poi Ettore le disse dammi la frutta se ce n'è non puoi aspettare che tuo padre abbia finito la pietanza? vuoi farlo mangiare al galoppo o per arrivare la frutta con te? lui si arrabbiò che bisogno c'è che mio padre mangi la frutta con me? che cosa fa a lui se io mangio giù la frutta mentre lui è ancora al piatto prima? dagli la frutta disse suo padre attraversò la piazza che prima portava il nome del re e imboccò la via degli stabilimenti camminava e gli venne in mente suo padre un quarto d'ora prima sulla porta della sua bottega era commosso a vederlo uscire di casa per andare a lavorare aveva degli occhi come un cane da caccia suo padre gli sporse la mano e lui gliela stringse ma stringendogliela lo fissava come se non lo riconoscesse tu sei mio padre e perché non sei milionario? perché io non sono il figlio di un milionario quell'uomo lì davanti gli aveva fatto un torto a farlo nascere figlio di padre povero lo stesso che se l'avesse procreato rachitico con la testa più grossa di tutto il resto del corpo poi pensò a quel tale che fra un quarto d'ora gli sarebbe stato accanto a insegnarli come si compila una lettera di vettura bestemmiò con la voce che gli tremava andando aveva visto in un'officina un operaio scappucciare un tornio e la sua faccia non era triste né stanca né torva poi passarono sul loro camion gli operai della società elettrica avevano un chè di militante per le loro uniformi azzurre e il dischetto dottone sul berretto e l'ordine con cui sedevano sulle sponde del cane lui scosse la testa tutte e due le volte il lavoro è uno sporco trucco tanto quanto la guerra arrivò davanti alla fabbrica della cioccolata c'era già più di duecento operaie e operaie in qualunque direzione guardassero sembravano tutti rivolti al grande portone metallico della fabbrica come calamitati Ettore non si avvicinò si diresse a un orinatoio e di là guardava i crocchi dei lavoranti e il portone ancora chiuso da dove era poteva vedere la sirena alta sul terrazzino della fabbrica gli sembrava che l'aria intorno alla tromba tremasse in attesa del fischio finalmente arrivarono gli impiegati otto dieci undici in tutto non si mischiarono agli operai sull'asfalto si tennero sul marciapiede lui si nascose dietro l'orinatoio e li guardava attraverso i trafori metallici io dovrei fare il dodicesimo si disse ma cominciò a scuotere la testa non finiva più di scuoterla e diceva no non mi tireranno giù nel pozzo con loro non sarò mai dei vostri qualunque altra cosa debba fare mai dei vostri siamo troppo diversi le donne che amano me non possono amare voi e viceversa io avrò un destino diverso dal vostro voi fate con naturalezza dei sacrifici che per me sono enormi insopportabili e io so fare a sangue freddo delle cose che a solo pensarle a voi farebbero drizzare i capelli in testa impossibile che io sia dei vostri tra le esalazioni che il sole già alto traeva dall'orinatoio Ettore pensava che costoro si chiudevano tra quattro mura per le otto migliori ore del giorno e in queste otto ore fuori succedevano cose nei caffè e negli sferisteri succedevano memorabili incontri d'uomini partivano e arrivavano donne, treni e macchine d'estate il fiume d'inverno la collina nevosa costoro erano i tipi che niente vedevano e tutto dovevano farsi raccontare i tipi che dovevano chiedere permesso anche per andare a vedere morire il loro padre o partorire la loro moglie e alla sera uscivano da quelle quattro mura con un occhietto di soldi assicurati per la fine del mese e un pizzico di cenere di quella che era stata la giornata disse di no con la testa per l'ultima volta si sarebbe subito messo in contatto con Bianco la sirena suonò fece un rumore modesto che lui non si aspettava così modesto da dentro aprirono il portore furono inghiottito prima le donne e poi gli uomini gli uomini spegnevano le sigarette prima di entrare oppure si voltavano con la schiena al portone per consumarle con lunghe boccate frenetiche poi gli impiegati prima che sparissero Ettore cercò di immaginarsi quale di loro doveva insegnarli a compilare le lettere di vettura non gliel'avrebbe insegnato né oggi né mai su questa terra caro mio tu hai la tua esperienza ed io la mia tu potresti insegnarmi a fare le spedizioni ma anche io potrei insegnarti qualcosa ciascuno secondo la propria esperienza io ho imparato le armi a spaventare la gente con un'occhiata a starmene duro come una spranga davanti alla gente giungi in occhio con le mani giunte ciascuno secondo la propria esperienza uscì un gigantesco custode in camice nero guardò una volta a destra e una volta a sinistra lungo i muri della fabbrica poi rientrò tirandosi dietro un battente del portone Ettore partita dietro l'orinatoio e si incamminò forte verso il caffè commercio dove sapeva che Bianco dormiva mentre dalla fabbrica già usciva il ronzio dei motori elettrici Bianco era stato un eroe in guerra una volta aveva fatto ai tedeschi uno scherzo che pochi in Italia e anche in Jugoslavia e Polonia hanno fatto ai tedeschi ora viveva con uno sfoggio di soldi da accecare tutti gli industriali della città Ettore sapeva bene come se li guadagnava e lo sapeva anche qualcun altro ma non con la precisione di Ettore Bianco l'aveva in grande stima come partigiano e dopo lo voleva con sé in quei suoi affari gli aveva fatto la proposta a una sera di carnevale nel dancing sotterraneo dei fratelli Morra ma Ettore quella volta non aveva accettato forse perché era tutti e due bevuti entrò nel caffè commercio c'era segatura a mucchi sul pavimento e nessun cameriere a passarla erano le nove e non avevano ancora cominciato la polizia ma questo perché il caffè commercio non era un locale comune dove si possa entrare a prendere una cioccolata all'arrivo del treno delle sette Bianco dormiva ancora da principio lo fece un po' soffrire perché non aveva accettato allora ma poi disse che i suoi affari si ingrandivano che aveva bisogno di personale che l'assumeva senz'altro lo faceva cominciare a lavorare quella sera stessa si portasse la pistola stasera andavano da un vecchio fascista al quale stavano perdonando a rate il suo fascismo Bianco io avrei bisogno di ventimila lire per domani a mezzogiorno per che cosa? per mia madre per tappare la bocca a mia madre tua madre cosa c'entra? devo ben dimostrarlo che mi sono messo a lavorare con te oh stai tranquillo le dico che faccio per tuo conto e con i tuoi camion gli autotrasporti da qui al porto di Genova te le do già stasera uscì da Bianco non era allegro ma tranquillo aveva la sensazione di lavorare già da tempo con Bianco aveva fatto le dieci e doveva riempire le due ore che ancora restavano di lavoro antimeridiano alla fabbrica della cioccolata scese nel caffè e vide entrare nella sala dei biliardi due uomini di campagna un cameriere portò le bilie e il pallino quei due si tolsero la giacca si infilarono nella camicia alla punta della cravatta tennero il cappello in testa scelsero le stecche come se scegliessero le pistole per un duello tutto ciò senza parlarsi senza guardarsi facendo solo delle smorfie per il fumo che gli saliva nel naso dalle sigarette mai rimosse di bocca giocavano diecimila lire la partita e trentasei punti Ettore segnava i punti sul pallottoliere i due gli fecero portare un aperitivo e gli passavano sigarette aveva fatto mezzogiorno andò a casa durante il pranzo non dovette nemmeno contar balle a suo padre perché suo padre non gli domandò niente Ettore capì che gli avrebbe domandato tutto alla sera dopo che avesse fatto tutta la giornata e avesse impressioni complete mangiò e si alzò subito per uscire scappi già gli disse sua madre sta zitta le disse suo padre adesso che lavora può fare tutto quello che vuole al caffè fece una partita a biliardo quando suonarono le sirene delle fabbriche domandò cosa c'era al cinema sfida infernale che roba è far west ho visto i cartelloni allora vado a vedere questa sfida infernale disse Ettore ma mancava un'ora all'apertura del cinema e si ritirò in un angolo della sala dei biliardi a star solo pensare e fumare forse era perché aveva fumato troppo in questi giorni ma si sentiva un male al cuore una palpitazione desiderava di essere già un po' avanti nel suo lavoro con Bianco di avere soldi e calmi i suoi vecchi che fosse vicino il più possibile vicino il giorno che potesse dirsi Dio come si sono messe bene le cose ecco era una domenica non oltre l'autunno una domenica pomeriggio lui si era cambiato da feste e veniva in cucina dalla sua stanza in cucina c'era sua madre seduta davanti alla finestra e guardava i tetti della casa accanto tu non esci mai la domenica le domandava lei scuoteva la testa ti riposi? mi riposo le braccia e le gambe ma non la testa cosa hai nella testa? penso sua madre alzava il mento come per indicare la cima di una montagna di cose lui le andava alle spalle le diceva sai madre io so cosa farai tu e so cosa fai ci lasci andare via tutti e poi ti chiudi dentro a chiave e ti metti a contare i bei soldi che ti ho portato io lei scuoteva molto la testa e diceva c'è poco da contare cosa? gridava lui va bene ma non li conto so quanto c'è è abbastanza? sei contenta? è abbastanza sono contenta adesso che fai il tuo dovere da uomo ma ho sempre paura che smetti non smetto poi Ettore domandava dove è andato il padre? non lo so è andato all'osteria? non va mica all'osteria come gli altri tuo padre sarà andato fin sul ponte a vedere il fiume tu dove vai adesso che esci? vai al caffè? vado in giro non voglio perdere un giorno bello così sono gli ultimi giorni belli prima dell'inverno sua madre gli diceva esci con banda lui diceva tu ne sai di cose lo sai che a me non lo fai lo sai con banda niente ho con banda ma è una disgraziata a volerti bene povera figlia è una disgraziata glielo dico io che sono tua madre glielo dico che è una disgraziata a volerti bene è la prima volta che l'incontro ah è una disgraziata a volermi bene perché se tu fossi una ragazza non mi piglieresti di no diceva lei scuotendo la testa e oscillando il dito lui rideva forte la prendeva per le spalle mentre lei continuava a dire e a segnare di no le faceva un po' d'amore come a una ragazza le carezzava il collo le sfiorava i capelli con la bocca e nel mentre diceva non mi piglieresti proprio al volo io dico che mi piglieresti un uomo come me solo se tu fossi una ragazza fresca e non la vecchia carretta che sei si chinava per baciarla di sorpresa nel mezzo dei capelli ma lei che continuava a scrollare la testa riceveva il bacio sul collo stava un momento tutta rigida poi arricciava il collo e diceva piano se tu sapessi dove va a finire tutto questo con gli anni e scuoteva ancora la testa poi Ettore diceva allora adesso ti lascio sola a contare i soldi lei scrollava le spalle e lui usciva pensando dio come si son messe bene le cose andò al cinema la pellicola gli piacque come non si aspettava e così non fece fatica starlo a vedere due volte doveva fare le sei quando uscì erano pressa poco le sei andò verso casa lentamente suo padre era fuori davanti alla bottega e cominciò a sorridere quando lui svoltò l'angolo e tenne il sorriso finché lui gli arrivò davanti allora Ettore cosa? il tuo lavoro? Ettore puntò gli occhi su suo padre respirò forte e disse senti padre io il mio lavoro lo faccio e lo farò ma non mi piace e non mi piacerà mai e andò di sopra di sopra parlò per primo a sua madre le chiese se si poteva mangiare presto lei disse che si mangiava presto perché suo padre doveva andare a un'adunanza di artigiani che era per le otto sua madre non gli domandò niente del suo lavoro si vedeva che soffriva per la voglia di chiedere ma le mancava il coraggio non sapeva che tono prendere a parlare aveva paura che lui si accendesse come un fiammifero lui aveva una faccia nervosa suo padre venne su e non disse niente durante la cena tenne sempre gli occhi bassi sembrava si vergognasse di qualcosa finito cena suo padre andò di là ci stette un po' e poi andò alla porta io vado disse a sua madre lei si voltò a guardarlo gli occhi le scintillarono di disprezzo e di disperazione gli disse forte perché non ti sei cambiato almeno pose il berretto e mettiti il cappello vai a un'adunanza sembrerai il più straccione lo sono disse calmo suo padre e uscì sua madre andò a chiedergli dietro la porta con violenza e poi disse ad Ettore hai visto l'uomo si lascia andare non si cura più hai visto come perde i calzoni dietro guardando fuori attraverso la finestra sopra il lavandino Ettore disse lascialo vivere lasciagli fare tutto quello che vuole in questi pochi anni che ha ancora da vivere lascialo fare secondo la sua testa io vorrei una cosa mi piacerebbe una cosa che il padre potesse vivere questi ultimi anni come viveva quando era giovane come me che finisse di essere tuo uomo e mio padre come se avesse finito un servizio che gli ha preso trent'anni e vivesse questi ultimi anni come se fosse libero e solo mi capisci cosa vorrei io sua madre si voltò verso di lui con gli occhi fissi e le labbra premute tu sei solo una donna disse allora Ettore lui accese una sigaretta lei cominciò a riunire i piatti e a far gettare l'acqua Ettore non si decideva si ritrovava nello stesso stato di quando doveva uscire per divertirsi e spendere e cercava di decidersi a chiederle i soldi sua madre doveva pensare alla medesima cosa perché senza voltarsi disse ad un tratto non vuoi mica già dei soldi a lavorare hai cominciato solo oggi e soldi a casa non ne hai ancora portati allora Ettore spense la sigaretta e disse ad agio non ci sono mica andato a lavorare lei si girò aveva una mano tutta bagnata premuta sul petto dalla parte del cuore gridò me l'aspettavo me l'aspettavo ma è troppo grossa lo stessa tu sei pazzo Ettore sei cattivo sei un traditore vedi tuo padre e tua madre morire di sete e non ci dai una goccia d'acqua non gridare gridò lui saltando in piedi cominciò a lavorare stasera con bianco carichiamo un camion e lo portiamo a Genova oh hai già cambiato faccia ritorno domani e ti porto tanti soldi che a guadagnare alla fabbrica della cioccolata mi ci andava un mese sei contenta sua madre non disse niente andò al lavandino a chiudere l'acqua poi tornando disse che lavoro è è un buon lavoro cosa vuol dire un buon lavoro un buon lavoro è un lavoro che dura o dopo questo viaggio a Genova sei di nuovo con le mani in mano guarda che non voglio più vederti con le mani in mano mi fa impazzire vedrai che dura dopo andiamo a far trasporti in Toscana a Roma magari fino in Sicilia sarà bene che mi comperi una giacca di pelle da autista te la compero io di seconda mano disse in fretta sua madre no guarda me la faccio comprare da bianco è lui che deve pensarci quando ti sei messo d'accordo con bianco oggi stamattina invece di andare a lavorare alla cioccolata sono andato a trovarlo dove dorme erano dei mesi che lui mi voleva ho perso dei bei soldi a non accettare subito lei soffriva a sentir parlare di soldi perduti lei si rigava tutta la pelle per quella sofferenza disse forte e perché non hai accettato allora perché bianco in definitiva è un padrone come tutti gli altri padroni e io allora non volevo padroni oggi ho capito che per cominciare bisogna stare sotto un padrone ed ho scelto bianco perché sotto di lui c'è di emanciparsi più presto ma per i soldi adesso mi rifaccio in un anno voglio guadagnare tanto da poter mollare bianco e mettermi a lavorare per conto mio non so ancora cosa farò per conto mio ma mi verranno delle idee mentre lavoro sotto bianco e a te ti compro quello che vuoi una tabacchiera o un negozio di commestibili quello che vuoi tu un negozio che tu debba solo star seduta a contare i soldi lei taceva lo guardava con occhi lucidi e ansimava nel petto poi gli domandò e come li guadagni tanti soldi è il lavoro che li porta è il tipo di lavoro che lavoro è non facciamo passare certi controlli alla roba che portiamo allora è pericoloso non era spaventata solo attentissima niente è pericoloso è un lavoro solo da multe se ti prendono non da prigione e le multa le paga a bianco allora non è pericoloso puoi fare a meno di pregare per me quando sono fuori per le strade oh io non prego più per te Ettore rise poi disse adesso lasciami andare che non faccio tardi fin dalla prima sera quel giorno Marziano tornando dal rostichello vide sull'aia del nano una ragazza mai vista prima vestita come una signora forestiera e che quando si fu accorta di lui lo fissò con tali occhi che Marziano si guardò la terra sotto i piedi e allungò il passo per casa contami com'era vestita gli domandò sua madre a casa Marziano le aveva veduta una veste turchina e le calze bianche allora la mezzadra disse che non era la figlia del padrone del nano ma solamente la nipote del mezzadro e che era alle rosine di Torino dove l'aveva fatta entrare la pietà del padrone dopo che i suoi erano morti sotto il carro ribaltato si chiamava Argentina e doveva essere venuta al nano in licenza al pavaglione non se ne parlò più ma uno alla volta i ragazzi salivano al bricchetto che dominava il nano e di lassù guardavano a lungo giù nell'aia una sera Agostino andava per suo conto sul sentiero al margine del castagneto quando gli si para di traverso quell'Argentina vestita proprio come aveva detto Marziano era entrata giusto nel filo del vento e alzò un braccio a raccogliersi i capelli sulla nuca Agostino pensò di saltare nel bosco per nasconderlesi ma lei si voltò un attimo prima e lo guardò con occhi neri da sotto il braccio ripiegato e lui restò come legato mani e piedi senza muoversi gli domandò tu chi sei zitto Agostino stai da queste parti Agostino abbassò gli occhi ma anche così le vedeva la punta di una scarpina nera da città e le abbassò di più sei un disgraziato muto no gridò lui rise e gli scese incontro di un passo allora chi sei sono il servitore del pavaglione così stai da Matteo però sei ben superbo per essere solo un servitore tu sei meglio di me lo sai chi sono io sei la nipote di quelli del nano come fai a saperlo la mia padrona lei scese di un altro passo dove te ne andavi per mio conto come per tuo conto un servitore che va per suo conto in un'ora di chiaro sei scappato dal pavaglione dillo a me non sono scappato ma per oggi ho finito e vado per mio conto Argentina so guardò il castagneto entri nel bosco se mi va entra nel bosco io ti vengo dietro io vado per conto mio perché non vuoi venire con me Agostino guardò alto alla langa ma lei gli cercò gli occhi finché li ebbe e gli elitenne non ti piacerebbe girare il bosco con me perché vuoi venire nel bosco con me perché è pieno di nidi tu li cerchi e mi cogli gli uccelli appena nati cosa ne fai mi cerco un bastoncino e ce li infilo uno dopo l'altro man mano che tu li trovi e me li passi chi te l'ha insegnato l'ho imparato belle da me da piccola io ho sempre trovato i ragazzi che mi cercavano apposta ai nidi me non mi trovi le disse forte Agostino e le voltò le spalle lei gli disse dietro starei bene con me nel bosco senza voltarsi le fece segno di no e già correva anche per la ripidità del sentiero stupido gli gridò dietro Argentina stupido me lo faranno i figli di Matteo glielo fecero sì a cominciare da genio e Agostino si sentì dentro un male misterioso la notte che cercò in vano genio per tutta la casa uscì sull'aia si riempì gli occhi di buio e gli orecchi di vento marino forte e suave ed era certo che in qualche punto di quel buio Argentina se ne stava con genio senza più la veste turchina e le calze bianche andò a coricarsi nella stalla ma non dormì vegliò con la testa piegata sul petto come a cogliere con l'orecchio il primo sbocco di un nuovo sorgente e poi toccò a Marziano i ragazzi parlarono e si seppe che altri vicini si facevano avanti per andare la notte con Argentina l'indomani della notte di Marziano Agostino ci patì come mai prima a lavorare non vedeva l'ora che tramontasse e si alzava gli occhi dalla terra il sole era sempre inchiodato allo stesso punto del cielo il corpo gli si tendeva fino a indolorirsi gli sopravveniva poi una debolezza per cui le ginocchia erano lì per cederli ora sapeva che altro poteva doveva asservire quel suo corpo non che lo sapesse da prima ma aveva sempre riferito quel pensiero al corpo degli altri uomini dando la schiena a Matteo se lo guardò e toccò e decise che quella sera stessa sarebbe stato per Argentina come la vanga era per la terra calò il sole e dopo cena Agostino aggirò la casa e andò a sedersi sul tronco a ridosso del muro che dava sulla terra lì aspettò che tutto il creato si riducesse a un vento nero poi si alzò e si mosse quel tanto che bastava per arrivare a vedere una finestra illuminata del nano ma tornò quasi subito indietro per una paura una disperazione si rimise a sedere sul tronco finché con la coda dell'occhio afferrò un movimento che poteva essere un'ombra qualunque ed era invece Argentina andarono al bosco in silenzio lui tenendola stretta per un braccio come se ad ogni momento dovesse scapparli nel buio e dal buio ridergli l'ebbe sulla terra decliva col vento che le saettava i gemiti lontano dopo lei gli disse potevi essere il primo se non eri tanto stupido e superbo io sono contento anche così Argentina te non so nemmeno come ti chiami Agostino come ti chiami Agostino ma si allargò e si infitti la diceria ai ragazzi anche i lontani fino al settivo del pilone e i piccoli come Tomalino della serra salivano ogni sera al bricchetto sopra il nano e di lassù la chiamavano a più voci e siccome lei non si affacciava si diedero a orlare e sghinezzare finché suo zio uscì col fucile e fece un colpo in aria disse Matteo al pavaglione è stato un buon sfogo per i nostri maschi ma adesso ha preso il vizio disse la mezzadra e chi glielo mantiene cominciare dovevano cominciare e alla figlia Domenica che si muoveva tutta nervosa disse tu tieni il sangue firmo che presto ti maritiamo e avrai anche tu quel che ti spetta ma di buon giusto la mezzadra si domandava non possono mica averglielo insegnato alle rosine da dove è uscita quella ragazza infernata lo seppe della mezzadra del nano aveva chiesto alla nipote dopo averla legata alla tavola e cinghiata ben bene cosa le era saltato in mente e Argentina piangendo aveva risposto che lei credeva che le ragazze che non stavano in collegio lo facessero tutte e sempre la mattina dopo suo zio la caricò sul carro la portava ad Alba a farle prendere il treno per Torino sulla testa e sulle spalle le avevano buttato una veste nera di sua zia a nasconderla ma dove il carro passava tutti gli uomini sulla terra alzavano la schiena era venuto al fiume nell'ora di mezzogiorno e non c'era nessuno sul fiume nemmeno il Martim Pescatore aveva attraversato il ponte perché pensava che era meglio succedesse sulla sponda opposta alla città e poi aveva continuato ad allontanarsi per un sentiero che andava a perdersi nel sabbione da dove si era fermato e seduto poteva vedere il ponte lontano come se fosse incollato all'orizzonte e gli uomini e i carri che ci passavano sopra gli apparivano formiche e giocattoli era già un pezzo che stava lì seduto sotto il pioppo con in grembo l'ombra dell'albero e le gambe stese al sole perché non l'aveva già fatto si era lasciato distrarre a lungo da un uccellino venuto a posarsi su una lingua di terra ghiaiosa e sterposa che rompeva l'acqua proprio di fronte a lui l'uccellino si era messo a esplorare con la terra saltellando a zampe giunte tra gli sterpi e storcendo la testa a destra e a manca come avesse nel collo un meccanismo era grazioso col dorso color tabacco e una fettuccia turchina intorno al collo bianchissimo l'aveva preso un'incredibile curiosità di saperne la razza si disse persino che se fosse tornato in città avrebbe potuto descriverlo al suo amico Vittorio che se ne intendeva e così saperne il nome ma lui in città non ci tornava addio Vittorio ti farà effetto lo so per un lungo tempo non misurato seguì con gli occhi l'uccellino e per tutto quel tempo ebbe sulla bocca un gentile pieno sorriso che quando si accorse di averlo gli lasciò dentro un profondo stupore sbatté un po' con le ciglia e dopo non riuscì più a rintracciare l'uccellino sparito l'uccellino aveva abbassato lo sguardo sul quadrato di sabbia davanti ai suoi piedi così pura e distesa che lui poteva seguirci l'ombra del volo di insetti minutissimi poi si sentì sete e con gli occhi cercò tra l'erbaccia dove le aveva gettate le due bottigliette d'aranciata si disse che aveva fatto male a berle tutte e due subito ma ritardando l'aranciata si sarebbe fatta calda e disgustosa come orina si ricordava di mentre comperava le aranciate era andato dal barista Ottavio che era un suo mezzo amico dammi due aranciate perché due perché credo di averne bisogno di due avrò sete vado fuori in questo calore era chiaro che Ottavio si faceva nella sua testa l'idea che lui uscisse con una donna ma Ottavio disse solamente allora te le porti via con te i vuoti sono a rendere ricordati di riportarmi lì stasera non sono mica sicuro di riportarteli allora ci vuole una cauzione di venti lire per bottiglietta fa quaranta lire te le rimborso stasera se mi riporti i vuoti grazie ciao sai Ottavio non mi rimborserai mai più il mio deposito ho idea che stasera o domani cercherai nel tuo cassetto i miei quattro biglietti da dieci e quando crederai di averli trovati te li metterai sul palmo della mano e li guarderai e ci mediterai sopra un bel po' però si sentiva sempre sete si disse perché mi preoccupo della sete non son venuto qui per l'acqua perché la faccio tanto lunga e si alzò uscì dall'ombra dell'albero e camminò nel sole verso l'acqua si guardò tutto intorno per vedere se c'erano pescatori vicini o lontani nessuno non una canna che oscillasse sopra il verde o che sporgesse dalle curve dell'argine decise di studiare il fiume ma prima volle accendersi una sigaretta se ne era comprate di quelle di lusso mai comprate in vita sua ma oggi era diverso però trovava che quelle famose sigarette da signori gli impastavano la lingua e gli irritavano con la loro troppa dolcezza la gola dopo quattro o cinque boccate gettò la sigaretta faceva da terra un fumo straordinariamente azzurro e denso che si spiralava persicuamente nell'aria dorata poteva essere visto da lontano così colorato e tardo a svanire far da richiamo andò a soffocarlo accuratamente col piede poi a due passi dall'acqua esaminò il fiume ne prese e tenne sott'occhio una lunghezza di trenta passi il tratto dove lui sapeva che l'avrebbe finita e si stupì di come l'acqua variava di colore le correnti erano grigio ferro e gli specchi d'acqua profonda color verde studiò la corrente più vicina e lo specchio in cui essa si splacava si chinò sui ginocchi e pensava è semplice vado nella corrente mi ci lascio prendere e lei mi porta da sola nell'acqua alta sarà come andarci in macchina sono contento che non so nuotare mi ricordo che da ragazzo e da giovanotto mi dispiaceva ma adesso sono contento di non aver mai imparato così una volta nella corrente più niente dipenderà da me restando chino sui ginocchi e trascinando avanti una gamba e poi l'altra andò nell'acqua e ci infilò dentro un dito era calda più in là lo sarebbe stata meno ma non tanto c'erano con lui sulla riva sei o sette strane mosche col dorso che mandava lampi azzurri scalavano le pietre e i detriti passeggiavano la sabbia e parevano non aver paura di lui lui sventolò una mano e le mosche si ritirarono ma mica tanto lontano con le mani sui ginocchi guardava il pelo dell'acqua e si lasciava riempire le orecchie del suo rumore dentro la tasca il pacchetto delle sigarette gli faceva borsa sulla coscia lo tirò fuori e fece per gettarlo ma frenò la mano cercò una pietra prominente all'asciutto e andò a posarci sopra il pacchetto è ancora quasi pieno a qualcuno farà piacere trovarlo lo troverà uno di quei disgraziati che vengono qui per legna marcia raccoglieva pietre e una dopo l'altra se le cacciava in seno per quel peso ora non poteva più star bene eretto con la schiena levo gli occhi al cielo il sole glieli chiuse e disse papà e mamma dov'è che siete non so se mi vedete ma se mi vedete non copritevi gli occhi non è colpa vostra ve lo dico io non è colpa vostra non è colpa di nessuno camminava già nell'acqua al ginocchio ed avanzando raccoglieva ancora pietre sott'acqua e se le cacciava in seno grondanti arrivò tutto corvo dove più forte era la corrente che portava all'acqua verde cosa hai fatto gli domandò sua madre a bruciapelo senza dargli il tempo di chiudersi dietro la porta cosa c'è disse lui in guardia è stata qui quella ragazza Rita Rita e per cosa è stata qui voleva vederti ad ogni costo ha chiesto a me dove poteva trovarti ma io lo so così poco dove ti trovi tu era piena d'affanno non riusciva a star ferma un momento ha detto che andava a casa a mangiare e poi usciva di nuovo subito a cercarti cosa avete fatto tu e Rita qualcosa di storto sempre filato dritto io e Rita disse lui non so proprio cosa le sia capitato è diventata matta mangiamo tranquilli dopo pranzo la cerco e le domando sei diventata matta dopo mangiato uscì nel freddo fece due starade senza ben sapere perché avesse infilato quelle piuttosto che altre vide poi Rita per caso ferma all'angolo della via degli stabilimenti e tremava Ugo si fermò a guardarla da lontano ma poi dovette muoversi e andare da lei c'era solo spavento negli occhi di Rita prima che lui potesse aprire la bocca lei gli disse mi hai messa incinta Ugo Cristo cosa mi dici disse lui piano irresistibilmente le aveva puntato gli occhi sul ventre aveva fatto un passo indietro per guardarglielo meglio e doveva sforzarsi per tenere le mani da scendere a scostarle un lembo del cappotto sul ventre gli occhi di lei si riempirono fino all'orlo di spavento vedendo lo spavento negli occhi di lui Ugo la fissava atterrito come se le avesse acceso una miccia nel profondo del corpo e ora aspettasse di vederla esplodere da un momento all'altro tu cosa dici gli domandò lei con la bocca trevante sei sicura disse lui Rauco me l'ha detto il medico sei già dovuto andare dal medico avevo incominciato a rigettare Ugo fece una smorfia d'orrore batte la mano sulla coscia e disse forte non farmi sapere quelle cose lì Ugo lei gridò e i tuoi disse lui dopo un po' non sanno niente ho ancora due mesi per nascondere ma poi non potrò più in questi due mesi devo trovare il coraggio di buttarmi nel fiume ci sono qua io disse lui senza guardarla neppure lei lo guardò sentì e scosse la testa che freddo faceva il freddo veniva proprio dal fiume sorvolando i prati aperti lui le mise un braccio intorno alle spalle ma non sapeva guardarla negli occhi respiravano forte uno dopo il respiro dell'altra come se facessero per gioco ad alternarsi così che cosa devo fare disse poi lei eh che cosa devo fare lui non rispondeva lei aspettò e poi disse tu cosa vuoi che faccia lui non riusciva nemmeno a schiudere la bocca sei tu che devi decidere le disse poi io faccio quello che vuoi tu hai solo da dire io non so cosa dire parla Ugo non so cosa dire allora lei gli gridò di non fare il bigliacco Ugo ebbe come una benda nera sugli occhi voltandosi la premette col petto finché la schiena di lei toccò il muro ma non diceva niente lei gli puntò le mani sul petto e gli disse parla Ugo tu sei l'uomo fai conto di essere il mio padrone decidi come se dovessi decidere per un motore rotto tu di e io ti ascolto cosa vuoi che faccia non rispondeva e allora lei gli disse molto piano vuoi che vada a parlare a una levatrice ma ci vanno tanti soldi per l'operazione lui si sentì a dire io potrei farmi riemprestare tutti quei soldi che ci vanno ma guardandola per la prima volta vide lo spavento traboccare dagli occhi di lei la vista gli si annebbiò la prese con tutte e due le braccia e le disse nei capelli ma credi che io voglio che tu ti rovini lei fece per tirarsi indietro poterlo guardare negli occhi ma lui la tenne ferma e le disse stai lì al caldo Rita gli piangeva sul collo quel bagnato subito caldo e poi subito freddo lo indeboliva spaventosamente poi lei gli disse nel collo io lo vorrei il bambino il bambino lo avrai te l'ho dato ed è tuo lo avrai il bambino diceva lui ma non sapeva uscire dal buio che era nel collo di lei non voleva vedere la luce lei si staccò ma non gli tolse le mani dal petto lo guardava muovendo la bocca allora Ugo sentì un calore dentro che lo fece drizzare contro la corrente di freddo aveva solo paura che quel calore gli cessasse solo paura di risentir freddo dentro le disse adesso che siamo d'accordo vai a casa sei un pezzo di ghiaccio lei si spaventò di nuovo gli tornò contro col corpo gli disse nel collo cosa faccio a casa lui si staccò e le alzò il viso perché lei gli vedesse gli occhi adesso erano fissi e duri ma lui voleva solo che lei gli obbedisse guardandola con quegli occhi le disse a casa parli dici tutto a tuo padre a tua madre a tutti di casa tua Rita gridò di no con un filo di voce glielo dici devi dirglielo entro oggi perché stasera arrivo io a casa tua tu sei matto ugo ti ammazzano ti ammazzano di pugni ma lui disse glielo dici giurami che glielo dici lei non giurò batteva i denti lui le disse adesso io ti lascio ma devo essere sicuro che quando suonano le quattro tu gliel'hai già detto giurami che glielo dici batteva sempre i denti devi dirglielo dirglielo e poi sopportare tutto quello che ti faranno pensa stasera quando arrivo io a dar la mia parola che ti sposo fatti forza pensa stasera e diglielo sono solo quattro ore che saranno brutte poi arrivo io e mi piglio io tutto il brutto Rita incomincio da stasera e lo farò per tutta la vita allora lei chinò la testa e disse non so come farò ma glielo dico per le quattro si inclinò a guardarla le disse hai paura hai una paura matta hai paura ma io non voglio che tu abbia paura voglio che tu glielo dica senza paura fammi vedere come glielo dirai su fammi vedere lei si mise a piangere piano andiamo disse lui trascinandola andiamo insieme io e te a casa tua e parlo io lui si divincolò tornò indietro di corsa ti ammazzano di pugni lui andò a riprenderla non mi ammazzano me ne daranno quante non me ne sono mai presa in tutta la mia vita ma non mi ammazzano ma non lascio che tu abbia paura allora Rita disse va bene glielo dico quando senti battere le quattro regola ti che lo sanno già cominciò ad allontanarsi camminando ad agio all'indietro lui da fermo la guardava ogni tre passi le diceva diglielo non avere paura hai paura hai paura la rincorse le arrivò addosso l'abbracciò hai paura non voglio che tu abbia paura sei la mia donna e non voglio che tu abbia mai paura Cristo voglia di piangere Cristo io li ammazzo tutti i tuoi perché è di loro che hai paura lei si esaltò disse glielo dico ho paura ma sono contenta tu diventi il mio uomo davanti a mio padre e mia madre e io sono tanto felice che un po' devo ben pagare lui le disse diglielo io arrivo alle otto avete già finito di mangiare per le otto lei accennò di sì non riuscivano a staccare le mani si facevano male per non lasciarsi andare poi si staccarono con una specie di strappo se ne andarono oppostamente Ugo girò per la città aspettava che battessero le quattro e aveva davanti agli occhi negli occhi le mani del sellaio e dei suoi due figli si diceva che doveva pensare solo a Rita quello che doveva passare Rita prima che lui arrivasse a prendersi tutto il brutto ma non poteva togliersi da davanti agli occhi quelle mani quando finalmente suonarono le quattro lui era in un caffè si tolse la sigaretta di bocca e guardò lontano dalla gente in alto poi pensò che gli uomini di casa di Rita potevano per il furore e la voglia di vendetta abbandonare il lavoro e mettersi in giro per la città a cercarlo dovunque non doveva succedere che lo trovassero non era pronto lo sarebbe stato per le otto della sera mancavano quattro ore andò al fiume e rimase fino a scuro sugli argini a pensare tornò si avvicinava a casa come in guerra a quegli abitati dove non si sapeva se ci fossero o no nemici nel corridoio e su per la scala cercò di sentire se in casa c'era qualcuno oltre suo padre e sua madre entrò c'era tavola preparata e suo padre che aspettava di mangiare e strofinava la mano sulla schiena al suo cagnino l'hai vista? gli domandò subito sua madre niente disse lui non era ancora pronto avrebbe parlato tra venti minuti o mezz'ora anche lui doveva parlare come Rita l'avrebbe detto alla fine della cena se lo diceva in principio nessuno avrebbe mangiato più finito colto il momento che sua madre si muoveva per alzarsi a sparecchiare allora parlò parlando guardava sua madre che lentissimamente tornava a sedersi le parole gli saltavano via di bocca una dietro l'altra come se per ognuna ci volesse uno spintone suo padre aveva abbassato gli occhi fin da principio sembrava cercare le briciole di pane sull'incerato ma sua madre gridò sei matto sei matto sei un maiale un delinquente finché suo padre batte un pugno sulla tavola e le gridò non gridare o strega non far sentire le nostre belle faccende a tutta la casa lei gridò allora parla di tu digli che porcheria ha fatto diglielo tu ma dopo suo padre non disse più niente allora sua madre che tremava tutta disse piano e guardandolo nel piatto dovevi pensare a noi che siamo vecchi prima di pensare a fare dei bambini Ugo gridò io ci ho pensato io non ho pensato a niente per me è stato un colpo è stata una disgrazia tu credi che io ci abbia pensato poi disse più basso ma non cambia mica niente tra me e voi quando io abbia sposato Rita e abbia una famiglia mia ma sua madre scuoteva la testa era talmente disperata che si mise a sorridere disse quando si ha intorno gente fresca i vecchi si dimenticano in fretta vedrai che con la famiglia nuova avrai tante difficoltà che non potrai più pensare ai tuoi vecchi e a un certo punto ti convincerai che è un bene per te che entrino all'ospizio Ugo urlò non parlare così non parlare dell'ospizio perché sai che non è vero che io mi faccio ammazzare prima di vedervi entrare all'ospizio gridava anche suo padre si era tutto congestionato in faccia e gridava a sua moglie ci sono io per te c'ero quando tuo figlio non c'era ancora e ci sarò quando tuo figlio sarà lontano io sono un uomo fino a prova contraria e non ti ho mai fatto mancare niente di quello che ti spetta il cane era filato a rannicchiarsi nell'angolo del gas di là li guardava e dimenava a loro la coda perché non lo facessero spaventare di più la madre scrollò la testa a lungo sorrideva sempre come prima ma adesso stava zitta allora Ugo si alzò dove vai? suo padre vado a casa di lei mi aspettano suo padre sbatte le palpe per per la paura ma non disse niente solo si mosse sulla sedia facendola scricchiolare Ugo si girò a guardare sua madre gli dava le spalle e le spalle erano in mote come la testa reclina Ugo andò in una stanza stette un momento a sentire se suo padre e sua madre si parlavano piano ma non si parlavano andò a pettinarsi davanti allo specchio si guardò la faccia pensò a come l'avrebbe avuto tra mezz'ora un'ora sono un uomo si disse poi togliendosi da davanti allo specchio era tornato in cucina sua madre stava come l'aveva lasciata niente si muoveva di lei suo padre teneva una mano sul collo del cane che gli era stato drizzato contro i gilocchi ma guardava un punto qualunque della parete e quando Ugo rientrò suo padre si mise a guardarli i piedi Ugo sospirò si mosse e allora suo padre scostò il cane si alzò tese una mano verso il suo giaccone vengo anch'io no che tu non vieni disse forte Ugo suo padre allungò la mano verso il suo berretto Ugo gli disse non voglio che tu venga io sono un uomo la responsabilità è tutta mia voglio aggiustare tutto da me da uomo vengo anch'io non voglio che ti facciano niente non mi faranno niente c'è tre uomini in quella casa e tre uomini forti come tori vengo anch'io che sono tuo padre Ugo si tirò indietro se ci vieni anche tu non ci vado io allora sua madre alzò la testa come se si svegliasse e disse lascia che venga anche tuo padre poi mentre suo padre l'aveva preso per un braccio e lo spingeva fuori lei disse ancora e non lasciate che tormentino quella povera figlia disgraziata uscirono insieme suo padre gli tenne il braccio fin sulla strada Ugo pensava devo entrare da solo mio padre adesso me lo levo che figura ci faccio a farmi accompagnare da mio padre non riuscirò più a sentirmi un uomo per tutta la vita suo padre si era messo al passo con lui camminavano come militarmente sul ghiaccio e sulla pietra poi Ugo disse senti che freddo fa adesso tu torna indietro ma suo padre gli marciava sempre accanto senza parlare all'angolo della casa di lei Ugo si fermò si mise di fronte a suo padre e gli disse ci siamo tu vai al caffè di George pigli qualcosa di caldo e mi aspetti io passo poi a prenderti entro anch'io lasciami entrare da solo lasciami fare la figura dell'uomo vengo anch'io non voglio mica che ti rompano in tre contro uno sei mio figlio allora non entro io piuttosto tradisco Rita capisci padre io voglio fare la figura dell'uomo tu non mi hai messo al mondo perché io facessi l'uomo loro mi vedono entrare da solo vedono che non ho avuto paura e pensano che in fondo io non devo averla fatta tanto sporca capisci sei d'accordo allora fammi ad aspettare al caffè di George suo padre pensò poi disse entra da solo io ti aspetto qui fuori non mi muovo di qui ma tu fatti sentire se dibattino in tre contro uno adesso entra e fai l'uomo Ugo andò per il corridoio nero poi si voltò a vedere dove era rimasto suo padre si era firmato sulla soglia del corridoio ben risaltando sul fondo della neve e della luce pubblica andando alla porta del sellaio camminava senza accorgersene in punta di piedi non faceva rumore la porta non era ben chiusa ne filtrava un filo di luce gialla avrebbe ceduto a spingerla prese una profonda boccata d'aria e spinse la cucina era calda ben illuminata e c'era soltanto la madre di Rita che stava a pensare seduta accanto alla stufa e con le mani in grembo lui non guardò subito la donna l'aveva preso uno stupore per quella che era la casa di Rita guardò le quattro pareti il soffitto quindi guardò la donna lei era stata a guardarlo quando lui la fissò lei chiamò Evelio ma piano come se bastasse o come se non le fosse venuta la voce a raccolta poi alzandosi gridò Emilio e in fretta quasi correndo andò a una porta verso l'interno e vi sparì gliel'ha detto si disse lui e si voltò andò a chiudere a chiave la porta da dove era entrato e poi tornò nel mezzo della cucina non sapeva dove e come tenere le mani sentì oltre il soffitto un piccolo rumore come il gemito del legno fu sicuro che era Rita segregata nella sua stanza fu lì per mandarle una voce bassa in quel momento entrò il padre di Rita e dietro i due fratelli e dietro la madre gli uomini portavano tutti e tre il grembiolone di cuoio del loro mestiere Ugo disse buonasera al vecchio e ciao Francesco ciao Teresio ai giovani non risposero i due giovani si appoggiarono con le spalle alla parete e le mani stese sulle cosce il vecchio veniva Ugo si tenne dal guardargli le mani e solo le mani guardargli gli occhi non poteva e così gli guardava la bocca ma non poteva capirne niente per via dei baffoni grigi che ci piovevano sopra quando il vecchio gli fu ad un passo allora Ugo lo guardò negli occhi e così vide solo l'ombra nera della grande mano levata in aria che gli piombava di fianco sulla faccia chiuse gli occhi un attimo prima che arrivasse lo schiaffo detonò il nero nei suoi occhi si cambiò in giallo lui oscillò come un burattino con la base piena di piombo ma non andò in terra fu il suo primo pensiero non sono andato in terra la faccia gli ardeva ma lui teneva le mani passe il vecchio si era tirato indietro di due passi ora lo guardava come lo guardavano gli altri e c'era silenzio almeno così pareva a lui che aveva le orecchie che gli ronzavano forte sua madre dirita alzò al petto le mani giunte e cominciò a dire con voce uguale la nostra povera Rita la nostra povera Rita la nostra povera Rita la nostra povera Ugo disse Rita non è mica morta per parlarne così Teresio il più giovane ringhiò di furore e corse contro Ugo col pugno avanti Ugo non scartò ma Teresio sbagliò lo stesso il suo pugno che sfiorò la mascella di Ugo e si perse al di sopra della spalla allora Teresio ringhiò di nuovo un po' di furore ritornò sotto di fianco di destro colpì Ugo alle costole Ugo fece per gridare di dolore ma gli mancò netto il fiato da fuori bussarono Ugo sentì gli tornò il fiato per dire non aprite è soltanto mio padre nessuno della casa si mosse e da fuori suo padre bussò ancora più secco va tutto bene parliamo vanno ad aspettare da George disse forte Ugo e suo padre non bussò più in quel momento entrò in cucina la sorella minore di Rita Francesco le gridò di andare via e sua madre le disse vai via e vergognati tu che la accompagnavi fuori e poi li lasciavi soli insieme prima di andarsene la ragazza scoppiò a piangere disse io non credevo che facessero le cose brutte allora Francesco si infuriò in tutta la faccia venne deliberatamente da Ugo lo misurò e lo colpì in piena faccia Ugo si sentì volare all'indietro finché sbatté la schiena contro lo spigolo della tavola si rimise su aspirò l'aria tra dente e dente e poi disse voi avete ragione ma adesso basta adesso parliamo io sono venuto a darvi la mia parola che sposo Rita a voi lo dico adesso ma a vostra figlia l'avevo detto fin da questo autunno adesso io aspetto solo che mi dite di sì e che poi mi lasciate andare Francesco disse tu sei il tipo che noi non avremmo mai voluto nella nostra famiglia come se suggerisse il parlare a suo padre di fatti il vecchio disse noi ci eravamo fatti un'altra idea dell'uomo che sarebbe toccato a Rita credevamo che Rita si meritasse tutto un altro uomo ma su Rita ci siamo sbagliati tutti adesso dobbiamo prenderti come sei Rita ti sposerà all'uomo che si merita la madre disse ormai Rita non potrà avere altro uomo che te anche se si presentasse un buon ragazzo sarei proprio io a mandarlo per un'altra strada quando la sposi domandò il vecchio la sposo l'autunno che viene la donna si spaventò disse con le mani alla bocca ma per l'autunno il bambino Rita avrà già comprato la sposi molto prima comandò il vecchio deve sposarla nel mese disse Francesco Ugo fece segno di no con la testa Francesco bestemmiò e mise avanti un pugno ma il vecchio disse che idee hai a Ugo la sposo quest'autunno perché prima non posso non sono a posto da sposarmi e se voi avete vergogna a tenervela in casa avete solo da dirlo fatemela venire qui da dove si trova e io me la porto subito a casa da mia madre resterà in casa mia ma non da sposa fino a quest'autunno parlate allora Teresio urlò e pianse si ficcava le dita in bocca piegato in due si girava da tutte le parti da così basso gridò piangendo non voglio che ridava da via non voglio che ci lasci così cosa ci importa della gente le romperemo il muso alla gente che parlerà male ma non voglio che ridava da via così e mia sorella troncò il gridare e il piangere spette a farsi vedere coi capelli sugli occhi e la bocca aperta e le mani coperte di bava sembrava un folle suo fratello andò a battergli la mano larga sulla schiena posso vederla disse Ugo dopo no gridò il vecchio non me la fate vedere perché l'avete picchiata la voce gli si bilava un po' per via di un dente allentato Teresio si rimise a urlare e piangere no non l'abbiamo picchiata non le abbiamo fatto niente non avevamo più la forza di alzare un dito ci è scappato tutto il sangue dalle vene quando ce l'ha detto mandò un urlo fece per mandarne un secondo ma non poté perché sua madre corse da lui e gli soffocò la bocca contro il suo petto il vecchio disse non ti credere adesso che abbiamo deciso per forza quello che abbiamo deciso non ti credere di poterci venire in casa quando ti piace Rita la vedrai una volta alla settimana la festa qui in casa nostra alla presenza di sua madre e mai per più di un'ora Ugo chinò la testa fuori c'era suo padre che l'aspettava andò verso suo figlio in fretta per incontrarlo prima che uscisse dal cerchio della luce pubblica voleva vedergli la faccia Ugo rideva senza rumore non si fermò spinse suo padre lontano dal cerchio della luce padre di Rita e tua nuora se si frega a lungo e fortemente le dita di una mano sul dorso dell'altra e poi si annusa la pelle l'odore che si sente quello è l'odore della morte Carlo l'aveva imparato fin da piccolo forse dai discorsi di sua madre con le altre donne del cortile o più probabilmente in quelle adunate di ragazzini nelle notti estive nel tempo che sta fra l'ultimo gioco e il primo lavoro dove dai compagni un po' più grandi si imparano tante cose sulla vita in generale e sui rapporti tra uomo e donna in particolare un odore preciso lo sentì una sera di un'altra estate già uomo e che quello fosse proprio l'odore della morte i fatti lo dimostrarono quella sera Carlo era fermo in fondo alla via dell'ospedale di San Lazzaro in faccia al passaggio a livello appena fuori dalla stazione partì l'ultimo treno per soffiava il suo fumo nero su su nella sera turchina mandava un buonissimo odore di carbone d'acciaio sotto attrito dai suoi finestrini usciva una gialla luce calma e dolce come la luce dalle finestre di casa nostra otto e un quarto si disse lui e tutto eccitato stette a guardare il ferroviere che girava la manovella per rialzare le sbarre dentro la casa al cui angolo stava appoggiato una donna alla quale dalla voce diede l'età di sua madre si mise a cantare una canzone della sua gioventù mi piacerebbe trovarmi in America pensò specialmente a Hollywood ma non stasera stasera voglio fare l'amore nei miei posti e sprofondò le mani chiusi a pugno nelle tasche dei calzoni Carlo aspettava la sua donna dei diciotto anni per uscirla verso i prati e non c'è da farla lunga sulla sua voglia né su come il tempo camminò sul quadrante luminoso della stazione e lei non venne ma ciò che è necessario dire è che il corpo di lei era l'unica ricchezza di Carlo in quel duro momento della sua vita e che non venendo stasera lui avrebbe dovuto per riaverla vivere tutta un'altra settimana di tensione e servitù così anche quando fu passata l'ora solita di lei non si sentì di andarsene di gettare ogni speranza restava fisso lì come per scaramanzia quasi lei non potesse non venire se lui durava tanto ad aspettarla ma poi furono le otto e quaranta guardandosi attorno vedeva la gente vecchia seduta sulle panchine del giardino pubblico erano semi scancellati dall'oscurità ma quelli che fumavano avevano tutti la punta rossa del sigaro rivolta verso di lui e quella donna che prima cantava era lei certamente che prima cantava ora stava fuori sul balcone e da un pezzo guardava giù sui suoi capelli dai campanili della città gli scesero nelle orecchie i tocchi delle nove e allora partì verso il centro della città verso l'altra gente giovane che passeggiava in piazza o siete al caffè e deve scacciarsi le donne dalla mente come le mosche dal naso camminava ed ogni cinque passi si voltava a guardare indietro a quell'angolo incontrò due o tre coppie molto giovani andavano sbandando sull'asfalto come ubriachetti si cingevano e poi si svincolavano a seconda che entravano uscivano dalle zone d'ombra lasciate dalle lampade pubbliche Carlo invidiava quei ragazzi con la ragazza ma poi si disse vissà se vanno a fare quel che avremmo fatto noi se lei veniva se no non è proprio il caso di invidiarli deviò per andare a bere alla fontana del giardino beve profondo poi rialzata la testa guardò un'ultima volta a quell'angolo e vide spuntarci una ragazza alta alta come lei con una giacca giallo canarino che allora era un colore di moda scattò dalla fontana mandando un lungo fischio verso la ragazza si buttò a correre per il dialetto del giardino la gente vecchia ritirava in fretta sotto le panchine le gambe allungate e comode sulla ghiaia lui passava di corsa fischiando un'altra volta la ragazza non si voltava né rallentava lui corse più forte a momenti urtava il ferroviere che si accingeva a calare le sbarre per l'ultimo treno in arrivo saltò i binari e arrivò alle spalle della ragazza camminava rigida e rapida stava sorpassando l'officina del gas lui si fermò perché aveva già capito che non era lei solo un'altra ragazza pressa poco della sua costruzione e con una giacca identica alla sua ma quando l'ebbe capito il terzo fischio gli era già uscito di bocca e arrivò dalla ragazza che senza fermarsi guardò indietro sopra la spalla e vide lui fermo in mezzo alla via che abbandonava le braccia lungo i fianchi rigirò la testa e proseguì sempre più rapida verso il fondo buio di quella strada lui ansava e non vide l'uomo che il ferroviere vide passarchino sotto le sbarre e farsi sotto a Carlo alle spalle ma non lo presi a tradimento facendogli intorno un mezzo giro gli venne davanti e gli artigliò con dita ossute e i bicipiti tutto questo senza dire una parola in quel momento Carlo sapeva di lui nient'altro che si chiamava Attilio che era stato soldato in Grecia e poi prigioniero in Germania e la gente diceva che era tornato tisico Carlo gli artigliò le braccia a sua volta e cominciarono a lottarsi guardando sopra la spalla di Attilio vide per un attimo la ragazza per nascondersi si era fatta sottile sottile dietro lo spigolo di una portina ma la tradiva un lembo scoperto della sua giacca gialla Attilio che l'aveva assalito non lo guardava in faccia anzi aveva abbattuto la testa sul petto di Carlo i suoi capelli gli spazzolavano il mento gli stringeva i muscoli delle braccia e Carlo i suoi ma Carlo non poteva aprire la bocca così teneva la bocca inchiavardata e quando per l'orgasmo non poteva più respirare aria abbastante dal naso allora torceva la testa fino a far crepitare l'osso del collo fu torcendo la testa che vide il ferroviere che stava a guardarli e non interveniva lui come poteva capire che stavano battendosi se loro due non sembravano altro che due ubriachi che si sostenessero l'un l'altro ma ciò che il ferroviere non poteva immaginare era come loro due si stringevano i muscoli Carlo si domandava come facessero le braccia di Attilio a resistere alla sua stretta a non spappolarsi però anche Attilio stringeva maledettamente forte se non fosse stato per non ingoiare l'odore della morte Carlo avrebbe urlato di dolore aveva già capito perché Attilio l'aveva affrontato così e lo strano è che la cosa non gli sembrava affatto assurda e bestiale Carlo lo capiva Attilio mentre cercava di spezzargli le braccia adesso Attilio aveva rialzato la testa e la teneva arrovesciata all'indietro per quanto il campanello della stazione avesse incominciato il suo lungo rumore poteva sentir distintamente battere il cuore di Attilio cozzava contro il costato come se volesse sfondarlo e piommare succarlo come un proiettile decise di finirla quell'odore se lo sentiva già dovunque dentro passando per le narici la bocca e i pori inarrestabile come la potenza stessa che lo distillava doveva già avergli avviluppato il cervello perché si sentiva pazzo alzò una gamba e la portò avanti per fargli lo sgambetto e sbatterlo a rompersi il filo della schiena nella cunetta della strada proprio allora la testa di Attilio scivolò pian piano giù fino all'ombelico di Carlo anche le sue mani si erano allentate ed erano scese lungo le sue braccia ora gli serravano solo più i polsi Attilio rantolava Attilio finì seduto in terra poi per il peso della testa rovesciata si abbatté con tutta la schiena solzeggiato Carlo non si mosse a tirarlo su a metterlo seduto contro il muro dell'officina del gas perché non poteva risentirgli l'odore quando fu tutto per terra se dimenticò che l'aveva capito aprì la bocca per gridargli che Cristo ti ha preso ma si ricordò in tempo che l'aveva capito e richiuse la bocca il treno era vicino a giudicare dal rumore che faceva stava passando sul ponte guardò giù nella via per scoprire la ragazza aveva lasciato il riparo della portina era ferma a metà della strada guardava da lontano quel mucchio di stracci neri e bianchi che formava Attilio sul selciato poi venne su verso i due con un passo estremamente lento e cauto Carlo poteva andarsene voltò le spalle ad Attilio e andò al passaggio a livello quel ferroviere si mise rivolto a guardare il binario per il quale il treno giungeva ma Carlo poteva vendergli una pupilla che lo sorvegliava spinta fino all'angolo dell'occhio il ferroviere non gli disse niente del resto avrebbe dovuto gridare passò il treno e schiaffeggiò Carlo con tutte le sue luci i viaggiatori e i finestrini gli videro la faccia che aveva e chissà cosa avranno pensato se ne andava con le braccia incrociate sul petto si tastava i muscoli che gli doloravano come se ancora costretti in anelli di ferro davanti agli occhi gli biancheggiava la pelle appestata di Attilio e pensava che non sarebbe mai più stato quello che era prima di questa lotta camminava lontano dal chiaro gli stremavano le palpebre la bocca e i ginocchi nervi eppure si sentiva come se mai più potessi avere una tensione nervosa si era spezzato i nervi a stringere le misere braccia di Attilio e sempre davanti agli occhi il biancheggiare di quella pelle per scacciarlo si concentrò a immaginare nel vuoto il corpo della sua ragazza nudo, sano e benefico ma si ricusava di disegnarsi restava una nuvola bianca che si acciungeva ad allargarla alla pelle di Attilio andò al bar della stazione ma non entrò fece segno al barista alta sulla porta e gli ordinò un cognac cognac medicinale se ne avevano mentre aspetta che gli portino il cognac vede spuntare dal vialetto del giardino una giacca gialla e quella ragazza di Attilio cammina molto più ad agio di prima lo vede si ferma a pensare a qualcosa e poi viene da lui guardandolo sempre in terra e con un passo frenato così Carlo ha tempo di studiarle il corpo comunissimo corpo ma che pretende di essere posseduto soltanto da un sano arriva lo guarda con degli occhi azzurri e gli dice con voce sgradevole siete stato buono a non prenderlo a pugni cognac dice il barista dietro di lui lui non si volta e poi sente il suono del piattino posato sul tavolo fuori la ragazza gli dice ancora voi avete già capito tutto non è vero le dice credo che anche voi abbiate già capito che io mi ero sbagliato che vi avevo presa per un'altra il triste è che non ha capito lui lei si torce le mani e guarda basso da una parte lui le dice ancora scusate ma perché lui si è fatto l'idea che c'è uno che vi vuol portare via da lui perché uno c'è uno sano si uno sano abbiamo ragione no lui vuole che io sia come prima ma è lui che non è più come prima e poi i miei non vogliono più adesso come sta l'avete accompagnato a casa si ma sta malissimo ha una crisi la madre di Attilio l'ha mandata a chiamare il medico di corsa ma Carlo vede bene che lei non è il tipo da correre per le strade dove la passeggiata serale è nel suo pieno lei gli domanda dove abita il dottor Manzone non è in via Gavur si al principio di via Gavur la ragazza fa un passo indietro gli ha già detto grazie fa per voltarsi a lui viene una tremenda curiosità tende una mano per trattenerla vuol dirle scusate voi che gli state gli stavate sovente vicino voi glielo sentivate quell'odore ma poi lascia cadere la mano e le dice soltanto buonasera e lei se ne va ad agio prese il cognac e andò via a casa si spogliò nudo e si lavò sotto il rubinetto così energicamente a lungo che sua madre si svegliò e dalla sua stanza gli credò di non consumare tanto quella saponetta che costava cara la notte sognò la sua lotta con Attilio e la mattina all'ufficio di collocamento seppe che l'avevano messo all'ospedale e al reparto infettivi la Germania disse un disoccupato come Carlo di chi state parlando disse uno arrivato allora chi è questo Attilio tu lo conosci io io gli ho sentito l'odore della morte gli rispose Carlo e quello tirò indietro la testa per guardarlo bene in faccia ma poi dovette voltarsi a rispondere presente al collocatore che aveva incominciato l'appello la sua lotta con Attilio la risognò venti notti dopo e la mattina mentre andava ancora e sempre all'ufficio di collocamento si voltò verso un muro della strada per sfregarvi un fiammifero da cucina perché non aveva più soldi da comprarsi i cirini e vide il nome di Attilio in grosse lettere nere su un manifesto mortuario fu la peggiore alzata di tutti i secoli della mia infanzia quando la zia salì alla mia camera sotto tetto e mi svegliò io mi sentivo come se avessi chiusi gli occhi solo un attimo prima e non c'è risveglio peggiore di questo per un bambino che non abbia davanti a sé una sua festa o un bel viaggio promesso la pioggia scrosciava sul nostro tetto e sul fogliame degli alberi vicini la mia stanza era scura come all'alba del giorno a basso mio cugino stava abbottonandosi la tonaca sul buffo costume che i preti portano sotto la veste nera e la sua faccia era tale che ancora oggi è la prima cosa che mi viene in mente quando devo pensare a nausea maligna mia zia lei stava sull'uscio con le mani sui fianchi a guardar fuori ora al cielo ora in terra andai semi svestito dietro di lei a guardar fuori anch'io e vidi in terra acqua bruna lambire il primo scalino della nostra porta in cielo dietro la pioggia nubi nere e gonfie come dirigibili ormeggiati agli alberi della cresta della collina di rimpetto mi ritirai con le mani sulle spalle e la zia venne ad aiutarmi a vestirmi con i movimenti decisi ricordo che non mi fece lavare la faccia adesso mio cugino prete stava girandosi tra le mani il suo cappello e dava fuori sguardate furtive si sarebbe detto che non voleva che sua madre lo sorprendesse a guardar fuori in quella maniera ma lei ce lo sorprese e gli disse con la sua voce per me indimenticabile mettiti pure il cappello in testa perché andiamo credi che per un po' d'acqua voglio perdere un pranzo di sposa madre questo non è un po' d'acqua questo è tutta l'acqua che il cielo può versare in una volta non vorrei che l'acqua ci entrasse in casa con tutti i danni che può fare mentre noi siamo seduti a un pranzo di sposa lei disse chiuderò bene non vale chiuder bene con l'acqua madre non è l'acqua che mi fa paura e non è per lei che voglio chiudere bene chiuderò bene perché ci sono di zingari fermi con i loro cavalli sotto il portico del santuario e anche per qualche altro che zingaro non è ma cristiano allora il prete con tutti e due le mani si mise in testa il suo cappello nero nemmeno lui nemmeno stavolta l'aveva spuntata con sua madre mia zia era era una piccolissima donna tutta nera di capelli di occhi e di vesti ma io devo ancora incontrare nel mondo il suo uguale in fatto di forza d'imperio e di mutabile coscienza del maggior valore dei propri pensieri a confronto di quelli altrui figurarsi che con lei io un bambino di allora sette anni avevo presto perduto il senso di quel diritto all'indulgenza di cui fanno tanto e quasi sempre impunito uso tutti i bambini devo però ricordare che la zia non mi picchiò mai nemmeno dal principio quando per non conoscerla ancora bene non temevo di peccare contro i suoi comandamenti suo figlio il prete si più di una volta mi picchiò facendomi un vero male non si aveva ombrelli ce n'era forse uno di ombrelli in tutto il paese la zia mi prese per un polso e mi calò giù per i gradini fino a che mi trovai nell'acqua fangosa alta alle caviglie e lì mi lasciò per risalire a chiudere bene la pioggia battente mi costringeva a testa in giù e mi prese una vertigine per tutta l'acqua che mi passava grassa e rapida tra le gambe guardai su a mio cugino e verso lui tesi una mano perché mi sostenesse ma lui stette a fissarmela un po' come se la mia mano fosse una cosa fenomenale poi parvi riscuotersi e cominciò ad armeggiare per tenersi la tonaca alta sull'acqua con una sola mano e reggermi con l'altra ma prima che ci fosse riuscito la zia era già scesa a riprendermi poi anche il prete strinse un mio polso e così mi trainavano avanti a volte mi sollevavano con uno sforzo concorde e mi facevano trascorrere sull'acqua per un breve tratto e io questo non lo capivo fosse stato per depositarmi finalmente sull'asciutto ma mi lasciavano ricadere sempre nell'acqua spruzzando io così più fanghiglia e più alta sulle loro vesti nere mio cugino parlò a sua madre sopra la mia testa forse era meglio che il bambino lo lasciavamo a casa perché? io lo porto per fargli un regalo il bambino non deve avercela con me perché l'ho uscito con quest'acqua perché io lo porto a star bene lo porto a un pranzo di sposa e un pranzo di sposa deve piacergli anche se lui viene dalla città poi disse a me non è vero che sei contento di andarci anche con l'acqua? ed io assentì chinando il capo più avanti la pioggia rinforzava ma non poteva affermarci non poteva farci danno a noi e ai nostri vestiti di quanto non avesse già fatto io domandai cauto alla zia dove era la casa di questa sposa che ci dava il pranzo cadilù rispose breve la zia io trovai barbaro il nome di quel posto sconosciuto come così barbari più non ho trovati i nomi da altri posti barbaramente chiamati la zia aveva poi detto prendiamo per i boschi scoccò il primo fulmine detonando così immediato e secco che noi tre resistemmo come davanti a un improvviso atto di guerra comincia proprio sulle nostre teste disse il prete rincamminandosi col mento sul petto dal margine del bosco guardando giù al piano si vedeva il torrente straripare l'acqua scavalcava la proda come serpenti l'orlo del loro cesto a quella vista mio cugino mise fuori un gran sospiro la zia scattò la testa a guardarlo ma poi non gli disse niente lassù i lampi si erano infittiti in quel fulminio noi arrancavamo per un lucido sentiero scivoloso per quanto bambino io sapevo per sentito dire da mio padre che il fulmine è più pericoloso per chi sta o si muove sotto gli alberi così incominciai a tremare ad ogni saetta finì col tremare di continuo dopo un tuono la zia comandò suo figlio su di una preghiera per il tempo una che tenga il fulmine lontano dalle nostre teste io mi atterri quando il prete le rispose gridando e che vuoi che serve la preghiera mettendosi poi a correre su per il sentiero come scappando da noi figlio urlò la zia fermandosi adesso sì che il fulmine cadrà su di noi io lo aspetto guardami e sarai stato tu no madre io la dirò gridò lui tornando a salti giù da noi la dirò con tutto il cuore e la più ferma intenzione e mentre io la dico tu aiutami con tutto lo sforzo dell'anima tua ma palbettava io non so che preghiera dire che si confaccia lei chiusi gli occhi alzò il viso alla pioggia e a bassa voce disse come a se stessa il signore mi castigherà il signore mi darà l'inferno per l'ambizione che ho avuta di mettere mio figlio al suo servizio e il figlio che gli ho dato è un indegno senza fede che non crede nella preghiera e così nemmeno sa le preghiere necessarie poi gli gridò recita un pezzo delle erogazioni e si mosse trascinandomi dietro ci veniva il prete con le mani giunte e pregando forte il latino ma nemmeno io non credevo al buon effetto della sua preghiera perché la sua voce era piena soltanto di paura paura soltanto di sua madre e lei alla fine gli disse se il fulmine non ci ha presi è perché di lassù il signore ha visto tra noi due questo innocente e suo figlio chino la testa e le mani disintrecciate andarono a sbatterli contro i fianchi eravamo usciti dal bosco e andavamo incontro alle colline ma il mio cuore non si era fatto meno greve perché quelle colline hanno un aspetto cattivo anche nei giorni di sole da un po' di tempo la zia mi fissava la testa ora io me la sentivo come pungere dal suo sguardo frequente non reggendoci più alzai il viso al viso di mia zia e vedi che gli occhi di lei insieme con la sua mano sfioravano i miei capelli fradici e la sua mano era distesa e tenera stavolta come sempre la mano di mia madre eppure gli occhi mi apparivano straordinariamente buoni per me e meno neri allora mi sentii dentro un po' di calore e insieme una voglia di piangere un po' piansi in silenzio da grande dovevo solo badare a non singhiozzare per il resto l'acqua errorava la mia faccia la zia disse al suo figlio togli il cappello e daglielo a questo povero bambino mettiglielo tu bene in testa era chiaro che lui non voleva e nemmeno io volevo ma la zia disse ancora mettigli il tuo cappello la sua testa è la più debole e ho paura che l'acqua arrivi a toccarli il cervello doveva ancora finire di parlare che io vidi tutto nero perché il cappello mi era sceso fin sulle orecchie per la larghezza e il gesto maligno del prete me lo rialzai sulla fronte e mi misi a guardare nascostamente mio cugino si ostinava a ravviasarsi i capelli che la pioggia continuamente gli scomponeva poi l'acqua dovette dargli un particolare fastidio sul nudo della chierica perché trasportò là una mano e ce la tenne diceva quanto vedo siamo noi soli per strada non vorrei che lassù trovassimo che noi soli ci siamo mossi in quest'acqua per il pranzo e la famiglia della sposa andasse poi a dire in giro che il prete e sua madre hanno una fame da sfidare il diluvio e la zia calma siamo soli per questa strada perché dal paese hanno inviato noi soli gli altri vanno a Cadilù dalle loro case sulle colline ricordati che dovrai benedire il cibo gli ultimi lampi io li avvertivo per il riflesso giallo che si accendeva prima che altrove sotto l'ala nera del cappello del prete ma erano lampi ormai lontani e li seguiva un tuono come un borborigmo del cielo invece la pioggia durava forte poi la zia disse che c'eravamo che là era Cadilù e io guardai alzando gli occhi e il cappello vedi una sola casa su tutta la nuda collina bassa e storta era di pietre annerite dall'intemperie coi tetti di lavagna caricati di sassi perché non li strappi il vento dalle colline con un angolo tutto guastato da un antico incendio con un'unica finestra e da cui la spioveva foraggio chi era l'uomo che di là dentro traeva la sua sposa e quale poteva essere il pranzo nuziale che avremmo consumato fra quelle mura ci avvicinavamo e alla porta si fece una bambina a osservar meglio chi veniva per dare poi dentro l'avviso stava all'asciutto e rise forte quando vide il bambino vestito da città arrivare con in testa il cappello del prete fu la prima e la più cocente vergogna della mia vita quella che provai per la risata della bambina di Cadilù e mi strappai di testa il cappello anche se così facendo scoprivo intero il mio rossore e malamente lo restituì al prete pioggia e la sposa non altro che questo mi balzò dalla memoria il giorno ormai lontano in cui da una voce sgomenta seppi che il mio cugino il vescovo avendolo destinato a una chiesa in pianura e sua madre non potendo velo seguire una volta solo e lontano dagli occhi di lei si era spretato e lassù in collina mia zia era subito morta per lo stegno e lontano dagli occhi di lei